è britannico e madre italiana sono diventato segretario generale della mia squadra di calcio amatoriale locale adelaide quando aveva avevo 21 anni e ho lavorato come avvocato in australia prima di ottenere un master trasferirmi nel mondo di calcio ho lavorato per più di cinque anni al asian football confederation afc quindi ho aperto la mia società kitching sports che forniva servizi legali e consulenza all'industria del calcio all'inizio di quest'anno primo gennaio ha cominciato la fifa e sono responsabile della divisione di regolamentazione del calcio parlerò di questo nella presentazione e mi scuso in anticipo ma ora cambio la lingua per fare la mia presentazione in inglese di ipotesi the slides sono anche in inglese ho inviato una copia a salvatore da condividere con voi dopo l'assemblea so english now thank you prof i tried in italian as we agreed and now in english mi dispiace a tutti per l'accento australiano è molto strano but i will try my best this is the first time i hear this from anybody so thank you very much i will share the slides now on the screen so please tell me first when you can see the screen i will just find the button to share it is okay share it's come hello you can see no not yet it says it you started screen the screen sharing but it should come i believe it's coming ready so oh i don't know if alessandro can help us in this ah yes yes go ahead you have the the big screen okay yeah okay so uh firstly again in english this time thank you very much thank you very much to the association for the opportunity to present uh about the the new fifa regulations i apologize for speaking in english and not italian uh but i take the time to say italian is not an official language of fifa so this is my escape um not yet not yet um so uh so uh so i will move on uh let's see first of course you know this week we had uh two two pieces of news which were last fortnight very sad for for fifa and also for italian che sono due dei eros dei miei nonno. Credo che per i miei rilassati in Australia, e se avete visto i miei rilassati in Australia, soprattutto i miei di Napoli o Campania, saperebbe che in casa ci sono normalmente 3 cose. Per i miei rilassati, una piccola di Cenacolo, una piccola di Palorossi in 1982, e una piccola di Napoletani, una piccola di Maradona, next to the crucifix. Quando ero crescendo, questa era la realtà per me. Cienacolo, Maradona e Palorossi, è stato un po' di piazza. E questo giorno, questo fortnight è stato un po' di fortnight per noi e per noi, e per FIFU asso. Ovviamente Maradona ha cambiato quando ero in Italia. Paolo Rossi è stato stato un hero di 1982 in la Città, quindi volevo dare un'aspetto a mezzo mentre ero qui, per discutere questi due, So today, very quickly, the agenda, I will discuss these issues, as you can see here, I think just so before I move forward, Prof. Colucci, on the screen in front of you, do you see the full slide or do you see the presentation slide with the presentation and the next slide? Which one do you see, because if it's wrong, you will just separate the slides. So with the Paolo Rossi, different images of Paolo Rossi, but I think we see also now the slide with the agenda. Now we see the major slide is the agenda. The next one. Okay, so let me change the screen. One second, I'm sorry. So here, I will just bring it back so it's easier for you. I'm sorry. I will stop the sharing and I will come back. Apologies for the technical difficulty. I want to give you the full slide. Here we go. So now when it arrives, I can continue. It's coming. It's coming. It's coming slowly. Okay. So here, we will talk today with the agenda on very quickly on a few issues. As you can see here, first FIFA's vision, then the amendments to the regulations, some responses to COVID-19, and some future changes to the regulations, which will come in 2021 and beyond. So, I'm sorry for my laptop being so slow, but we move forward first. For those that follow FIFA, you will know that the president announced his vision 2020-2023 earlier this year, and there was 11 goals included in his vision. And the first goal was to modernize the football regulatory framework. So, my job as the director of football regulatory, of course, no pressure, but the first goal of the president is to modernize this framework. And what does this mean? And this goes back to what Salvatore said in his introduction, where he said, maybe I could explain my role a little bit more. What this means is, when we move to the next slide, again, my screen is freezing, I'm sorry, is many different things, but the main one is to reform the FIFA transfer system. So, in my subdivision at FIFA, I have five different departments, each covering a different element of the transfer system. So, for many of you that have clients in the market, you would deal with our player status department, who manages the dispute resolution. So, here, reform the transfer system. We also have the professional football department, which manages our policy and works with our stakeholders to make changes to our regulations. We also have our enforcement department, formerly known as TMS, which manages the software, TMS software, and ensures that the actions in the transfer system comply with our regulations. And then, we have two new departments this year, one managing our football agent project, and one managing our clearinghouse project, which I'll talk about a little bit later. So, moving forward, amendments to the RSTP. I'm very pleased and proud to present some of these amendments to you. They are very fresh. In fact, I think the people watching this presentation will receive a little bit of a world exclusive, because I have cut and paste from the regulations, which are due to be published today or on Monday. So, you will see a small part of the regulations before they are actually made live. So, congratulations. But, obviously, as many of you know, the FIFA transfer regulations, the regulations on the status and transfer of players were established in 2001, following an agreement between FIFA and UEFA and the European Commission. And there were basically five or six key principles which underpin the transfer system, and you see them on the screen there. Protection of contractual stability, encouragement of training, solidarity between the top and the bottom of the game, protection of minors, competitive balance, and what we call ensuring the regularity of sporting competitions. Now, for a brief history, like I mentioned, in 2001, the regulations entered into force, following five years or so of negotiations after Bosman. And then, a new addition came out of the regulations in 2005, and subsequent to that minor amendments have been made over the years. In 2017, after the election of President Infantino, FIFA introduced the Football Stakeholders Committee, and that Football Stakeholders Committee created a task force called Task Force Transfer System, which is made up of representatives from our core professional football stakeholders. And that task force was given the mandate to modernise the football transfer system. And since that time, there's been several significant changes to the RSCP and the governance of the international football transfer system. So here, there is a basic slide setting up the timeline of the task force, which we can skip. In 2020, obviously, COVID-19 had an impact on the work of the task force and the work of the subdivision in delivering reforms to the regulations. But I'm still proud, among many other reforms, to highlight for you four key reforms, which were adopted by the FIFA Council. The first one I won't specifically talk about, which is the rules governing loans, because for those who work in the market would know that the introduction of these rules was delayed due to COVID, although the language of the rules has been agreed and approved. But the other three elements, specific conditions for female players, a regulatory framework for coaches, and a new exception to the international transfer of minors, were all agreed last Friday, one week ago at the FIFA Council, and will enter into force on the 1st of January 2021 2021. So for female players, the first thing, the first thing to give you some background, and obviously, everyone here is a big fan of football, and knows that over the past decade, the professionalism in women's football has grown steadily. However, FIFA regulations are generic, and have not adapted to properly provide a regulatory framework governing specific labour matters for female players. And of course, what we're talking about here is pregnancy and maternity. So with this in mind, the task force set out some core objectives to determine what the regulations should look like. Those objectives protecting female players before, during and after childbirth, providing them with a safe and inclusive working environment, and ensuring contractual stability. Now, these are basic principles, I would say, which exist in the majority of modern, sophisticated labour laws around the world protecting, protecting females and their right to employment. So the first and most important provision which was introduced was maternity leave. So the FIFA regulations now expressly define maternity leave. So this is your first exclusive, you see the definition in the RSTP of maternity leave. So this is defined as a minimum period of 14 weeks paid absence, of which eight must be taken after the birth of the child. This minimum period of 14 weeks is in line with the standards established by the International Labour Organization, after they made an assessment of, of more than I think 100 jurisdictions. And you can read their report on labour conditions online on their website. In accordance with the regulations, during maternity leave compensation, which shall be paid to a female player, shall be two thirds of her contractual salary. However, if more favourable conditions than the FIFA regulations, for example, the length of the maternity leave, or the compensation payable, are available in national law, or in a collective bargaining agreement, these shall prevail over the FIFA regulations. The second core element, as I mentioned, was the rights of a player, of the female player, when she becomes pregnant. And when you see the regulations, you will see there is a new article called 18 Quater, which is inserted into the regulations, which covers special contractual provisions for professional female players. The first one, if a player becomes pregnant, she has the right to continue providing her sporting services, so training and participating in matches, following confirmation from her treating doctor, and also an independent medical professional, that it is safe to do so. The club must accept this decision. Second, the player also has the right to provide her employment services in another manner, so if her doctors and the independent medical professional inform her that it's not safe for her to continue, or if she just chooses to provide services in another manner, she has the right to do so. And her and her and her club must agree on the type of alternate services, whether they are sporting in nature, such as acting as an assistant coach, a scout, videographer, or in another way. During this period, the player shall receive full compensation, and the club has to respect her decision. And third, which is very important, the player also has the right to independently determine, she has the choice to determine when her maternity leave will start. So, this means she can choose that the maternity leave starts as of the date of the birth of her child, or prior to the date of the birth of her child if she wishes to take some time before that occurs. As we all know, pregnancy and maternity is not a fixed timeline. Pregnancies can happen, maternity and childbirth can happen very quickly, without parents knowing, children are born early, children are born late, due dates are not calculated correctly. So, it's important that the individual who is at the centre of this particular issue has the right to make that choice. Clubs that pressure players to take their maternity early will be sanctioned if reported to FIFA. After the maternity leave is completed, much like in many jurisdictions around the world, the player has the right to return to her football activity and be reintegrated by her club. If necessary, the club will also be required to provide adequate ongoing medical support and assist the player to return to full fitness as soon as possible. Similarly, when the player does return to football activity after maternity, she has the right to receive her full remuneration, her full compensation, guaranteed under the same conditions of her contract before she went to maternity leave. And she also has the right to safe environment. So, what this means, at least in FIFA regulations, is if the player has to breastfeed her infant or express breast milk during training times or for matches, for example, the club has an obligation to provide some safe and suitable facilities for the player. When it comes to player's contract, the validity of a contract, as many of you know, the validity of a contract in the regulations is not subject to any administrative measures such as a visa or work permit or an injury. That has been extended now to also covering the situation where a player becomes or is pregnant, takes maternity leave or uses any rights related to maternity. A contract cannot be subject to these matters as a question of validity. Second, a contract cannot be terminated on any ground related to pregnancy. If a player is pregnant and the club has unilaterally terminated the player's contract, there is a presumption in the regulations that the termination was made due to the player being pregnant and the club has to rebut this presumption. There are significant sanctions for clubs, both financial and sporting, that terminated contract during the pregnancy period. So, if you are advising clubs on these types of issues, I stress, please look into these regulations closely. Finally, there is a new exception to allow players to be registered outside of a transfer window. And so I should say female players to be registered outside of a transfer window in two cases. One is to replace a player that has taken maternity leave. Or two, if a player has completed maternity leave and for whatever reason is not registered, either because their contract has expired or they were deregistered by their club. That player has the right to be registered outside of a transfer window at the Federation accordingly. The second core amendment, as I mentioned, related to coaches. And just to give you some background, all of those in the market would know, of course, historically FIFA has regulated players only. And coaches are only recognised in the regulations for the purposes of dispute resolution. So, when the task force set out to regulate coaches, two objectives here that are being met. The first is to provide a minimum regulatory framework for coaches that allows them to have a higher degree of certainty in their employment relationships, either with a club or with an association. As you know, coaches have a direct employment relationship with football associations. And secondly, to allow the FIFA judicial bodies to have a regulatory basis to settle the disputes involving coaches and their employers. As many of you know previously, the regulatory framework for coaches was non-existent. So, when it came to the resolution of disputes involving coaches, there were a number of different issues which those who are lodging cases before FIFA faced when it came to things such as applicable law, legal principles, etc. So, again, exclusive, annex 8 is where the coach regulations will be found. The official title, as you can see, is Rules for the Employment of Coaches. And these rules, as I say on the screen, apply to contracts between what we call professional clubs and coaches, or associations and coaches, and involve football or futsal coaches. So, in this regard, there are two new definitions in the RSTP. The first is of an amateur club, or purely amateur club, and the second is of a professional club. So, the definition of a professional club is any club that is not a purely amateur club. And the definition of purely amateur club, you can read in the regulations when they are published tomorrow. But you can see the types of relationships we are trying to capture when we regulate the employment of coaches. The most important part of this regulation is the definition of a coach. As many of you know, when you have an international dimension to a dispute between a coach and a club or a federation, there is a question of, is my client a coach, yes or no? So, I've highlighted here, underlined in red, the core elements of the definition. First, the coach is an individual employed in a football-specific occupation. That's one core element, football-specific occupation. The second is the duties of that individual employed in the football-specific occupation consist of one or more of the following. And you can see on your screen the basic duties which all coaches undertake. training and coaching players, selecting players for matches and competitions, making tactical choices during matches and competitions. Or, and, but, or, if that individual in a football-specific occupation, their employment requires the holding of a coaching licence in accordance with a domestic or continental licensing regulation. So, here, it's important to note that if the licensing regulations of the National Federation or of the Confederation, for example, UEFA or AFC, they have a mandatory position which is required for licensing reasons in the coaching staff, and that position requires the holding of a football coaching licence. So, we're not talking about, for example, a certificate granted by a university on sports management or a fitness course. We're talking about a licence which has been issued by FIFA, UEFA, Football Association, etc. Then they also fall within the scope of this definition. So, the types of individuals that may be able to use the FIFA jurisdiction to resolve their disputes in the future would arguably have expanded slightly than previously. Other matters covered by the regulations are exactly the same as for players. So, coaches will now be subject to principles of contractual stability. There are rules governing the termination of a contract, very similar to, and the consequences for such termination, very similar to Article 17, but separately for coaches. And there are also, for those that have represented coaches before FIFA would be very pleased. There are also now rules relating to overdue payables, covering coaching contracts, and execution of monetary decisions. So, for those that have represented coaches before FIFA would know that players have had the opportunity under Article 24b of the regulations to request consequences be enforced against the creditor. That's now been extended to coaches, and you'll find those specific rules in Annex 8 when it's published, I hope today, but just in case, on Monday. Miners. So, this third reform this year was inspired, as the background shows, in part by Brexit. So, as we all know, the United Kingdom is leaving the European Union, and obviously the international transfer of minors to the associations within the UK is no longer subject to the exception which exists for the European Union or the European Economic Area. Now, being one country but with four associations, we faced what we would call almost an absurd situation where an individual is not allowed to transfer within the same country based on a rule of FIFA. So, in that sense, there was a potential legal uncertainty, there was also a legal issue on the basis of discrimination or restraint of trade under English and Welsh law, Scottish law, etc. Regarding the movement of a 16-year-old player from, for example, Glasgow to London. So, in this respect, the task force looked at the international transfer of minors in a very narrow spectrum and decided to introduce a new exception relating to countries where there are more than one association on the territory, with the UK being the most obvious example because there are four associations on the UK. So, the wording of the regulations here, and again, you have the new wording as a world exclusive. You see here, Article 19.2b, the transfer takes place between two associations within the same country. So, for those that have facilitated before the international transfer of minor players within Europe, know that when a player is between 16 and 18, the new club, the club which is signing the player or registering the player, has to meet minimum obligations relating to the player's schooling and accommodation, for example. And these same minimum obligations will apply to the second exception under this paragraph B. So, the transfer of a player from Glasgow to London will be subject to the same minimum obligations as, for example, the transfer of a minor from Paris to Berlin. However, this does not mean, and I just stress and clarify, this does not mean that clubs domiciled in the UK in one of the four associations are still able to utilise the paragraph above the exception relating to the EU. So, this is not possible because the United Kingdom as a country has left the European Union. So, what we are talking about here is strictly transfers between associations inside the same country. So, that was a basic 10-minute update on the key amendments. And when the regulations are published, I'm happy to take any questions on any of the wording that comes on those regulations when they are available publicly for everybody. And you can filter those through Salvatore Prof. Colucci. But now for the last 10 minutes, I would just like to highlight very quickly FIFA's response to COVID-19 and also what we are intending to do in the future. So, as we know, the pandemic had a significant impact on football, both financially and from a sporting perspective. Obviously, Italy had a significant impact and really, to be honest with you at FIFA, when we first realised the seriousness of the pandemic from a global perspective was when was when the Serie A cancelled four matches, I believe, at the end of February. And we realised that this was not just something which would be contained within one or two areas of the world, but really would be a significant issue for all of the world. Directly after that weekend in Serie A was a women's international window and then came a men's international window for national team matches. And we realised very quickly that there were significant health and sanitary concerns for players who were travelling abroad to participate in national team matches. So, and on the other side, of course, there was a number of economic and financial issues related to the pandemic. And FIFA felt an obligation to step in quickly and discuss and provide guidelines to all of the stakeholders globally on employment and transfer matters. So, very quickly on the release of players. And these documents are available online. The circular is linked in the presentation. So when you receive it afterwards, you can go back and read the circular. But in March of 2020, we first passed a decision prior to the men's international window, which covered both the men's window in March and the women's window in April, and then also the men's and women's windows in June, where there was another decision later to extend this decision, which effectively said clubs are not obliged to release their players. So this was one of the very few times where the rules which exist and provide the balance between club football and national team football, that these rules were suspended, and these rules were suspended on health grounds. So clubs were not obliged to release their players, and if a player decided to reject the call up, they were not, they were not going to be sanctioned in that case. Subsequently, we had recent windows in September, it was a European window, and from October until now we had windows in all of the confederations and I'm not going to read the slide to you. But for those who work in the market, you will, you will all recognize the language, but effectively, after six months of dealing with the pandemic and providing mechanisms to at our best protect players coaches and everybody involved in the international in the international game. It was decided, it was decided to provide specific rules whereby if there was a quarantine or if there was a travel restriction of at least five days for quarantine or any type of travel restriction, either at where a match was going to be played or at the location of the club, then it's not obligatory for the clubs to release players to national teams. In other cases, in other cases, the rules apply as normal, and the clubs had to release the players. And yes, there were some cases of COVID-19 and there was arguably some breaches of protocols which have, you know, gone through the necessary disciplinary processes now. But ultimately, the new release rules allowed for a safe return to international football, and we saw World Cup qualifiers and European qualifying matches played and continental qualifiers and other confederations played across the world successfully. For unemployment and transfer matters, for those that know, we issued two documents this year, so if you have any players of international dimension, or any coaches with an international dimension with their club or association, and there is an issue relating to COVID-19 in their contract, or there is an international transfer, and there is an issue relating to COVID-19, you have first FIFA guidelines on COVID-19 issued in April. And then subsequently in June, we issued frequently asked questions. And in this respect, Prof Colucci, as a member of the dispute resolution chamber, has had to, I'm sure, deal with these types of questions when deciding cases that have come before his body involving COVID-19. Prof Colucci, just to be very quick and clear, what our response covered was three main items. The first was contracts that were expiring. So if you remember, this crisis happened in first in February and March, and the end of the season for much of the world was happening in May and June. So there were many contracts which were finishing, and also new contracts which were meant to start for the next season. So we made some recommendations about when contracts should start and when they shouldn't start and about extending contracts. Second, we talked about, we made recommendations about the situation where contracts could not be performed because of COVID-19, whether that is due to force majeure, or otherwise. And we made some recommendations about collective bargaining, and what is reasonable for a club to undertake as a unilateral variation of a contract. So in that respect, so in that respect, I won't get into the detail. But if you have any questions about that, feel free to ask me later after you've read that document. And the third element, as mentioned, was the appropriate timing for transfer windows. And we basically created complete flexibility for associations to set their transfer windows for this season, now 2021, and also for the end of last season, 1920. As long as they complied with the maximum duration of 16 weeks. So as you know, there is normally a window of 12 weeks and a window of four weeks. So as long as the 16 weeks is complied with, generally, associations can set their windows. We also made another, a number of other minor, what I would say are minor amendments to the regulations on the basis of COVID-19. But the most important one for you as lawyers, if you're advising players or clubs is this one at the bottom. That for this season only in 2021, players may be registered for and play for three clubs during the season. I suspect that at the start of the next season, this will revert back to the usual register for three and play for two. But I can't predict what the outcome will be of the council, but these were some of the other amendments that were made. Finally, let's talk about the future of the football regulatory framework and I'll cover three, three particular topics here. And I know that there's going to be a discussion later this afternoon on agents. So I, I think I saw that on the agenda, so I won't talk about this too much. But as you know, FIFA, after deregulating football agents in 2015 and introducing intermediaries, is now looking to reintroduce regulations governing football agents. On your screen, you see the financial numbers based on our most recent publication, the intermediaries report 2020, which was issued approximately 10 days ago. And this covers the period for 2020 from 1st of January until 1st of December. So there's still one month left of 2020, but more or less the, the, there won't be that much transfer activity this month. As you can see in, in 2020, the amount paid to football agents by clubs. So here we are only talking about clubs and also only talking about the international market. We're not talking about a domestic transfer for Juventus and Fiorentina, for example, we're talking about international transfers. Agents were paid 496.2 million US dollars in 2020, despite the pandemic. Now, our transfer system statistics, I don't have them in these slides, but you can see on the screen there, a transfer compensation between clubs internationally dropped by a certain amount. And the agent service fees dropped by about the same amount, which demonstrates that the fees paid to agents more or less stayed the same from a percentage perspective. And you can even see on the screen, despite COVID-19, the only two years which have had a higher amount of commissions paid to agents than 2020 are the previous two years, 2018 and 2019. When we talk about regulating agents, there were five key principles, which were adopted by the FIFA Council. And those are on your screen. I won't read them out. But I'll give you an update on where we are on this process. So right now we have just finished receiving feedback on the third consultation process. Our regulations were shared with 23 different organizations, including Fiji Chief. So they were shared with football associations, FIFA, European Club Association, World League Forum, Confederations, and most importantly, key agent organizations representing more than on the basis of their numbers, more than 2000 agents, but the top agents globally. And that feedback has now been received more or less from all of those groups. And we are now going through all of that feedback. We will make amendments to the draft regulations, and then we will go back to those stakeholders and send them a new version of the draft on the basis of the feedback that we have received. We hope that the regulations will be passed in 2021 with the intention that the new system will hopefully be ready to go as of the 1st of January 2022. And by new system, I mean the obligation for any person involved in a transfer that is providing football agent services, the obligation to hold a license issued by FIFA. The next project that you have all no doubt heard about is the FIFA Clearinghouse. So the FIFA Clearinghouse is going to be an intermediary payment service provider. What that means is for any payment within the football transfer system, it first must be made to the FIFA Clearinghouse, who will then make the payment to the party that is meant to receive that payment. We are starting the Clearinghouse with training compensation and solidarity mechanism. The reason why is on your screen. In 2018, which is the last year I have the data, according to TMS, there should have been 351.5 million US dollars paid in just solidarity mechanism. However, when you look at the actual amounts declared to FIFA of both solidarity mechanism and training compensation, it was only approximately 90 million US dollars that was paid. So in that respect, there's more or less 260 million US dollars of training rewards, which should have been paid to those training clubs that help form the professional players that you and I watch play every Sunday or represent potentially in cases. The next slide is very technical, so I won't explain it and you can look at it after the presentation is finished, but effectively, the way it works is a transfer will still happen through FIFA TMS FIFA TMS will undertake a process with the member associations and the relevant clubs to clarify the registration data of the player. And then TMS will send what we call an invoice and allocation statement to the clearinghouse, which will then ask all of the relevant clubs that are required to pay money or receive money to undertake an assessment. After that assessment, after that assessment is completed, then the money is paid by the new club to the clearinghouse and the clearinghouse pays it to the training clubs. I know that's very technical, but the same it's intended in future that the same system will ultimately cover fees paid to agents and subsequently other types of fees which exist in the football transfer system. We hope that the clearinghouse will be ready by the first of July 2021. It was originally meant to be ready by the first of January. However, because of COVID-19, we had some delays and also the licensor. So the Dutch central bank, because the clearinghouse is going to be a foundation established in the Netherlands subject to EU financial regulatory laws. The Dutch central bank is also a little bit slow to work on the license application because of COVID-19 and also because of Brexit. Finally, the third big change which you will see in 2021 is to the training compensation system. So earlier this year in April, the FIFA Council adopted what we call the compromise proposal, which was a proposal agreed by FIFA Pro European Club Association and World League Forum regarding training compensation. I won't read out all of the different elements to you on the screen, but effectively three key things to remember. First, the way that transfers will occur in future will now change. In this respect, any international transfer which has solidarity mechanism payable, there will be an additional 1% levy. So it's point number two, additional 1% levy on top of any transfer compensation. And that transfer, that transfer levy will be installed in a training fund, which will help pay part of training compensation. The second key point is that each club from a global perspective will now be categorized individually. So no longer will every club in Serie A, for example, be given the same category, or every club in Serie B be given the same category. Each club will now be categorized by its member association on an individual basis. Right now, we're still working out the criteria for what this means, but it will be published shortly. And the third point is one which I think all of you will be interested in. As you know, for training compensation, there are specific rules regarding the European Union and European Economic Area. Those rules will now be applied on a global basis. And again, we are just finalizing the status of those rules. Where we are with training compensation, draft regulations have been prepared. Our stakeholders are negotiating the final elements of these regulations. It's anticipated that they will pass the FIFA Council in either March or June. And then the new system will start as of the 1st of January 2022. And the collection of the extra 1% on transfers will start as from the 1st of July 2021. Finally, our, despite all of this, the task force transfer system is still identifying other matters, looking at the mandate of the president to modernize the transfer system. And these four topics you see on the screen, fiscal regulations, minors, so not just a UK issue, but minors as the whole system. Squad sizes and transfer windows, registration periods. These are on the agenda for FIFA to analyze and decide whether the specific rules need modernizing or amending for the future. So, last thing for me, publications. And I apologize again, Salvatore and Prof, that they are only published in English, Spanish, German or French. But this year, we have published in 2026 different documents which have covered the activities of our department or subdivision. So, you can see those on the screen. And then next year, I'm very proud and very happy to announce that in the start of the year, we'll be publishing the new commentary to the regulations on the status and transfer of players. It's the first time in 15 years, the drafts are ready to go. And they just need the director, who is very slow, to finalize all of them. It's approximately now 400 plus pages. So, I apologize in advance. And second, next year, in January, we will publish a commentary on the rules governing eligibility to play for national teams. So, whether James Kitching is still eligible to play for Lizzuri or for Socceroos in Australia, or even if I'm eligible to play for England after my father. We will publish for the first ever time a full commentary on these rules as well for the benefit of stakeholders and also lawyers who advise the stakeholders. And the general public. Allora. Grazie mille. A voi. Thank you for your time. I apologize for the English and the accent and the technical problems. I actually was going to say this in Italian, but instead I'll say in English. But last year I was in Napoli and I had an amazing host in Salvatore for two days. And Salvatore knows that my mother is a teacher of Italian and French at the local high school here. And after being with me for a few hours, he said, James, your mother is a teacher, right? And I said, yes. He goes, James, she has a lot of work to do. So, I promise soon it will be improved, but thank you very much. I see lots of questions. Yeah. Yeah. James. I'll give it to you, Salvatore, if I answer now or maybe after. Up to you. Yeah. No, I would prefer that you answer now, but I would also like to give the floor to our members who made the questions. So, let's start from Andrea Bozza. Andrea, can you open your video in your micro, please? Here I am. Hi, Salvatore. Hi, James. Here I am. We don't see, we hear you, but we don't see you. It's best that you don't see me, but I will also. Very good. Go ahead. Okay. Here I am. Here I am. Hi, James. Nice to see you. On the, on the, my question was relating to the new rules on coaches that are very welcome and are to be welcome because my view, they represent a massive, massive modernizing tool, massive modern and much needed and long awaited regulatory framework for coaches. Now, I don't know if you mentioned that I might have skipped in which case apologies. Do you think the rules will also shed light on whether coaches can be assisted by agents in their negotiations? And if so, what, I mean, what's the idea behind that? Do you think that also agent regulation will need to be amended accordingly? Will you expect the national implementations in that regard? And I guess the answer is yes. I think it's not an important element. Thank you, James. Very important. Yes, indeed. I didn't mention, so thank you for the question. It's a good opportunity to, to publicly say this. The first, the annex eight for coaches expressly states that exactly like players, if an agent is involved in the transaction, his name or her name must be in the contract. Exactly like players. So you can imply from this that, of course, coaches can be represented. But the second point, which everyone will remember that has worked in this space before, before FIFA had player agent regulations. The new regulations are not player agent regulations. They are football agent regulations. And the regulations define who the clients can be of a football agent. And this includes coaches, because obviously this is the reality of the situation. Agents don't just represent players. They don't just represent clubs. And in the football agent regulations, the draft now also refers that, of course, associations maybe has an agent to help them find a coach. So associations are also a client. And also in some cases, in some countries where they have a very specific system, the league might also be the one managing the transfer activity. And so a league might also engage an agent to help. So in this respect, definitely we have anticipated that coaches are able to be represented. But of course, as you know, coaches, the transfer of coaches does not occur similar in a similar way to the transfer of players. It's not managed throughout TMS system or any other type of system. So in that respect, in that respect, there's no obligations with respect to those systems. But yes, is the answer to your question. Agents and coaches is a yes. And also in the football agent regulations. Thank you, James. Thank you, Andrea. Thank you, James. I give you now the floor to Lucia Bianco. Please, Lucia, can you open your microphone? We are a little bit on delay, but I'm sure that we will proceed smoothly. Thank you. Thank you. And hi, James. And I'm very, very glad to know you also in this modality. So many congratulations for your report of today. Just a little question for you. If you can tell us when the new football agents regulations will come into force. If you can tell us. Thank you so much. Grazie mille. Buongiorno. Un risposto di un avogato dipende. We are now going through the consultation process. And in an ideal situation, they would be passed by the Feast for Counsel in the first part of 2021. but this depends on the process that we are undertaking with the stakeholders the current draft which I think has been shared publicly because I know many people that have a copy but the current draft anticipates like I said that the system will come into force on the 1st of January 2022 however again this depends on this depends on the timing so I hope that we pass the regulations in the early part of 2021 which will give enough time for agents, players clubs, coaches to adapt to the new regulations 8, 9, 6, 7, 8, 9 months and to obtain the license to be an agent but if they are delayed for whatever reason then the start date of the license will also obviously be delayed so I'd say watch this space thank you so much thank you Lucia thank you James now I go to the floor I give the floor to Ida Linda Retano for a quick answer and then a quick quick question and a quick answer from James hi everybody can you hear me? yes yes go ahead please okay thank you so much James for your presentation I've been following really really with big attention also shared with colleagues and there are a lot of questions I only wanted to ask you something to not see your time to the others which is really important I've also talked about this with a colleague Andrea just told about the the condition I wrote the question about the condition to recognize and add the homologation of the title of agent in a federation for example if I'm I had the license of agent in a federation and I wanna practice and make my deal and work in another federation for example in Italy we have a brand new regulation you just say you consider it I was just asking to myself if you have noticed something which is uncomfortable with the European law about the and all these kind of rules that can make a stop too big for an agent to travel all around Europe for example and besides on the international level thank you grazie again a great question it's my pleasure actually I'm sorry I have to say the last two from Bianco and Raytano two of my close friends in Adelaide have the same family name so it's amazing actually to see that but on your question there's three things to consider the first is what we are intending to introduce is a global license FIFA license so a license which is issued to an agent domiciled in Italy is equal to a license which is issued to an agent domiciled in Mongolia the conditions for obtaining the license will be the same and the rights and obligations of the agent will be the same the second point is we also recognize that in some countries there is a national sports agent system which exists pursuant to national law and we provide in the draft a recognition system of this national sports agent system if it meets certain conditions which we would like to see being met minimum standards that's the second point so for example as you might know France and Belgium have recently introduced strong national laws with respect to sports agents and I know in Italy as well of course as well and then the third point is in our regulations we also provide the opportunity for associations to introduce their own regulations at national level which may be stronger than the FIFA regulations and in this respect the national regulations must be confirmed by FIFA before they are introduced but in effect the license for the agent will be a global license issued by FIFA not by the association and and the rights and the obligations will be equal now there has been some feedback from some parties in the negotiations so far about certain conditions for working in certain countries because the domestic football regulations are very particular and I think that's good feedback and we will look into that when we amend the next version so whether that might mean if someone with a global license has to do an additional course or speak a certain language or whatever it might be but that's just feedback right now and we'll see what that means in the next stage of the regulations thank you James thank you James I'll give the floor now to Mario Vigna what's up James I'll see you I'll just it's not a okay now the camera is on it's a it's a pleasure to have listen to you explaining all these reforms my question is very specific about the provision of multiple representation you said that the same age I suppose that it means that the same agent cannot represent the club and the player in the same transaction that actually is the negotiation about employment agreement of the player but as everybody knows players agents or coaches agents are usually hired by the players and the coaches but at the end of the day they are paid by the clubs and this could lead to tax issues at national level because very often clubs pays commissions for activities that are not actually rendered on their behalf to their interest but sometimes this is cured in a certain way through an agency agreement between the players agent and the club related to the transfer agreement of that player so my question is can a players agent represent a club a transferee club in the transaction between the transferee club that is that it will be his or her next employee employer and the seller club the transfer club so if I understand correctly you're asking if the current regulation draft allows an agent to represent the two clubs exactly exactly okay so right okay so the principle which was adopted by the FIFA council which is the basis for what we have drafted the regulations basically provides for representation that multiple representation is prohibited except in one circumstance and that's where the agent is representing the buying club and the player in the same transaction so an agent cannot represent all three parties in the transaction an agent cannot represent the two clubs in the same transaction and the agent cannot represent a player and the selling club in the same transaction however like I said before this is what the current draft regulation says this is based on the principle adopted by the FIFA council and we have had a lot of feedback on this issue from many of our stakeholders so I can't predict whether this will be the final outcome of the process but right now as it stands the decision of the FIFA council that was the decision of the FIFA council in October 2019 in terms of the principle on representation okay thank you very much thank you James we go now with Rolando Favella Rolando please open your micro hi everybody hi James nice to meet you I'll be very quick so Salvatore will be happy forget the mask I'm not alone in the room just a short premise I'm the lawyer of a club in Serie A and we had a case of a player that after a match with his national team come back here to Italy infected to COVID-19 and then he has infected other players so it's not a provocation what I'm going to say but I just want to know first of all if the FIFA club protection program can be applied to such hypotheses then if it's we can imagine to discuss about a reduction of the 28 days grace period that in case of negative answer make such program not applicable to the COVID cases and then this is the real provocation if that program can be applied also to not the direct players that have played with his national team and have been infected but also to the and direct players so the players of the team that has been infected by the coming back player ok come si dice in italiano senza pregiudizio mio risposto anche la mia domanda è senza pregiudizio ok perfect look to be clear I would say that for a start our rules and regulations in relation to club protection and player salary obviously didn't factor a global pandemic this was not part of the insurance scheme that was agreed by FIFA for the club protection program the club protection program itself only covers a player that has a bodily injury so who gets injured on the field shoulder is dislocated or broken leg or something similar like this so the concept of an illness doesn't cover the club protection isn't covered by the club protection program and to answer your provocation it also is a personal injury that's covered by the club protection program so in this respect I think that covers all of the elements unfortunately for you the regulations do say that clubs that release players are responsible for insurance if the player obtains an illness while traveling for national team duty and at the moment that is what FIFA considers covers the situation where a player is ill or contracts COVID-19 whilst attending national team duty however again like I said at the start of my presentation we are looking at the modernization of the football regulatory framework and we have learned many many lessons this year from the pandemic especially so I think when it comes to these issues they will be hopefully addressed in the next round of negotiations with the insurance companies as well as in our regulations I can't guarantee anything of course but I think we have other scenarios we can look at and potentially work on but the answer to your questions was basically no I'm sorry okay thank you James I wrote in the chat that there was no time for new question but actually we got a question from one of the speakers of the next webinar so we will cut the timing of this question from his time for the next speech so please Vittorio open the video and hello hello everybody it's always a pleasure to hear about the FIFA implementing new measures and also adopting proactive approach in order to improve football worldwide in Italy as in respect of intermediaries of agents in Italy we have a lot of problem when the Italian national regulations have are applied to foreign agents do you think that FIFA might consider to reintroduce a set of rules that are not only principles that are then applied internally by the single federations but that are also a substantial set of rules let's say a regulation not only a directive in order to provide to those international agents the possibility to act in accordance to FIFA rules because the everyday experience is that it's quite difficult for those agents to comply with the specific regulations that unfortunately although they should be inspired to the same FIFA set of rules then in practical terms sometimes they are quite alike five years ago when we decided to deregulate the industry and not provide a global regulatory framework because what has happened is exactly as you described there are from one country to the next one association to the next different rules different requirements different issues and it makes the system very difficult for enforcement so that's why we've decided to reintroduce the global standards and global rules global requirements rights and obligations FIFA will still only handle matters of international dimension for disputes for disciplinary matters FIFA will also handle international matters but also retains the power to open disciplinary investigations and potentially sanction in cases of domestic nature if the federation doesn't take action within I can't remember exactly in the draft it might be there's not a time limit but if they don't take appropriate action or the action cannot be anticipated because maybe there is a conflict of interest or something like this but FIFA does have that power and we are committed while introducing the new system to also introduce an enforcement system because there's no point introducing rules and then not enforcing them one thing I can share is under the old system FIFA never once sanctioned a club or a player for using an unlicensed agent and we knew that the way the market worked before 2015 of course there were many different mechanisms to use unlicensed agents but there was never a strong enforcement push that will change now we are serious about this and we will ensure that that matches also the regulations so I hope the things you have talked about there will be a small transition between the old system and the new system obviously whereas everyone becomes aware of the new rules but I hope that we can remove those situations you talk about if a French agent comes to do business in Italy it should be no different from him doing business in France or Switzerland or Spain or England or America or even Australia if he wants to that's the intention we'll soon find out the reality we'll see thank you very much thank you grazie james io ti ringrazio da cuore per questo tuo intervento per il tempo che ci hai dedicato abbiamo avuto una media di 130 presenti qui in diretta su zoom e via facebook e oltre 1200 visualizzazioni temporanee 29 condivisioni 29 sharing della diretta sono sicuro che molti altri ti ascoltriano grazie mille e soprattutto turn really sorry to keep you awake until this time a mio caffè go to bed go to sleep good night and dream agias grazie no grazie salvatore grazie all'associazione per tutti today and all the best for the general assembly thank you James ciao ciao ora vorrei tanto che in nostro segretario generale alessandro coni prendesse le redini dei due webinar che seguiranno purtroppo siamo un po' in ritardo sulla scaletta ma sono sicuro che alessandro poi giammaria e poi successivamente daniele saranno in grado di procedere speritamente grazie mille allora diciamo che con la domanda di vittoria abbiamo un po' svelato il prossimo la prossima sessione di lavori visto che siamo in ritardo come tu dicevi lascerei subito la parola a Gian Maria in modo che presenta i redatori e così procediamo con i lavori eccoci qui grazie buongiorno a tutti diciamo che l'intervento di James soprattutto per la parte agenti ha evidenziato tutta una serie di problematiche che ci sono sul tema e noi oggi abbiamo la fortuna di poter avere due ospiti importanti che ci parleranno della situazione diciamo italiana perché come saprete il regolamento FIGC che è intervenuto dopo il regolamento CONI e nell'ambito del sistema agenti c'è a mio avviso una situazione in cui manca un po' di certezza e cercheremo appunto di affrontare degli aspetti grazie appunto all'intervento di Vittorio Rigo che è uno dei più importanti avvocati che seguono agenti e che seguono trasferimenti e che potrà a mio avviso essere fondamentale per chiarire quello che è il problema degli agenti stranieri che operano poi in Italia ovviamente il mercato del calcio è un mercato globale quindi l'agente straniero sia esso comunitario extracomunitario sia stabilito sia domiciliato ecco in relazione al regolamento agenti coni e in regolamento e in relazione al regolamento agenti FGC si pongono tutta una serie di problematiche che non sono di facile risoluzione poi avremo l'intervento anche di Mauro Garau che è vicepresidente degli avvocati calcio il quale ci evidenzerà la patologia della situazione che può venersi a verificare tra società e agente cioè la tutela del credito a favore dell'agente sportivo ed è opportuno sapere che la situazione legata al pagamento dei compensi a favore dell'agente diciamo che la regola è il ritardo nel pagamento quindi la patologia del problema è una costante e quindi Mauro ci spiegherà e affronterà proprio i rimedi che sono riconosciuti agli agenti che si trovano in situazioni di questa natura quindi io passo immediatamente la parola a Vittorio e lo ringrazio per la sua presenza e per il suo intervento grazie grazie Gianmaria grazie delle parole spese proprio vista il tempo che ora non ricordo non so Gianmaria quanto sia il tempo a disposizione ma casomai intervieni tu mi blocchi sì vai vai tranquillo abbiamo 45 minuti ce li abbiamo un tempo per avere un po' di tempo eventualmente di rispondere anche a delle domande specifiche io mi richiamo all'intervento di James a parte che confesso e ammetto la profonda invidia per James e per il fatto di essere in una posizione dove sostanzialmente avete visto con qualche slide ci ha anticipato dei temi incredibili interessanti modifiche capaci di incidere in maniera importante sulla vita di quantomeno di molti dei nostri clienti o comunque molte società molti calciatori e credo che sia una una posizione affascinante da questo punto di vista come credo sia affascinante la posizione di qualunque soggetto abbia poi il potere di creare il diritto quindi possiamo essere noi quando redigiamo un contratto di fatto per fortuna il nostro ordinamento da gli individui questa possibilità di regolare giuridicamente i rapporti ma credo ancora di più quando si tratta di una norma di carattere generale quindi il legislatore federale che ha questa funzione e anche questo privilegio come tutti i privilegi comporta anche degli obblighi delle responsabilità degli oneri allora io mi chiedo sempre al mattino questo signore ideale che si sveglia e che può scrivere la legge e quindi farà una riflessione e la prima riflessione che io farei partendo proprio dalla base è una riflessione di carattere pratico cioè prima di entrare a leggiferare a regolare un settore io insomma mi vorrei credo conoscere praticamente quelle che sono le esigenze di quel settore cioè mi nasconderei nell'ufficio di un segretario di un club sportivo e ascolterei quali sono le problematiche oppure spenderei una giornata con un agente e lo accompagnerai nelle sue attività per capire e per renderci conto veramente in concreto di che cosa stiamo parlando perché il sospetto il dubbio è che alcune norme o alcuni approcci siano proprio dettati semplicemente dalla non conoscenza della realtà e non posso non fare riferimento alla questione della tempistica il timing in molti settori e soprattutto nel nostro settore è fondamentale lo è anche nel gioco del calcio come sapete la tempistica di un'entrata di un intervento di un passaggio è fondamentale il timing in questo caso significa adattare anche il complesso normativo a quelle che sono le tempistiche dell'attività di un agente sportivo e di una società e di un calciatore il timing significa le due finestre di mercato che tradizionalmente adesso salvo la pandemia e modifiche caratterizzano il mese di gennaio e i due mesi estivi di luglio e agosto quindi abbiamo un periodo limitato per svolgere l'attività tipica dell'agente questo se noi lo confrontiamo con quelle che sono le indicazioni sulle tempistiche di registrazione di un agente che vi ricordo che nel regolamento CONI è previsto 30 giorni in quello FIGC è come modificato lo scorso venerdì 20 giorni voi capite che la registrazione di un agente che in Italia richiede un doppio passaggio prima federale e poi al CONI se le due istituzioni sommano un periodo massimo consentito per rispondere a un soggetto che chiede di poter agire legalmente come agente avendone evidentemente il titolo realizzando le condizioni delle norme potrebbe richiederci 50 giorni questo vuol dire è un aspetto se volete marginale ma è significativo a mio parere dello scostamento tra quella che è la realtà del settore in cui operiamo e quella che è forse la percezione di questo settore nelle stanze del legislatore federale io non vi parlo della necessità di utilizzare la PEC e quindi la trasmissione elettronica dei documenti che è ovviamente un passo avanti rispetto alla trasmissione a mezzo posta piuttosto che via fax quindi è sicuramente un passo avanti ma voi potete capire che la PEC è un qualcosa sconosciuto al di fuori dell'Italia quindi anche qui alcuni passaggi sono come dire così singolari su quello che può che potrebbe o che dovrebbe fare il legislatore federale e su quello che invece poi ci troviamo a gestire quotidianamente ma la seconda cosa che io farei se fossi il re sole che al mattino deve scrivere una nuova legge dopo aver come dire verificato in concreto quelle che sono le modalità operative del settore mi preoccuperei di quella che è la realtà giuridica del settore e questo che cosa significa significa che comunque pur essendo un regolamento settoriale o forse proprio perché è un regolamento settoriale questo regolamento va ad incidere su un contesto già esistente cioè comunque in Italia volenti e non volenti abbiamo già delle norme abbiamo una costituzione abbiamo delle leggi dello Stato e la professione regolamentata che sembra essere diciamo un po' la scoperta di questa nuova ondata regolamentare ovvero io posso incidere sulla tua attività perché io creo una professione regolamentata non è un concetto un istituto nuovo che ha inventato la FIGC o il CONI è un qualcosa già esistente nel nostro ordinamento e in particolare abbiamo un DPR 137 2012 che poi è stato convertito in legge che ha fatto proprio una riforma degli ordinamenti professionali e anche se di solito non mi piace leggere le cose ma qui vorrei proprio leggervi la relazione illustrativa di questa legge dello Stato italiano dice che la finalità di questo intervento è l'eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e si fonda sul principio fondamentale secondo cui l'accesso alla professione deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio intellettuale tecnico del professionista il numero chiuso e qui il punto fondamentale su base territoriale è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico come ad esempio la tutela della salute umana ma alcune limitazioni ma alcuna limitazione quindi nessuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale torneremo poi su questo punto che è fondamentale il contesto non è solo nazionale quindi non solo devo considerare le norme che in Italia evidentemente promanano dalla libertà di iniziativa economica che come sapete è il principio fondante della nostra Costituzione ma devo considerare anche il contesto europeo nella comunità di cui facciamo parte e in questo senso abbiamo la direttiva servizi che disciplina limita regola gli interventi ovviamente statali ma ancora di più da parte di associazioni come la federazione che all'interno della quale rientra all'interno della direttiva servizi rientra anche l'ambito di attività degli agenti detto questo perché c'è una positiva io credo che a mio parere l'intervento della federazione perché poi di fatto il convegno è stato magistralmente organizzato in così a pochissimi giorni di distanza dall'emanazione del nuovo regolamento FIGC tanto agoniato e la mia sensazione è che questi elementi un'attenzione alla pratica e un'attenzione a quello che è il contesto giuridico abbia influito sul nuovo regolamento perché sono magari alcuni sembrano piccoli interventi ma significativi di miglioramento del precedente impianto il regolamento FIGC che abbiamo tutti atteso e forse abbiamo anche pensato male nel vedere come trascorressero settimane in mesi senza avere questo regolamento nonostante ci sia stata una finestra di mercato in realtà posso dire che l'attesa è valsa la pena nel senso che la FIGC ha saputo fare interventi mirati di miglioramento della situazione previgente ma è un passo ma non è definitivo perché comunque rimane un complesso di norme perché evidentemente qui ci troviamo a avere il decreto a monte il CONI e la FIGC che veramente è singolare a livello internazionale e il fatto che ce l'abbiamo solo in Italia può vuol dire due cose o che noi abbiamo capito un qualcosa che in tutto il resto del mondo nessuno ha capito oppure che stiamo andando in una direzione che probabilmente nessuno condivide o altri paesi hanno preferito non percorrere pensare che solo in Italia ci siano problemi o esigenze particolari da giustificare questo tipo di quacervo di norme è un ragionamento che francamente non mi sento di percorrere di supportare io credo che le problematiche dei rapporti tra la gente il cliente che può essere calciatore o società e le varie diciamo dinamiche del mondo del calcio sono per nostra fortuna abbastanza simili e sovrapponibili nei diversi paesi del mondo o quantomeno nei paesi dell'Europa occidentale pertanto non possiamo come dire così pensare di avere scoperto l'acqua calda tutti i paesi hanno gli stessi nostri problemi e quindi in questo contesto un'ottica comparativistica è assolutamente da percorrere e da valorizzare quindi oltre all'aspetto pratico e l'aspetto giuridico io valorizzerei e consiglierei al legislatore federale anche quello di guardare quello che fanno gli altri ma in maniera così molto umile perché se da in altri paesi hanno delle norme che funzionano e che non creano problemi gravi e che sono da tutti quanti considerate norme diciamo adeguate alla tipologia di problema forse potremmo anche ispirarci non dico copiare perché è un termine che magari non piace ma possiamo ispirarci a queste norme degli altri paesi questo in realtà non c'è questo ci dà a tutti noi cultori della materia veramente tanti occasioni di incontrarci di commentare io sono come dire in 15 anni non ho mai avuto tanti contatti anche proprio con colleghi perché è proprio una come dire condivisione di problematiche non contatti diciamo in situazioni in confronti in procedimenti come opposti ma proprio perché condividiamo e questo è positivo ma dall'altro lato non perdiamo di vista questo concetto che in Italia stiamo facendo qualcosa che nessun altro al mondo fino ad oggi ha fatto e devo anche riconoscere con l'associazione con IAS è stata ovviamente promotrice ed è stata l'occasione il contesto in cui molti di questi contatti sono stati poi portati avanti e questo l'ho già detto l'ho già anticipato a Gian Maria non posso non fare i complimenti all'associazione perché temi legati agli agenti e agli intermediari insomma non sono mai stati temi come dire molto popolari tra virgolette quindi anche da parte un po' dei chiamiamoli cultori della materia da parte di varie associazioni convegni e quant'altro insomma il tema agenti non è mai così stato in cima alla lista invece quest'anno insomma l'associazione su questo tema ha voluto come dire investire e approfondire abbiamo anche sono state fatte delle note che diciamo in un'attività lobbistica in senso comunitario in senso positivo è stata portata avanti e a me piace anche pensare che alcuni di questi modifiche di cui adesso bravissimo vi dirò del nuovo regolamento FGC siano in parte forse anche frutto di questa sensibilizzazione che l'associazione ha portato avanti ed è questo insomma credo debba essere l'associazione intera orgogliosa di questo di questo risultato insomma sperando che sia che sia vado allo specifico scusate salto un po' da considerazioni molto come dire generali tra le considerazioni generali però ci tengo perché appunto James avete visto adesso non è più collegato quindi posso parlare un po' più in libertà al di là un po' dell'atteggiamento dell'approccio da parte della FIFA così un po' critico tra virgolette nei confronti degli agenti che insomma quando vediamo questi numeri o chissà tanti soldi però alla fine insomma come aveva accennato prima Andrea molti di queste procure sono poi le procure che sono pagate ma ci sono dei discorsi da fare non è proprio così però quello che ci ha detto James è molto interessante la FIFA vuole riprendersi diciamo abbiamo sbagliato ma dov'è l'errore? L'errore e qui è un tema di diritto internazionale difatti poi se Michele Michele il professor Colucci vuole il tema è quello di individuare il criterio di giurisdizione o meglio il criterio di legge applicabile cioè è un tema squisitamente di diritto internazionale privato ed è un tema irrisolto o forse non l'hanno ancora come dire veramente si dicono abbiamo sbagliato ma dov'è l'errore? L'errore è che oggi io mi trovo con fattispecie potenzialmente transnazionali quindi ho un agente che è stato abilitato in registrato in Spagna che trasferisce un giocatore che ne so tedesco dalla Francia all'Italia cioè potenzialmente le norme che potenzialmente applicabili alla fattispecie sono plurime e di fronte a questa pluralità di norme l'intero sistema non mi offre un criterio che mi consente di applicare in maniera univoca una singola diciamo set di norme un singolo apparato normativo perché può esserci una differenza tra la federazione che mi ha abilitato e la federazione dove vado a fare l'attività quindi c'è potenzialmente un conflitto tra due impianti normativi che non sono tra di loro omogenei quindi una federazione mi chiede un determinato requisito una federazione mi dice tu puoi esercitare le attività con una società a condizione che la società sia non lo so a responsabilità limitata poi mi trovo ad andare a lavorare in Italia e in Italia mi dicono no le società ha responsabilità limitata qui non lavorano qui solo le società in nome collettivo così per semplificare io mi trovo la gente che dice ma che devo fare devo cambiare l'impianto che mi ha consentito di essere autorizzato nel mio paese dove svolgo regolarmente la mia attività e devo fare delle modifiche strutturali alla mia azienda per poter prestare l'attività solo in Italia che poi dopo averla cambiata magari si trova a dover lavorare in Germania e in Germania dicono no ma noi vogliamo solo l'SPA allora si trova nel dubbio di dire ma allora se io faccio questa modifica va bene di qua non va bene di là e capite che questo è antitetico rispetto all'idea che credo si emerga chiaramente dall'intervento di James che la FIFA cosa vuole fare vuole cercare di globalizzare di rendere più fluidi i rapporti creare queste camere di compensazione evitare che ci siano di difformità c'è chi applica il trending chi non lo applica chi solidarica cioè siamo in un villaggio globale questo villaggio globale però lo devo riconoscere anche per questi agenti che altrimenti si trovano invece in una situazione dove non lo so non riescono a capire quali sono le norme applicabili infatti James ha detto prima una frase o meglio era scritta in una delle sue delle sue slides che io credo che sia un altro di quei principi che io scolpirei magari sul muro anzi quelli che vanno di notte con lo spray a fare le frasi all'innamorata il fidanzato e quant'altro ma qui c'è questa frase che James ha scritto higher degree of legal certainty io questa frase la scriverei davanti in via allegri davanti alla FGC o davanti al CONI cioè la certezza del diritto è un mantra ma devono capire che se non c'è certezza del diritto non c'è un ordinamento degno di tal nome e comunque non c'è un sviluppo economico e questo ma torno come vi dicevo anzi volo non so vedo già Maria che è tranquillo non so quanto tempo ho ancora ma io vorrei darvi però ti stavo ascoltando con attenzione vorrei darvi anche delle come dire delle pratiche alcuni punti alcuni flash poi insomma ci sono tanti temi alcuni sono di fatto immanenti possiamo possiamo farci poco però il plauso per la FGC è quella di aver fatto se volete pochi interventi perché non sono tantissimi ma quelli che ha fatto sono effettivamente cruciali allora innanzitutto abbiamo vabbè ha reintrodotto i trasferimenti perché credo per un errore così magari insomma in disattenzione a un certo punto il CONI si è dimenticato di inserire tra le attività del procuratore i trasferimenti di calciatori sono stati evidentemente reintrodotti qui non è oggi non abbiamo il tempo ma qui è sempre io a me hanno insegnato quando io redigo un contratto devo diciamo chiarire e avere io primo chiaro qual è l'oggetto del contratto poi tutto il resto viene di contorno ma deve risultare chi legge l'oggetto del contratto questo stesso approccio io lo applico al discorso degli agenti qual è l'oggetto dell'attività degli agenti questa è una come dire rivoluzione copernicana che è stata fatta dal 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 primo intervento nella legge di stabilità nel 2018 quindi ancora nel 2017 che abbiamo l'agente che è definito come un intermediario quindi tutta quella come dire disputa o comunque quelle discussioni di quale sia la natura dell'agente quale sia l'istituto che è stato così risolto in una intermediazione intermediazione l'altro elemento interessante gli interventi che hanno caratterizzato il nuovo regolamento della FGC sono relativi proprio a questo mandato il mandato che viene di fatto trasferito su un modulo questo modulo anche sul modulo insomma ok allora ci sono due aspetti i vantaggi nel modulo quali sono di semplificare i rapporti la modulistica fluidifica le relazioni perché non devo più rivedermi in contratto diverso per ogni agente piuttosto che mettermi a discutere su alcune diciamo aspetti anche solo formali che però talvolta impegnano noi come avvocati con colleghi ma abbiamo una modulistica quindi partiamo già da una base di una modulistica la modulistica però è vantaggiosa da un lato dall'altro ti limita perché non hai la stessa libertà qui invece hanno previsto che tu puoi integrare la modulistica la modulistica tuttavia mi permetto di evidenziare che ci sono due modi di intendere la modulistica c'è il modulo c'è il modo l'approccio che a me piace definire bizantino in cui la forma diventa sostanza ovvero la modulistica diventa una sorta di come dire di requisito di esistenza del contratto cioè non è più una forma ad probazione ma è ad sostanza cioè se non uso il determinato modulo scaricato dal sito della FIGC il contratto non esiste cioè quindi se io riproduco le stesse parole nel caso limite io prendo il modulo lo copio c'è le stesse parole e lo sottoscrivo quindi le due parti sottoscrivono il contratto c'è l'accordo c'è l'intesa non c'è un contratto perché il contratto è nullo perché non ho usato quel determinato modulo capite che questo concetto che per noi ormai non dico che sia normale ma nel mondo italiano del sportivo del calcio è un concetto diffuso ormai cioè nessuno si preoccupa di dire come mai se il calciatore fa lo stesso identico contratto cioè prendiamo un modulo di contratto di prestazione sportiva lo copio cioè lo faccio uguale lo firmo e dico lo voglio depositare ti dicono no perché quello non è un modulo questo è un concetto che quando io lo devo spiegare al procuratore brasiliano mi dice ma c'è qualcosa che non va perché io non posso stipulare il contratto utilizzando un altro modulo quindi il vantaggio io rendo più semplici rapporti dall'altro dall'altro lato è comunque anche questa una limitazione cioè un soggetto straniero deve usare un modulo lo è ancora di più se questo modulo c'è solo in italiano perché voi ben capite che pretendere che tutto il mondo si metta a parlare in italiano oppure pretendere che uno straniero sottoscrive un contratto di cui non capisce il contenuto lo deve scrivere perché si fida anche questo diciamo diventa una limitazione quindi insieme alla modulistica speriamo questo non ho dubbio che avverrà che la federazione dovrà quantomeno tradurre questo modulo nelle quattro lingue della FIFA anche perché altrimenti si realizzerebbe una come dire una contraddizione un conflitto con l'altra norma sempre dello stesso il regolamento che dice che sono ammesse e anche questo è un passo avanti ma è notevole sono ammesse anche le lingue riconosciute dalla FIFA quindi non ho più solo l'italiano con obbligo di traduzione giurata ma ho anche le lingue della FIFA Vittorio? Sì Eccolo abbiamo da contenere perché poi se no andiamo lunghissimo Il mandato i punti che vi volevo illustrare sono l'utilizzo del modulo l'efficacia fondamentale perché hanno reintrodotto l'efficacia dalla firma e quindi il deposito diventa una condizione che poi quindi retroagiscono gli effetti al momento della stipula e non diventa più elemento costitutivo quindi da quel momento c'è il problema della lingua vi ho detto e poi c'è un tema di cui magari parleremo o parlerà parleremo dopo sul discorso della prescrizione e qui c'è un altro problema un altro molto interessante sulla validità pluriannale dei contratti perché hanno di fatto esplicitato formativizzato quello che era poi una prassi una prassi però gli ultimi tre minuti li vorrei dedicare a quello che era il tema del mio intervento ovvero la domiciliazione e anche qui stiamo assistendo a un evento che provi ovvero l'istituzionalizzazione di questa domiciliazione perché la domiciliazione assume come un ruolo centrale nella diciamo attività degli agenti non italiani la domiciliazione viene estesa si possono domiciliare sia gli agenti che erano iscritti al famoso registro la sezione degli agenti stabiliti sia i soggetti che sono abilitati all'interno della punta europea sia i soggetti extraeuropei in questa diciamo e quindi c'è anche un elenco dei procuratori degli agenti domiciliati anche questo è magari una piccola ma è fondamentale perché prima non essendoci un elenco non c'era la possibilità di individuare in modo facile e quello che però volevo dirvi è che cos'è questa domiciliazione qui ancora una volta utilizziamo un istituto quello della domiciliazione oppure il domicilio ma sembra di capire che non ci sia chiara alle spalle come dire consapevolezza di quelli che sono i confini pratici giuridici di questo istituto perché va a mio parere esaminato e trattato con molta attenzione perché per uno straniero avere un domicilio in Italia non è una mera formalità perché i rapporti tra domiciliato o domiciliante anche qui i termini a volte cambiano e il domiciliatario sembrano abbozzati e in maniera un po' così approssimativa si parla di pagamenti si parla di responsabilità questo è un tema delicatissimo quando si individua io una responsabilità in capo al domiciliatario non viene chiarito che tipo di responsabilità sia noi ormai siamo abituati a tutto responsabilità oggettiva una responsabilità presunta non lo so che tipo ma se parliamo del disciplinare abbiamo ovviamente dei canoni base nel nostro ordinamento che quindi presuppongono non consentono di estendere questa responsabilità a piacimento se invece è solo una responsabilità da un punto di vista come dire patrimoniale o civile ma ci sono credo e questo è anche sempre per noi stimolante queste sono così è stato abbozzato un istituto e poi sarà responsabilità nostra nel momento in cui redigiamo questi famosi fantomatici accordi di domiciliazione essere attenti è un invito che vi faccio a disciplinare tutte le conseguenze della domiciliazione nel rapporto inter partes e nel rapporto in confronto di soggetti terzi perché se il domiciliatario è responsabile io che sono la società o io che sono la gente che assumo aver avuto un danno potrei quindi poi rivolgermi al domiciliatario che fino a prova contraria è un soggetto che si limita a fornire un indirizzo o a fornire la disponibilità di mettere la propria iscrizione alla FGC a disposizione di un collega un po' come il domiciliatario nelle professioni legali però se da questa disponibilità ci sono conseguenze come sembrano essere così accennate così bravi credo che sia opportuno per noi intervenire e regolare modificare limitare certi rischi quindi contenere certi rischi io poi non avevo degli altri punti ma sono sicuro che con le vostre domenze siamo andati su questi argomenti e quindi lascio la parola a Gian Maria e a Mauro che non vedo ma che immagino sia già collegato grazie Vittorio potremmo approfondire per ore perché gli argomenti sono interessantissimi passo subito a Mauro grazie Mauro puoi andare ciao Gian Maria ti ringrazio consentimi di ringraziare anche il presidente dell'associazione Salvatore Civale il professor Colucci insomma e tutti i membri del direttivo per avermi invitato questa bellissima giornata dedicata al diritto sportivo allora passo subito al tema affidato la tutela del credito dell'agente sportivo tema ovviamente caro agli agenti perché porta con sé degli sviluppi di natura pratica e concreta che seguono il lavoro svolto nell'attività la premessa è che per parlare di tutela del credito dobbiamo iniziare a tutelare il credito prima ancora che il credito sia nato ossia dobbiamo improntare una linea nel momento stesso in cui stiamo negoziando e stipulando il contratto di mandato tra l'agente e il cliente che potrà essere il club o il calciatore questo perché perché è lì che la gente per consentirevi una metafora calcistica deve operare una scelta di campo e quindi già nel momento in cui sottoscrive il contratto di mandato deve sapere in che modo vorrà tutelare eventualmente il proprio credito laddove il contratto dovesse entrare in una fase cosiddetta patologica e quindi dovesse insorgere ad esempio l'inadempimento da parte del club o del calciatore che non adempie alla propria obbligazione di pagamento della commissiare alla gente che cosa dicono i regolamenti il nuovo regolamento FGC pubblicato con comunicato ufficiale lo scorso 4 dicembre si è allineato diciamo al regolamento PONI in quanto ora entrambi i regolamenti il regolamento FGC con l'articolo 21 comma 20 e il regolamento CONI all'articolo 20 comma 2 prevedono che la risoluzione delle controversie derivanti dall'avente all'oggetto la validità l'interpretazione l'esecuzione e nonché tutte le relative controversie in natura economica riguardanti il contratto di mandato devono essere devolute al collegio di garanzia dello sport del CONI salvo espressa deroga contenuta nel mandato che cosa significa qui torniamo alla scelta di campo che nel momento in cui la gente sottoscrive il contratto di mandato deve sapere che ha queste due vie ossia tutelare il proprio credito davanti alla giustizia sportiva e quindi al collegio arbitrale del CONI al collegio di garanzia del CONI oppure scegliere per la tutela in sede ordinaria e quindi scegliere di tutelare il proprio credito davanti al giudice ordinario questa scelta porta con sé dei pro e dei contro in entrambi i casi scegliere ovviamente di affidarsi ad un organismo di giustizia sportiva implica il fatto di devolvere la controversia ad un organo in questo caso un collegio arbitrale che ha che è formato da professionisti scelti dal perché gli arbitri del 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 collegio arbitrale sono scelti tra dei professionisti scritti nell'apposito albo che hanno senz'altro delle competenze specifiche in ambito sportivo e quindi hanno una confidenza della materia probabilmente superiore al giudice ordinario e anche i tempi della giustizia sportiva sono più concentrati rispetto a quelli della giustizia ordinaria tuttavia il collegio la giustizia sportiva e in questo caso il regolamento sul funzionamento del collegio di garanzia forza con sé dei contro che possono essere in primis i costi di funzionamento a dire il codice di garanzia implica il pagamento di importi elevati 2.000 euro per poi solo per poterla dire poi passare al pagamento dei vari arbitri a differenza ad esempio del giudice ordinario che nel caso di un ricorso per decretato in giunzione vede dei costi fisici il contributo unificato che sono inferiori abbondantemente ai 1.000 euro anche laddove il valore della consoversia sia superiore ai 520.000 euro quindi ai 520.000 euro del buono questo sui costi è molto importante lo stava anticipando Vittorio prima ci sono anche degli altri aspetti ossia il regolamento di funzionamento il regolamento arbitrale quindi il regolamento che disciplina del funzionamento del collegio arbitrale nel collegio di garanzia dello sport del CONI prevede un termine di decadenza di 20 giorni termine di decadenza di 20 giorni per editorio che decorano dalla data della violazione contestata e quindi in questo caso dalla data di scadenza prevista nel contratto di mandato per il pagamento delle commissioni anche in questo caso è opportuno scegliere in anticipo anche in base ai rapporti che la gente ha col cliente quindi ipotizziamo con la società questo perché perché è una situazione che si crea di frequente che non ci sia un'attenzione da parte dei club nel rispetto del pagamento entro i termini perché capita spesso ad esempio che vengano preferiti in agenda rispetto alle commissioni degli agenti ovviamente i pagamenti dei dipendenti perché questi comportano tutta una serie di conseguenze anche dal punto di vista della possibilità di iscrizione ai campionati e quindi avere questo termine di decadenza così stretto di 20 giorni potrebbe ad esempio inclinare i rapporti tra tra gente e club pregiudicando eventualmente il rapporto per collaborazioni future anche questo dovrebbe essere tenuto in debita considerazione allo stesso tempo potrebbe essere invece detto in chiave positiva per la gente che sa che un regolamento una norma sportiva gli impone di dover mettere in mora pressoché immediatamente il cliente affinché onori la tua obbligazione e quindi paghi la commissione va detto che il procedimento davanti al collegio di garanzia è un procedimento arbitrale con rito irrituale e quindi si conclude con un lodo irrituale il che fa sì che una volta ottenuto il lodo in ambito sportivo e quindi una volta ottenuta la decisione in ambito sportivo comunque perché questa sia messa in esecuzione bisognerà comunque dire di giudizio ordinario con un procedimento di ingiunzione eventualmente poi con l'azione esecutiva il che è vero consente di arrivare davanti al giudice chiedendo un decreto ingiuntivo sulla base di un lodo che non sarà più oggetto di discussione nel merito da parte delle parti e del giudice che non entrerà nel merito perché il lodo irrituale lo ricordo a valenza di accordo contrapuale di natura privata tra le parti quindi quello che è scritto lì sarà l'oggetto devoluto al giudice ordinario senza che entri nel merito e quindi si affiderà già al giudizio dell'organo di giustizia sportiva il che però vuol dire che si allungano i temi perché se io scelgo inizialmente di avere il collegio arbitrale poi comunque dovrò andare in una fase esecutiva davanti al giudice ordinario laddove invece io agente abbia optato direttamente per la giustizia ordinaria accorcerò da questo punto di vista i tempi ma comunque avrò l'incertezza di dover discutere di una materia molto specifica del diritto sportivo davanti un giudice che forse non ha la dimestichezza perché non tratta tutti i giorni la tematica in chiave critica come dicevamo prima qui mi allaccio sia al magistrale intervento dell'ospite James Kitchin che quanto anticipava Vittorio Rigo sarebbe magari utile anche nel nostro ordinamento nazionale sportivo nazionale prevedere una sorta di camera di compensazione quella clearinghouse che anticipato probabilmente sarà contenuta nel nuovo regolamento FIFA e quindi devolvere dopo aver ottenuto il lodo davanti al collegio arbitrale quindi laddove si sia votato per la giustizia sportiva far sì che l'esecuzione sia garantita da una camera di compensazione che quindi il credito ad esempio il credito tra agente e società sia garantito in quanto entra a far parte di quel circuito di camera di compensazione che garantisce il pagamento e soprattutto che venga data esecuzione al lodo un altro aspetto che vorrei sottolineare cercando di essere il più rapido possibile e quello relativo al coordinamento tra quel termine di decadenza di contigione in cui parlavamo e la prescrizione che con il nuovo regolamento IGC è stata introdotta è una nuova norma che prevede che il credito dell'agente nei confronti del cliente derivato dal contratto di mandato si prescriva nel termine di due anni ossia al termine della seconda stagione successiva nel momento in cui il credito è maturato questa questa novità che ritengo possa essere una novità positiva ossia prevedere un termine biennale di prescrizione per questo credito un po' scrive invece quell'incombenza il dovere appena di decadenza di dover immediatamente mettere in ora la controparte a dire il collegio arbitrare e questa prescrizione dovrà essere coordinata comunque con la prescrizione ordinaria perché dobbiamo sempre ragionare sul fatto che l'ordinamento sportivo è sì tipicamente c'è il gode di una specificità che è riconosciuta anche in l'ordinamento statale tuttavia non so se sia consentito e se sia recepito dall'ordinamento statale quindi dal giudice che dovrebbe eventualmente poi decidere su una controversia di questa natura se sia possibile derogare alla normativa pubblicistica in un tema di prescrizione che nel caso ad esempio dei professionisti prevede che vi sia una prescrizione presuntiva di tre anni quindi superiore al termine previsto dalla FGC che diventa regionale quindi ordinaria laddove la presunzione sia superata da degli eventi portati all'attenzione del giudice e anche sulla prescrizione mi relacere anche in riferimento all'oro perché nel momento in cui io ho dito nel termine di 20 giorni il collegio di garanzia del COE quindi non sono decaduto a quel punto non so più se questa prescrizione biennale abbia senso di esistere perché non troverebbe più applicazione in quanto nel momento in cui ho interroto quel termine e arrivo nei termini brevi della giustizia sportiva ad avere un lodo a quel punto il lodo essendo equiparabile a un contratto di diritto privato tra le parti sarà soggetto ai termini ordinari di prescrizione quindi quelli decennari sono norme che è interessante che le abbiano iniziate a pensare probabilmente in un'attuazione pratica potranno essere migliorate e implementate in questi termini io non aggiungerei altro sulla riforma del regolamento perché comunque il tema di tutela del regolamento le riforme sono queste Vittorio Rigo ha detto giustamente sottolineato che ora è obbligatorio utilizzare il contratto di mandato sulla base sul format federale in quel contratto di mandato al punto 8 ricordo che è prevista la clausola relativa alle risoluzioni delle controversie e quindi è in quella formulario che l'agente con suggerimento del professionista dell'attrocato che lo segue fin da quella fase che dovrà scegliere se in un eventuale futuro situazione di inadempimento vorrà devolvere la controversia in ambito sportivo o in ambito statale quindi davanti al giudice ordinario e quello è il momento in cui dovrà operare quella scelta di campo di cui parlavo e quindi bisognerà prestare molta attenzione al punto 8 del format federale mauro grazie su questo adesso ho visto che ci sono un po' di domande anche che stanno in qualche modo nascendo e su questa sulle domande che in qualche modo possono essere state fatte da chi sta partecipando c'è sicuramente un tema che magari poi se abbiamo due minuti sviluppiamo che è legato poi alla questione dell'avvocato agente della sua iscrizione a registro del titolo abilitativo che sappiamo essere una vexata a questo e sappiamo come poi si è intervenuto il consiglio nazionale forense e come anche il governo si è intervenuto nell'approvazione dell'esame preliminare di una possibile riforma di tutto il sistema che chiaramente è molto futurismo poi so che c'era Andrea Bozza che voleva fare delle domande e se Andrea è collegato magari può farle direttamente lui aprendo il microfono e quindi aspetto legato appunto all'avvocato agente e poi se Andrea vuole intervenire a fare una domanda siamo siamo a disposizione Gianmaria non lo so cosa preferisci che rispondano insieme allora dopo la questione avvocati agenti due domande una per Vittorio e una per il collega Mauro Vittorio concordo che il punto di analisi e la lettura in relazione poi all'operatività quotidiana e alla necessità dell'operatore straniero di esploitare la propria attività liberamente in Italia credo che questo la tua analisi sia molto e sia acceleratissima e lascia tante questioni aperte il regolamento migliora su tanti aspetti ma è ancora dal mio punto di vista passibile di un vaglio dal punto di vista della tenuta complessiva in materia di libera prestazione di servizi direi di tenere sospese alcune questioni perché abbiamo probabilmente adesso a brevissimo una necessità di maggiore allineamento tra alcuni requisiti dell'ultimo regolamento CONI e dell'ultimo regolamento FGC proprio in tema di domiciliazione per esempio in relazione al dibattutissimo requisito della residenza poi avremo nel 2021 spiegabilmente una necessità di coordinare con il decreto legislativo che attua una parte della riforma della legge di riforma sullo sport e infine un adeguamento che si renderà necessario all'annunciato nuovo regolamento FIFA che dovrebbe entrare quindi abbiamo una serie di passaggi per cui non ci sarà questo vivere per i prossimi tre anni da un punto di vista però una domanda molto pratica per te tanti operatori mi chiedono cosa fare con la polizza quando finalmente adesso possono domiciliare anche la società la persona giuridica siccome il regolamento in questo chiudo ulteriormente concordando con te sempre passaggi datti da chi non abbia avuto una copiosa esperienza pratica è soggetto a interpretazione su questo punto non si riesce a capire se la polizza richiesta al singolo ingente persona fisico o anche alla società di cui egli sia socio una tua view su questo al collega Mauro segnalo che la prassi spesso mi vede negoziare una modifica dei mandati per risolvere quell'imbarazzante tema della presenza della termine decadenza quando è stato quando sia anche per sola fretta dell'ultimo giorno dell'ultima ora lasciato il collegio di interazia come foro come diciamo meccanismo di soluzione controversa e si chiede una modifica magari con una bella dilazione di pagamento e si ritorna al tribunale ordinario qual è la tua esperienza quando si arriva al termine di decadenza e non si può più andare al collegio mi sembra abbastanza pacifico che si possa procedere con un decreto ingiuntivo e aspettare la reazione del club debitore ma anche su questo vorrei un tuo commento grazie Andrea la questione della polizza purtroppo tu lo sai a seguito poi dell'entrata in vigore di questo come dei precedenti regolamenti FGC e CONI segue tutta una fase applicativa e di interpretazione che è rimessa poi agli uffici e quindi non ti nascondo che anche io c'è questioni che a volte con un po' di buon senso verrebbero facilmente risolte qualche volta invece e questo io credo sia stato sia dovuto probabilmente sarà perché abbiamo ancora il sistema anche all'esistenza di due enti che promanano due regolamenti e quindi sono dotati di due apparati amministrativi e tu lo sai come non sia l'unica situazione in cui poi le view le interpretazioni di questi due enti siano diverse e quindi di nuovo lo sai anche tu quanto difficile poi sia spiegare faccio sempre il solito esempio nel senso ho il cliente straniero e gli devo spiegare che la sua domanda presentata alla federazione è stata accolta e quindi è registrato la FIGC e con la stessa le stesse documentazioni la stessa polizza lo stesso statuto le stesse veramente gli stessi documenti presentati all'altro ufficio corrispondente del CONI non sono ritenute sufficienti per consentirli di svolgere l'attività e quindi previo acquistio della marca da bollo anche giusto e tutti questi passaggi che ripeto in ottica internazionale ci fanno sembrare la repubblica delle banane perché questo è alla fine perché se io devo spiegare allo straniero spiegargli cos'è la PEC ovviamente non ce l'ha che deve acquistare una marca da bollo che non so se nei consolati italiani all'estero sia vendibile ma questo presuppone che un soggetto venga qua o che noi di tasca nostra le anticipiamo i 250 euro ci sono dei paesi dove lavorano con la carta di credito e online noi siamo con la marca da bollo magari sono difficoltà oggettive nel senso che è facile criticare evidentemente stiamo criticando però spero in senso costruttivo perché da qualche altra parte funziona e adottano dei sistemi diversi ora il tema della polizza mi sono trovato anch'io in queste situazioni perché ci sono poi dei paesi dove ci sono queste polizze che consentono di avere l'individuo e anche la società insieme perché evidentemente tu svolgi un'unica attività l'attività la svolge la società quindi di fatto ti trovi ad avere una doppia assicurazione sullo stesso evento cioè se un evento che dove ci fosse una responsabilità risponde la società perché agiva la società questo diciamo invece due polizze separate che insomma è un costo ulteriore che si somma ai 500 euro alla marca da bollo e tutto quello quello che sappiamo l'altro giorno con Mauro e con Gian Maria che abbiamo fatto un piccolo piccolo così pre incontro la mia proposta è sempre quella contatto la software che ha fatto il sistema per gli altri paesi d'Inghilterra e io se fossi la FGC direi mi fate lo stesso in Italia con le nostre regole in Italia per il resto perché queste sono cose pratiche che però hanno un impatto importante quando tu devi fare l'operazione non l'ultimo giorno anche l'ultima settimana vogliamo parlare della calendarizzazione della riunione della commissione che deve approvare l'iscrizione i temi sono d'accordo con te rimangono pesanti cioè nel senso rilevanti non sono banalità sono cose importanti a livello pratico e a livello sistematico perché il modulo che vi dicevo prima poi insomma ho tagliato questo modulo il modulo è come dire il concetto generale del sistema è che tu disciplini l'attività che viene fatta in Italia solo in Italia tutte le norme sono in quel senso il modulo ti dice questo è per una società che è affiliata alla FGC un calciatore FGC quindi significa per farla semplice che se la gente andrà a bozza riceve l'incarico di vendere non so l'Ibrahimovic al Manchester United e tu ti fai dare il mandato dal Manchester United in Italia non lo devi neanche registrare non lo devono neanche sapere quindi anche questo conflitto di interessi in questo modo diventerà difficile da vedere perché ci limitiamo alle questioni al nostro otticello il fenomeno che tentiamo di eliminare è per sua definizione non confinato quindi cerchiamo di applicare un modello che non è adeguato alla realtà che ci circonda perché qui quindi dall'altro lato se viene un calciatore straniero in Italia con il suo procuratore si trova in una situazione ma lo sai benissimo perché sei stato uno dei primi a rilevarlo che si troverà con un contratto che magari è il procuratore che ha da quando è nato da una vita che ha un mandato in essere riconosciuto in Spagna valido efficace e si trova a stipulare il contratto con l'Inter e entriamo in questa incertezza quello che dicevo prima è il contrario all'incertezza perché vale il suo contratto spagnolo o non vale il suo contratto spagnolo devo rifarne un altro italiano o è sufficiente quell'altro questioni se vuoi pratiche ma che nascondono sottostante un problema rilevante un principio rilevante qual è il criterio che fa che innesca il regolamento italiano qual è il criterio di ingaggio quando è che si applicano le norme italiane e quando non si applicano quelle della federazione di provenienza perché potrebbero dire che il contratto in essere rimane tantomeno riconosco gli effetti di un contratto validamente stipulato ma non solo per la federazione anche per la FIFA validamente stipulato devo riconoscere gli effetti in Italia altrimenti abbiamo un'isola all'interno della quale i contratti fatti in tutto il mondo non valgono dov'è lo scambio la fluidità dei rapporti questi sono problemi non facili che forse andrebbero risolti prima di mettersi con la penna a scrivere gli articoli poi i nodi vengono impetti nel posto nasconderli non posso neanche illudermi che i trasferimenti sono solo tra la Juve e il Milan e il Napoli sono interni ormai più del 50% dei calciatori sono stranieri ma uno si farà una domanda da dove arrivano tutti questi credo che siano temi ineludibili e lo saranno sempre di più come dici tu ci saranno molte occasioni per nostra fortuna perché altri interventi a me dicevano una volta che una volta facevano le leggi ci pensavano magari molto per una volta fatta quella legge durava decenni questo è una schizofrenia dove ogni sei mesi abbiamo un nuovo regolamento e anche questo credo che sia sintomatico che questo processo normativo cioè il pensiero tradotto poi nello scritto forse va un attimo migliorato ecco vittorio ti devo lasciamo spazio un attimo a Mauro che anche lui telegraficamente risponde ad Andrea perché poi dobbiamo chiudere perché c'è un ulteriore webinar grazie ciao buongiorno Andrea sulla possibilità di spostare la competenza dal dal giudice sportivo dal collegio di garanzia al giudice ordinario in corso di esecuzione del mandato mi è sembrato di capire che sia questa la tematica allora io ritengo che quando è stato si è scelto nel mandato di devolvere al collegio di garanzia e quindi ad un arbitrato la risoluzione della controversia se le parti vogliono apportare una modifica a quel contratto è bene che lo facciano prima che sia scaduto ovviamente il termine di pagamento perché nel momento in cui quel termine è scaduto e le parti vogliono rinegoziare o rinegoziano un altro contratto ma a quel punto avrebbe un effetto retrativo su una prestazione svolta sulla base di quel precedente contratto oppure il giudice ordinario si dovrà ritenere incompetente perché le parti hanno convenzionalmente scelto di devolvere la controversia ad un arbitrato e quindi non al sindacato del giudice quindi sì è possibile nella pratica avviene ma bisogna sempre restare attenzione alla tempistica al timing di cui si parlava prima perché se vogliamo operare quella modifica dobbiamo farlo prima che scada la condizione eventualmente aggiungere e modificare il contratto aggiungendo le varie modalità di pagamento e quindi dilazionandolo prima ancora che però si verifichi la condizione e quindi la scadenza del termine se no credo che una modifica non consenta di devolvere al giudice ordinario o comunque una volta decaduti da quei famosi 20 giorni il giudice ordinario di sicuro rinuncerà alla controversia e quindi dovrà necessariamente dire sono incompetente perché le parti hanno devoluto la controversia ad un arbitrato e quindi non potrà pronunciarsi sul vedo che fai una faccia non terrorizzata più che terrorizzata grazie a entrambi grazie a tutti se dimmi se mi consenti telegraficamente perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore quello che introducevi ossia l'auspicio che le nuove modifiche recepiscano e riconoscano l'attività dell'avvocato che assiste direttamente a cariciatori e club facendolo sentire un po' più a casa all'interno dell'ordinamento e non solo come consulente della gente io credo che questi schemi di decreto legislativo che sono stati approvati in via preliminare forse stiano andando sulla strada giusta cioè riconoscano che le competenze dell'avvocato siano sufficienti per assistere i clienti calciatori e club nella negoziazione del contratto di prestazioni di lavoro sportivo di trasferimento e non solo quali assistenti che verificano le clausole ma che in realtà non negoziano e non partecipano e questo credo che sia anche una lettura corretta anche dal punto di vista storico dei regolamenti che si sono susseguiti perché ricordiamoci che precedentemente alla deregulation il regolamento agenti FGC prevedeva espressamente la voce avvocato si era consentito affidarsi all'avvocato quello che ritengo invece che debba essere sempre messo in primo piano è che comunque l'attività dell'avvocato non deve per una questione di doveri ideontologici non deve trascendere e diventare attività di intermediazione sì lì ci servono poi profili di natura disciplinare però su questo tema qui credo che sia un discorso di biontologia dell'avvocato così come il ricevere un mandato in un settore così specifico come quello sportivo è già previsto dal nostro codice biontologico ossia se non ho specifiche competenze in un settore del diritto io non devo accettare il mandato comunque mi devo far affiancare questo assolutamente l'organo federale mi sembra che però su questo come dicevamo l'ultima volta che ci hanno sentiti l'intervento che in questa fase ha fatto il governo ci porterà poi sul tema delle specializzazioni al quale noi tutti come iscritti come amanti come esperti del diritto sportivo dobbiamo assolutamente mirare io vi ringrazio io vi ringrazio grazie Vittorio grazie Mauro e andiamo avanti con l'intervento poi sul lavoro subordinato sul lavoro sportivo e quindi direi che Daniele Muscarà può intervenire grazie davvero un saluto a tutti grazie a te grazie ancora direi di passare subito con il prossimo webinar quindi Daniele se vuoi presentare i nostri ospiti già vedo Alessio collegato pronto pronto bene grazie Ale grazie Gian Maria continuiamo i lavori di questa prima parte della giornata cambiamo cambiamo totalmente argomento perché perché oltre alla disciplina degli agenti sportivi gli ultimi decreti attuativi approvati al governo affrontano anche l'annoso tema del rapporto di lavoro sportivo in particolare cosa vuole fare il legislatore vuole procedere con una revisione diciamo organica della definizione del lavoratore sportivo che fino ad oggi conosciamo quindi direttamente limitata agli atleti professionisti professionisti provvedendo a prevedere appunto una serie di tutele più slavoristiche previdenziali delle novità anche di carattere fiscale anche per gli atleti dilettanti oltre a tali aspetti il decreto prevede dopo tanti anni di annosi dibatti della polizione del vincolo sportivo l'istituzione di un fondo per il passaggio al professionismo femminile che vuole incentivare le federazioni e le società a passare al professionismo per tutti i settori femminili e infine istituisce una qualche specie contrattuale per i giovani atleti ovvero l'apprendistato sportivo ce ne parleranno oggi Alessio Piscini e Sandro Censi Alessio è un noto avvocato esperto di diritto sportivo membro dell'ufficio legale di calciatori e presidente della Fidea Toscana che si concentrerà sugli aspetti effettivamente più slavoristici e contributivi della nuova della riforma e ci parlerà brevemente anche dell'apprendistato sportivo per poi nella seconda parte passare a Sandro Sandro Censi è un avvocato professore dell'Università di Bologna esperto di diritto tributario e autore di numerosi articoli sulla disciplina fiscale degli atleti in particolare sulla gestione di diritti di immagine degli stessi che appunto affronterà le novità di caratteri fiscali del decreto quindi chiedo ad entrambi di rispettare i tempi perché purtroppo siamo andati un po' lunghi con i precedenti interventi che però sono state di altissima qualità e do la parola ad Alessio e vi ringrazio buon pomeriggio a tutti cercherò deve essere brevissimo però consentitemi per prima cosa di ringraziare Michele Salvatore e tutto il consiglio direttivo dell'Aias per l'opportunità che mi è stata concessa magari meritatamente però per me è veramente un onore essere qui io partecipo ai lavori dell'Aias e sono associato dall'inizio e ho visto quanta strada questa associazione ha fatta soprattutto grazie ai colleghi che ci hanno dedicato così tanto tempo e con tanta passione e l'hanno fatta arrivare fino ad essere un punto di riferimento per tutti gli operatori giuridici del settore e questo oggettivamente è un risultato eccezionale e devo essere sincero mi piace essere qui anche per ringraziare in particolare Michele e Salvatore per tutto quello che hanno fatto ora il tema che mi è stato assegnato è molto spinoso riguarda la riforma del lavoro sportivo che è stata annunciata dal ministro Spadafora devo sono limitato nell'esposizione a una sorta di esegesi prognostica perché in realtà il testo definitivo non ce l'abbiamo ho cercato di fare una prestomazia dei vari testi che sono girati e quindi ho un'idea diciamo abbastanza chiara anche in funzione di quello che ha detto poi la conferenza stampa e a monte a monte la questione è se questa riforma sia una bomba atomica o un petardo detto in termini diciamo metaforici a mio giudizio per come è stata presentata per i testi che abbiamo che abbiamo sott'occhio in questo momento potrebbe essere una bomba atomica potrebbe essere effettivamente una riforma che incide in modo sostanziale da un punto di vista giuridico tributario poi ci pensiamo al professor Censi e anche da un punto di vista di tenuta dell'ordinamento sportivo sul mondo del lavoro sportivo ed è una ed è Michele ti prego ed è una ed è una questione che coinvolgerà gli operatori del diritto nel prossimo futuro per questo è importante e come sempre l'IAS all'avanguardia affrontarla il prima possibile faccio un preambolo ma senza voler ovviamente offendere nessuno su quella che è la situazione attuale sappiamo tutti che il mondo sportivo in particolare è dilettantistico perché dalla mia visuale diciamo come ufficio legale a calciatori so che il professionismo sportivo non è stato particolarmente inciso da questa riforma a parte alcuni aspetti di cui dirò successivamente poiché ha pedisseguamente riproposto la legge novantuno dell'ottantuno all'interno del decreto il direttantismo invece viene inciso profondamente fino a oggi ci trovavamo una sorta di bolla il grande mare il mare magno del direttantismo sportivo è stato regimentato regimato si potrebbe dire parlando di mare con normative tributarie più che giurislavoristiche sapete tutti che il da ultimo il DLCS 81 del 2015 nel riferirsi al lavoro subordinato quale forma principale del rapporto di lavoro sportivo del rapporto di lavoro scusate consentiva all'articolo 2 comma 2 lettera D una deroga per le associazioni sportive e le società sportive direttantistiche riconosciute e iscritte nel registro del CONI la possibilità di avere dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche laddove il rapporto di lavoro fosse regolamentato dal committente nel caso e all'interno di questa impostazione peraltro confermata poi dalla nota del ministero del lavoro se non sbaglio la 6 del 2016 e di fatto ormai tradizionale sin dalla legge pescante tutta l'attività che ruota intorno al direttantismo quindi si parla dagli atleti ai tecnici fino ai custodi alla segreteria ruota intorno a una sorta di parasubordinazione di fatto che ha soprattutto una regolamentazione fiscale attraverso l'archivolo 67 e quindi la normativa in punto di redditi diversi questa situazione voi sapete meglio di me che è abbastanza anomala e parlo del mondo del calcio è chiaro che un giocatore di lega pro di serie C che fa 5 allenamenti a settimana è un lavoratore dipendente scende in serie D fa i soliti 5 allenamenti a settimana allenato da un allenatore convocato dalla società agli allenamenti e quindi svolge la stessa identica prestazione lavorativa e diventa un pariasubordinato un volontario sportivo chiamiamolo questa riforma su questo incide presentemente perché perché toglie dall'anomia dall'anomia a cui in cui l'aveva confinato l'ordinamento settoriale tutto l'albero del lavoro sportivo allora la prima novità è quella di aver definito il lavoro sportivo e di aver indicato chiaramente quali siano le categorie dei lavoratori sportivi categorie le leggo perché non vorrei poi far figuracce me le dimentico qualcuna comunque sono gli atleti i tecnici e gli allenatori gli istruttori allenatori quindi qualsiasi tipo ad esempio nell'atletica c'è una distinzione qualsiasi tipo di soggetto che dirige l'attività sportiva il direttore tecnico il direttore sportivo il direttore di gara e il preparatore atletico quindi c'è anche la novità dell'inserimento degli arbitri all'interno del nel caso del calcio direttore di gara in altri sport all'interno del lavoro sportivo la cosa più rilevante da un punto di vista giuridico è l'abolizione dell'articolo 2 comma 2 lettera di del dlgs 81 2015 quindi della riserva di cococo sportivi e di esenzione dal comma 1 dal dal testo del giro sart del decreto e l'indicazione l'indicazione che l'attività del lavoro sportivo può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative quindi viene inserita qui la 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 riserva però si dice fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 comma 1 del dlgs 2015 81 cioè fatta salva l'impossibilità di inserire nei cococo sportivi tutti i casi in cui vi sia un'attività continuativa e le cui modalità di svolgimento sono dettate dal datore di lavoro questo ovviamente costituirebbe un una sorta di sfavorevole prognosi nei confronti dei coco sportivi che sono state fino a oggi il principale il principale strumento giuridico in cui si è inserita l'attività tuttavia tuttavia non sappiamo come la prassi declinerà questa normativa anche perché anche nella conferenza stampa del ministro poi alla fine quando si parla dei contributi quando ha parlato della tassazione e quindi delle tassazioni della contribuzione da parte dei lavoratori sportivi ha citato il 20% 30% che fa riferimento ai cococo ai regime del fondo pensionistico quindi sembrerebbe che comunque la previsione sia che la maggior parte del lavoro sportivo finisca 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 nuovamente dentro il il corpo sportivo questo ovviamente è difficile oggi da da pronosticare e sappiamo tutti che in Italia il terreno della prassi è molto scivoloso tuttavia tuttavia la razza della norma chiaramente fa propendere per il lavoro subordinato sportivo quale forma principale principale di strutturazione del rapporto tra chi svolge un'attività diretta sportiva e l'associazione e la società sportiva di riferimento anche di lettantisti e questa è diciamo sì una innovazione decisamente decisamente estesa una sorta di rivoluzione copernicana cui tuttavia cui tuttavia lo stesso testo sempre facendo riferimento a quello abbiamo sotto mano sperando che sia quello poi su cui lavoreremo effettivamente parla sempre di una risè a parte questo lo dico sul cococopo e da anche e questo è molto importante da anche la possibilità alle associazioni rappresentative di categoria di dare di concordare gli indici per la certificazione del rapporto di lavoro questo al di là di come si definirà della plassi è la prima riconoscimento delle associazioni rappresentative di categoria dei lavoratori sportivi anche nel mondo dilettantistico e gli dà una configurazione legale oltre a questo però rimane sempre la riserva della possibilità di rapporto di lavoro amatoriale sportivo quindi in realtà la norma fa una riserva che consentirebbe alle associazioni sportive di continuare a pagare i volontari i cosiddetti volontari sportivi gli amateurs come dicono con nel vecchio regime del 67 e quindi con l'esenzione fiscale fino al limite di 10.000 stavolta tuttavia a leggere il testo parerebbe che il limite di 10.000 diventi invalicabile cioè la norma dice chiaramente che per le attività sportive non è più consentito l'erogazione di compensi se non occasionali e destinati al risultato dell'attività sportiva attenzione è fondamentale questa indicazione testuale ammessa rimanga del legare il compenso al risultato il premio obiettivo non ci può essere più un compenso stabilito di etim e anche i rimborsi spese e le indennità di trasferta potranno essere erogati anche forfettariamente ma soltanto entro il limite reddituale dell'articolo 69 questo significa che tutto ciò che va sopra i 10.000 diventerà presuntivamente rapporto di lavoro subordinato sport questa è effettivamente una rivoluzione copernicana chiaramente c'è un aspetto che riguarda la tenuta del sistema ovviamente questa estensione di tutele comporta non soltanto l'estensione delle tutele diciamo di diritto al lavoratore sportivo ma anche l'estensione della copertura previdenziale della copertura infortunistica l'applicazione del testo unico sul lavoro per tutti i lavoratori sportivi e non ultimo e mi piace ricordarle anche questo perché è un ulteriore riconoscimento alle associazioni rappresentative di categoria la possibilità da parte delle federazioni di costituire un fondo per il TFR gestito anche dall'associazione di categoria il modello è quello del fondo di fine carriera del fondo di fine carriera della FIGIC questo però significa un notevole aggravio di spesa per tutte le associazioni di società sportive vi lascio con una domanda perché ho detto e parlavo un quarto e due ci siamo quindi non voglio dare giudizi io ho il doppio aspetto da un lato lavoro con i calciatori professionisti dall'altra lavoro in una federazione di lettantistica quindi vedo il buono di questa riforma che a me nella sostanza piace sul lavoro sportivo perché è sicuramente tutelante per i lavoratori dall'altra so che il sistema potrà avere subire dei notevoli scossoni da un aumento esponenziale non solo dei costi ma anche degli oneri da parte dei dirigenti sportivi che spesso non sono formati e non sono adeguatamente supportati a tutto ciò che consegue dal riconoscimento della natura subordinata al rapporto e in questo dovremmo essere bravo anche noi avvocati dello sport a dare un adeguato sostegno anche a livello formativo all'associazione certo è che è una sfida che probabilmente era necessario fare perché l'attuale sistema in cui lo dico chiaramente anche le palestre cioè tutto il mondo sportivo ruotava intorno a un regime tributario molto molto benevolo diciamo così senza nessun tipo di distinzione probabilmente era insostenibile per la platea dei varianti 3.000 lavoratori sportivi che si affacciano che si affacciano sul mondo del lavoro con delle forme lavorative diciamo ibride chiamola così chiudo solo una cosa il rapporto lavoro professionistico è stato più o meno lasciato inalterato se non per l'indicazione dell'obbligo di deposito di tutti i contratti non solo quello di lavoro il modulino ma anche dei contratti di immagine tutti i contratti accessori al rapporto di lavoro sportivo indicazione spessa e la nascita del contratto di apprendistato sportivo su cui purtroppo il tempo è tiranno e non posso dilungarmi rilevo soltanto che non è un contratto di apprendistato professionalizzante ma soltanto il contratto di apprendistato volto al conseguimento di un titolo e diploma scolastico e quindi anche su questo ci sarà terreno di scontro poi nei decreti attuativi che poi sono demandati alla competenza regionale e alla prassi poiché questo contratto di apprendistato si rivolge a tutti i lavoratori sportivi sia dilettanti diciamo del vecchio mondo dilettantistico sia del professionismo ed è un contratto una tipologia di rapporto soprattutto per i benefici fiscali che ne conseguono e contributivi che ha spiegato da tempo nel mondo professionistico e che quindi declinato in questo modo ci determinerà una notevole tensione al momento applicativo e lo poi sarà tema magari di un convegno successivo vi ringrazio spero di essere stato veloce come mi è stato chiesto e poi rimango a disposizione per le eventuali domande grazie grazie Alessio molto molto interessante sicuramente permettetemi di dire sicuramente il tema della sostenibilità economica è un tema che dovrà essere affrontato perché come tu hai perfettamente detto ci saranno una serie di costi eone di più per le società e associazioni penso soprattutto a livello dilettantistico che mettiamo a serio rischio l'intero sistema passo velocemente la parola a Sandro che affronterà in maggior dettaglio le tematiche e le novità in materia fiscale di cui Alessio ha solamente accennato so che Sandro ha delle slide da condividerci e se riusciamo a condividerle allora a tutti innanzitutto provo intanto a mettere in condivisione nel frattempo nel frattempo vi vedo che c'è qualche domanda e quando finirà Sandro faremo domande e risposte molto allo fine perfetto allora io a mia volta ringrazio sia Salvatore sia Michele sia tutti gli organizzatori che per la seconda volta vi hanno invitato a parlare nell'altro di questi anni quindi bontanoro vuol dire che forse qualcosa di buono ho fatto spero di fare anche oggi soprattutto spero di essere velocissimo e di rispettare quelli che sono i tempi che già erano stati diciamo così imposti e che probabilmente dovranno essere ancora più più stretti io avevo preparato delle slides perché il mondo fiscale già forse poco attraente di per sé per molti ovviamente per la maggioranza può avere bisogno può avere può ricevere sicuramente ausilio da qualche slide nella quale ho provato a schematizzare le situazioni in verità come ha fatto il collega Piscini che mi ha preceduto anch'io vorrei fare un primo riferimento a quella che è la situazione attuale perché non possiamo ancora dire la situazione che è che è stata perché il i primi le prime bozze di decreti legislativi in attrazione della legge delega in realtà hanno appena iniziato il loro inter quindi devono ancora fare numerosi passaggi che ho trovato a sintetizzare in questa slide quindi la conferenza stato-regioni le camere l'espressione da parere delle commissioni parlamentari quindi sicuramente non prima del 2021 e comunque in particolare quelle che sono le disposizioni relativamente al lavoro sportivo almeno nelle ultime disposizioni nelle ultime norme che ho avuto modo di vedere dovrebbero entrare comunque in vigore nel settembre del 2021 salvo eventualmente ulteriori posticipazioni anch'io infatti avevo pensato di fare un così rinfrescare le idee su quelle che quella che è attualmente la situazione quella che andrà ad essere cambiata la situazione che discende dalla legge 91 dell'81 come aver detto chi mi ha preceduto in realtà la legge regolava soprattutto il mondo degli sportivi professionisti l'articolo 2 e 3 diceva chi erano gli sportivi professionisti e in un certo senso tutto il resto del mondo che praticava sport era considerato sportivo professionista sportivo direttante sportivo amatoriale come lo volessimo definire ma comunque appunto non professionista e questo andava da chi si metteva ai calzoncini la domenica per fare la corsa vera e propria amatoriale a magari appunto chi giocava nel calcio in serie D ma anche semplicemente chi ad esempio giocava in basket a 2 o magari anche il campione di automobilismo eccetera quindi anche con dei redditi che potevano essere diciamo così meglio alti ma appunto con un trattamento fiscale decisamente di favore appunto quello del combinato di sforzo degli articoli 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi questi erano i soggetti ma sono già stati ricordati che sono qualificati come quelli che possono nell'ipotesi in cui eserciti un'attività sportiva con continuità con una retribuzione e in uno delle federazioni che hanno conservato il riconoscimento del settore professionistico ho indicato in particolare l'aspetto femminile perché come vedete era presente solo è presente in due su quattro e perché è uno dei punti su cui la riforma dice di puntare maggiormente tant'è che lo vedremo tra poco l'articolo 25 in particolare specifica proprio senza distinzione di genere tendendo di sollevare diciamo così allo stesso livello il termine forse improprio non che ce ne fosse bisogno probabilmente nella maggior parte dei casi l'universo femminile è molto sopra quello mastire ma purtroppo in quello sportivo e soprattutto nel riconoscimento di ambito professionistico purtroppo così non era così non era così non è e speriamo invece che appunto al più presto questa situazione possa cambiare l'articolo 3 ci diceva appunto che della legge 91 dell'81 le prestazioni appunto professionali erano o un oggetto di un contratto di lavoro dipendente o il oggetto comma 2 di un contratto di lavoro autonomo quindi partendo da quella che è una qualificazione giuslavoristica avevano un contratto di lavoro subordinato o in alcuni casi particolari un contratto di lavoro autonomo in realtà para subordinato la giurisprudenza della cassazione ci aveva poi chiarito che questi sporadici casi erano ad esempio soprattutto quelli di quando l'atleta giocava per la nazionale per cui comunque la frequenza alle sedute di allenamento le partite da giocare eccetera eccetera erano sicuramente un numero minore rispetto a quella del lavoro dipendente vero e proprio e quindi corrispondentemente avevamo questa e abbiamo tuttora ripeto fino a che i decreti non saranno emanati in via definitiva abbiamo questa situazione quindi sportivi professionisti che hanno rapporto di lavoro subordinato autonomo che produrrà quindi un reddito da lavoro dipendente un reddito da lavoro autonomo in realtà più parasubordinato che è comunque un reddito al quale non è attribuibile né l'imposizione IRAP né quella IVA per gli sportivi professionisti abbiamo detto più volte non esisteva una norma ad hoc erano individuati per posizionare il negativo il via residuale quindi chi non era professionista era non professionista amatoriale eccetera e da un punto di vista tributario regolati dall'articolo 67 nel quale le indenità di trasferta risporsi fospettari premi compense eccetera erano considerati redditi diversi e poi il successivo articolo 69 del medesimo testo di proposti sui redditi che ci diceva che c'era una cosiddetta oggi molto di moda come termine no tax area fino a 10.000 euro quindi per tutti quegli monumenti ricevuti sotto forma di indemnità rimborsi forfettari premi compense eccetera fino all'importo di euro 10.000 eravamo in una no tax area per l'espressa addizione della questo articolo 25 della legge 233 del 99 le somme superiori ai 10.000 dovevano poi essere suddivise fino a 28.000 prima e 30.000 poi perché il limite dei 10.000 nel tempo passato era in realtà di 7.500 elevato a 10.000 quindi conseguentemente il limite dei 28 dovrebbe essere sollevato dovrebbe essere salito a 30.000 per 58 quindi dicevamo fino a 10.000 no tax area oltre i 10.000 e fino a 30.000 una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23.9% e oltre i 30.000 una ritenuta a titolo del conto sempre nella misura del 23.9% avevamo quindi dal punto di vista giuslavoristico e conseguentemente anche tributario questa classificazione tra sportivi professionisti espressamente regolati dalla legge 91 dell'81 sportivi non professionisti direttanti che erano il mondo residuale e la giurisprudenza in realtà anche cioè la dottrina scusate in realtà anche la giurisprudenza addirittura a livello europeo aveva cominciato a riconoscere una particolare situazione che poteva essere quella dei professionisti di parco cioè di tutti quei soggetti che teoricamente rientravano cioè non rientrando nel mondo dei professionisti rientravano nel mondo dei direttanti ma per quella che era un impegno profuso nell'attività le ore passate a svolgere l'attività e magari anche forse soprattutto quello che erano gli monumenti che perciutivano potevano essere sicuramente più avvicinati ai professionisti e quindi poter essere considerati come professionisti di parco su questa normativa va ad incidere vanno ad incidere le bozze di decreti legislativi approvati appunto in via preliminare e oggi ci occuperemo mi occuperò prevalentemente di quello che riguarda il settore del lavoro sportivo come vi ho detto precedentemente c'è un tentativo per lo meno a livello così di normativo poi vedremo se la realtà dei fatti seguirà questa intenzione del legislatore di indicare quale lavoratore sportivo gli stessi soggetti che erano indicati nel vecchio articolo 2 della legge 91 dell'81 quindi l'atleta allenatore l'istruttore eccetera in realtà con l'aggiunta scusate dell'istruttore perché non era salvo miei errori indicato nell'articolo 2 della legge 91 dell'81 né il direttore di gara ma soprattutto questo inciso vi dicevo l'intenzione del legislatore senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o direttantistico quindi già da questa prima lettura della norma possiamo vedere come si sia andata a modificare l'inquadramento giurlavoristico prima e conseguentemente poi per quello che mi riguarda l'ambito tributario perché ora la differenza non è tanto tra professionista e non professionista meglio non sarà tanto tra professionista e non professionista quanto tra soggetti che esercitano l'attività sportiva dietro versamento di un corrispettivo e quello che invece lo fa senza ricevere alcun corrispettivo o perlomeno perché poi vedremo che restano comunque le varie edizioni di indemnità rimborsi spese e compensi per particolari situazioni la la norma ampia tra l'altro le categorie diciamo così sempre gius lavoristico tributaristiche all'interno del quale può essere esercitata l'attività di lavoratore sportivo prima sapevamo che era soltanto quella di lavoratore dipendente quindi contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo al contrario già adesso nel comma 2 dell'articolo 25 troviamo tre differenti ipotesi quella del lavoro subordinata quella del lavoro autonomo e quello delle collaborazioni coordinate e continuative dopodiché all'articolo 4 vediamo che c'è la possibilità di utilizzare anche quella che è lo strumento delle prestazioni occasionali quindi ho provato a fare un flowchart di questa nuova divisione operata dalla forza del dettivo 24 novembre 2020 e da una parte abbiamo il lavoratore sportivo disciplinato dell'articolo da 25 a 27 poi lo sportivo amatoriale di cui ci scoperemo tra poco e il lavoratore sportivo può esercitare l'attività come lavoro subordinato autonomo collaborazione coordinata e continuativa e prestazione occasionali vi ricordo che per espressa dizione dell'articolo 27 eh con i due e tre eh un po' similmente a quello che accadeva con la legge 91 eh dell'81 c'è una presunzione eh di eh reddito da eh scusate di rapporto di lavoro subordinato e quindi di reddito da lavoro dipendente nel caso in cui l'attività del lavoratore sportivo retribuita sia un'attività esercitata all'interno di eh federazioni eh riconosciute appunto come eh professionistiche abbiamo una serie di eh rinvine le norme che eh poi seguono eh per cui tutto quanto non disciplinato da questo decreto per tutto quanto non disciplinato da questo decreto occorre fare riferimento alla legge su rapporti di imprese e quindi in particolare anche per l'aspetto eh tributario e ehm il fatto che eh per tutto quanto non regolato l'appetente decreto chiaramente il eh riferimento è anche alla ehm testo unico delle imposte dei surredditi in ehm materia tributaria andando quindi velocemente e mettendo a consorso le due normative eh legge novantuno dell'ottantuno distinzione tra portivi professionisti e non professionisti eh bozza di legge di eh decreto eh legislativo del ventiquattro novembre distinzione tra lavoratori sportivi che sono quelli eh retribuiti e i eh gli sportivi armatoriali che sono quelli non eh retribuiti in questo caso abbiamo già detto eh i lavoratori sportivi hanno questa eh quadripartizione in eh lavoro subordinato autonomo pococco e prestazioni occasionali e quindi ho indicato qui quali sarebbero le norme di riferimento da un punto di vista tributario se si tratta di eh rapporto di lavoro subordinato abbiamo un reddito da lavoro dipendente articolo cinquantuno testone su redditi lavoro autonomo avremo in questo caso un vero e proprio reddito da lavoro autonomo quindi articolo cinquantaquattro redditi assimilati a eh quelli da lavoro dipendente pococco eh articolo cinquantatre comma tre e infine i classici redditi eh diversi dell'articolo sessantasette mi arrivo a concludere con eh una veloce descrizione di quella che invece è quello che è il trattamento eh tributario per le prestazioni sportive amatoriali che in realtà eh non è profondamente cambiato anzi forse non è assolutamente cambiato nel senso che ciò che innanzitutto distingue le prestazioni sportive amatoriali da quelle di lavoro sportivo è il fatto come già detto che devono essere gratuite e eh senza fini di lucro l'articolo ventinove che se ne occupa al comma due eh ci dice però ci ricorda che eh possono essere eh comunque riconosciuti dei compensi occasionali e questo secondo me potrebbe essere un eh eh problema andare nel futuro probabilmente anche fonte di eh contenzioso che cosa si intenda per occasionale purtroppo molto spesso il eh legislatore sia eh dall'ambito giustavoristico sia dall'ambito tributario ci ha abituati a questa espressione attività occasionali compensi occasionali ma senza poi definire in che cosa veramente eh consista l'occasionalità quindi in questo caso sono ribaditi quelli che sono i limiti e le situazioni almeno fino a diecimila euro che già conoscevamo per quelli che erano eh l'ambito degli sportivi amatoriali della legge novantuno eh dell'ottantuno e quindi vado velocemente a questa slice conclusiva nel quale vediamo a confronto la legge novantuno dell'ottantuno vi ricordate aveva fino a diecimila nota zarea da diecimila a trentamila ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23 e 9 e oltre i trentamila ritenuta a titolo di appunto nella misura del 23 e 9 in questo caso invece la situazione nella prima eh come dire nella prima fascia è assolutamente uguale nel senso che fino a diecimila euro annui eh non c'è eh tassazione non ne concorrono ci dicono ci dice il combinato disposto dell'articolo 29 dell'articolo 36 non concorrono a formare il reddito come ha ben ricordato prima di me il collega Piccini il problema sorgerato probabilmente con il superamento della soglia dei eh diecimila eh euro annui come eh compensi rimborsi in manità eccetera perché in questo caso le prestazioni sportive eh sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25 per l'intero importo quindi dovrà essere probabilmente fatta una eh riqualificazione giuslavoristica e anche tributaria di quella tipologia di reddito all'interno delle quattro categorie di ehm reddito di da lavoro eh sportivo che avevamo indicato precedentemente spero di non aver sporato troppo e ho concluso grazie 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 Sandro grazie mille sei stato perfetto eh non ci sono eh particolari domande specifiche ma c'è una in chat c'è una profonda discussione che eh di cui vorrei eh renderti partecipi in parte Sandro hai già risposto tu eh con l'ultima slide perché si eh si appunto si parlava della della del della criticità del superamento della soglia di diecimila euro che eh insomma che poi fa eh scattare le 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 l'attività di lavoratore sportivo invece che amatore che sicuramente è una criticità da da tenere conto soprattutto nell'arco dell'anno e dei compensi ricevuti durante l'anno l'altro aspetto invece eh su cui volevo eh avere un vostro momento e che eh molti soci hanno affrontato durante il vostro intervento riguarda appunto quella già citata sostenibilità della della riforma eh ci sono tante 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 idee che sono venute fuori quali eh delle detrazioni fiscali delle degli incentivi particolari da parte del governo per una serie di attività a livello immobiliare a livello di impiantizia sportiva non misure di puro assistenzialismo ma eh insomma degli incentivi che potrebbero eh venire in aiuto delle piccole società o associazioni sportive che si troveranno senza 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 condubbio con maggiori coste e oneri quindi volevo un vostro commento su questo argomento brevemente eh due minuti ciascuno iniziamo con Alessio grazie sì molto velocemente eh sul discorso di 10.000 ha ragione ha molta ragione d'altronde siamo di fronte a un testo che innova e come andrà nella prassi non lo so punti critici ce ne sono uno è quello eh d'altro canto ripeto anche sulla sostenibilità abbiamo ho rilevato che nella conferenza stampa il ministro eh citava il cocco sportivo la contribuzione sul cocco sportivo come la base sembrava quasi essere questa mentre la norma sembrarebbe più propendere per il rapporto di lavoro subordinato specialmente per i calciatori o per gli atleti che svolgono un'attività del tutto consimile ai dipendenti del settore professionista quindi abbiamo un terreno di scontro notevole certo è che il mondo sportivo direttantistico oggi andrà in grossa difficoltà per l'aumento dei costi e anche per l'aumento dei costi non solo diretti ma anche indiretti derivanti da questa da questa riforma le vostre proposte sono tutte corrette andrebbero girate al legislatore più che chieste a noi perché è assolutamente prioritario oggi tenere in sicurezza il sistema andrà fatta una valutazione anche complessiva di questa riforma io dico sinceramente tutti e cinque testi non l'ho letti e penso penso purtuttavia che un passo in avanti sia stato fatto perché il mondo il nostro mondo il mondo dello sport direttantistico comunque versava già in una situazione abbastanza critica ovviamente una riforma del genere è una spinta importante sarà nostro onere indirizzarla nostro onere come operatore di diritto molti di noi sono dirigenti sportivi oltre a volare e tutto indirizzarla verso la sostenibilità anche sollecitando degli strumenti necessari che consentano alle società di non di non soccombere perché le sponsorizzazioni ho letto prima giustamente che le sponsorizzazioni devono essere necessariamente defiscalizzate perché obiettivamente oggi molto il mondo dello sport lavora su quello è una battaglia che andrà fatta anche perché viviamo in una situazione di post pandemia dove sarebbe sempre più difficile anche provare le sponsorizzazioni quindi sarà necessario che tutto il sistema faccia squadra per cercare di gestire il futuro però ritengo che la direzione data da questa riforma sul lavoro sportivo il resto non l'ho ancora affrontato così analiticamente sia quella corretta l'ultima cosa che lo dico per Michele non è esercizi sia gnostica ma prognostica mi raccomando perché lui ancora sul Toscano grazie a tutti vedo che si è vedo che si è collegato il professor Sandulli che voleva intervenire sul tema sì la prima intervento era esplicitazione di quel dubbio messo in piattaforma spero come dice Alessio che mi ha detto qui però AIAS ha anche un ruolo l'ultima questione che potrebbe incontrare questa norma la sentiamo malissimo la sentiamo malissimo adesso un po' meglio grazie tutta la normativa partiliata questa norma dice che al superamento della soglia dei 10.000 euro l'intero importo rientra nel nuovo no professore mi scusi ma abbiamo problemi con l'audio provo così se no rinunco così è perfetto ok rischiamo di sentire i rumori dei gatti e delle stoviglie ma va bene uguale la norma prevede che al superamento dei 10.000 euro l'intero importo si dice la norma articolo 29 com 2 esce dall'ambito degli amatori e rientra negli sportivi professionali quindi i 10.000 euro sono al nuovo confine non è più direttanti professionisti ma sportivi professionali che prendono più di 10.000 euro e sportivi amatori il problema è che se mi dici l'intero importo di premi io lo scopro o meglio per tutti quelli che stanno a cavallo è chiaro che chi sta a 2-3.000 non avrà mai il problema chi sta a 20-30.000 non avrà mai il problema ma i giuristi si occupano delle zone di confine non delle zone facili chi sta a cavallo lo scopre a fine anno magari con un datore di lavoro committente a seconda se subordinato o autonomo diverso a parte che magari potrebbe avere interesse a quel punto a farli diventare in nero e aspetti patologici ma stiamo anche alla fisiologia lo scopro dopo a novembre a dicembre e devo rincorrere il vecchio colui che mi aveva dato il corrispettivo che in quel momento sembrava mera in denitagli e scopro che invece ci paga le tasse e i contributi ma non se ne esce più tutto può essere migliorato ma nel nostro ordinamento abbiamo una norma di questa natura che la compenso per gli occasionali che ugualmente al superamento dei 5.000 euro fa cambiare il regime ma fa cambiare il regime dall'euro dopo i 5.000 non è che dice l'intero compenso io prendo 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro finché sono i 5.000 ho un regime devo io prestatore di opera comunicare al mio committente se sta superando o meglio se lui è il primo a superare e quello nuovo l'ultimo che arriva pagherà tasse e contributi ma non che vado a ritroso è veramente questa secondo me è una norma che potrebbero avere il tempo di correggere anche in fase di commissioni perché sarebbe una mera coerizione tecnica e non di principio se non scatena l'ira di Dio per tutti quelli che stanno a cavallo tra gli 8.000 e i 12.000 punto grazie professore sicuramente un intervento corretto da un punto di vista tecnico e che va sicuramente approvendito chiedo a Sandro due minuti su questo e poi chiudiamo che siamo in super ritardo grazie mille sono assolutamente d'accordo anche perché questa era del resto l'impostazione precedente della legge 91 dell'81 per cui fino a 10.000 c'era ugualmente la tax area al superamento di quella soglia semplicemente si procedeva con la tassazione nelle due modalità che abbiamo detto prima quindi con ritenuta da conto e ritenuta a titolo di imposta ma chiaramente riguardava quella parte successiva non andava ad incidere questo aspetto i previ 10.000 che comunque restavano come no tax area quindi su questo sono assolutamente d'accordo un cambio in corso d'anno di regime è un problema non tanto forse per il soggetto che quelle somme percepisce perché magari vabbè se ne renderà conto poi l'anno prossimo dovrà fare una dichiarazione diversa l'anno successivo dovrà fare una dichiarazione diversa da quella che pensava ma come giustamente diceva il professor Sandulli è un grosso problema per chi quelle somme le ha erogate e non ha operato probabilmente le ritenute che doveva operare dal punto di vista tributario dal punto di vista contributivo perché questo aspetto coinvolge entrambi gli ambiti sia quello tributario e sia quello contributivo quindi con un grosso problema adesso poi non vorrei esagerare ma non ci dimentichiamo che sia l'ambito tributario che quello diciamo così contributivo al superamento di certi soldi per chi non opera la ritenuta da conto magari perché pensava di non doverlo poi fare scoccia anche in ambito penale quindi poi i problemi diventerebbero veramente veramente enormi certamente potrebbe essere soltanto una svista ma forse è proprio ruolo di noi primi commentatori andare a sollevare questa problematica e invitare il legislatore a come dire correggere il tiro su questo aspetto ne approfitto solo mezzo minuto per dire una cosa in più perché è un ulteriore punto che non ho voluto indicare prima ma che a me resta ancora un attimo oscuro nel momento in cui la la il rinvio viene fatto a reddito da lavoro sportivo se comunque veramente resta l'essenzione oppure no vi spiego meglio in verità c'è una norma all'interno appunto del decreto legislativo che dice che comunque l'essenzione si applica anche quella mi riferisco fino a 10.000 euro al reddito da lavoro sportivo quindi da un lato si dice tutto rientra nel parderone quindi tutto diventa passabile dall'altro si dice l'essenzione di 10.000 opera anche per il reddito da lavoro sportivo e allora sinceramente io non capisco più niente grazie Sandro beh sicuramente sicuramente se dovesse essere così effettivamente così potrebbe risolvere un po' anche il requisito del professor Sanduli e i dubbi che entrambi avete rappresentato io stiamo in ritardo devo chiudere i lavori vi ringrazio ringrazio enormemente Alessio Sandro e chiunque è intervenuto in questa giornata di lavori adesso lascio la parola ad Alessandro per l'inizio dell'assemblea grazie perfetto mi associo con te ai ringraziamenti ad Alessio e al professor Censi devo dire Alessio è stato molto chiaro al professor Censi ha fatto un lavorone con le sue slide veramente molto interessanti allora io lascerai la parola a Salvatore e a Michele anzi prima a Michele per i saluti istituzionali e successivamente a Salvatore grazie mille a tutti penso che sia stato un bellissimo bellissimo convegno anche grazie non solo alla qualità delle relatori delle loro relazioni ma anche all'intervento di tutti credo che abbiamo dato veramente spazio a tutte le persone io ho subito la parola a Salvatore permettendomi di soltanto sottolineare questo che Aias veramente sta andando a livello internazionale abbiamo soci italiani che si sono iscritti all'Aias e abbiamo anche soci stranieri che parlano italiano e si sono iscritti si sono iscritti ad Aias e oggi credo che con il bellissimo intervento di James abbiamo aperto soltanto la strada la breccia per fare sempre di più e meglio a livello internazionale anche in collaborazione con le altre associazioni Salvatore ti do subito grazie professore wow io penso che davvero l'evento di oggi abbia fornito un po' di risposte ai nostri soci e abbia fornito l'opportunità di un interessantissimo confronto mi è piaciuto tantissimo il bot e la risposta tra i partecipanti ai webinar e i relatori che ringrazio tutti per aver dedicato il loro prezioso tempo non solo a preparare i loro interventi ma anche a rispondere puntualmente alle domande quindi grazie mille siamo in ritardo quindi non mi divulgo molto in quanto abbiamo da ascoltare i nostri coordinatori regionali i nostri coordinatori delle commissioni di lavoro e soprattutto i miei colleghi membri del consiglio direttivo che da ormai diversi anni lavorano senza sosta per portare avanti quelli che sono i progetti associativi associativi non mi dilungo però una cosa la voglio dire noi dal 2013 da quando l'associazione è nata ed eravamo in 5 in una pizzeria di Roma a mangiare una pizza a pranzo e abbiamo deciso di crearla siamo andati avanti con molta passione ogni tanto abbiamo avuto qualche problemino ci siamo strutturati siamo cresciuti e lo abbiamo fatto grazie a voi grazie ai soci mi rivolgo non solo ai 93 partecipanti di questo momento di Zoom ma a tutti quelli che sono intervenuti prima interverranno dopo possono seguire via Facebook oppure ascolteranno il video vedremo il video dell'administrazione di oggi nelle prossime ore nei prossimi giorni e grazie a voi se andiamo avanti ovviamente nessuno è perfetto anche noi dobbiamo affinare i nostri meccanismi dobbiamo crescere dobbiamo produrre il diritto però nessuno può dire nulla su un elemento fondamentale e parla spesso il professor Colucci è la passione che ci lega a tutti noi per il diritto sportivo e vi volevo annunciare un aggiornamento su un obiettivo molto importante dell'associazione ovvero quello della firma finalmente abbiamo parlato già febbraio del protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense purtroppo dopo l'evento di febbraio a CNF è avvenuto quello che tutti voi sapete e c'è stato un rallentamento fisiologico ma auspico che questa firma di questo protocollo arrivi nelle prossime settimane così come è addirittura d'arrivo un tariffario forense per le procedure sportive pubblicato dal CNF Commissione Diritto Sportivo per il quale grazie ovviamente al lavoro pregresso del Consiglio Direttivo ma soprattutto all'interessamento dei membri della Commissione CNF Diritto Sportivo Soci Arias e mi riferisco a Luiz Vizzino a Sella Fasca e a tutti gli altri colleghi che anche se non sono Soci Arias sono amici dell'Aias abbiamo potuto condividere noi con loro la prima bolsa del tariffario che è stata elaborata dal Consiglio Direttivo non so quando verrà pubblicato ma anche assicurato che è questione di poche settimane quindi direi avanti così avanti tutti uniti ritenete il Consiglio Direttivo sempre a vostra completa totale disposizione noi cerchiamo di fare del nostro meglio e speriamo tanto che la prossima Assemblea così come abbiamo tentato già quest'estate perché avevamo previsto originariamente di tenerla a Roma il primo di ottobre speriamo tanto che questa la prossima Assemblea si terrà di nuovo in presenza e potremo di nuovo salutarci abbracciarci confrontarci in presenza e andare a condividere anche qualche momento di spensieratezza magari per una cena o per una per una penitina e cedo la parola al tesoriere che lo vedo bello pronto per illustrare il conto economico che sicuramente trovate sul sito e penso che sia l'unico punto all'ultimo del giorno da approvare però su questo lascio la guida dell'Assemblea delle fasi successive al nostro amatissimo segretario generale Alessandro Conte. Grazie. Grazie Salvo. Allora, prima di procedere con le relazioni dei membri del Consiglio Direttivo, fatemi dire, spendere due parole, non serve ricordare quanto sia stato un anno difficile, abbiamo affrontato delle restrizioni, delle limitazioni, prima personali piuttosto che professionali, però penso che sia emerso un elemento da questo anno, cioè che l'Associazione e i suoi membri sanno fare squadra. Quando c'è stata l'occasione abbiamo saputo confrontarci e soprattutto anche affrontare delle sfide, perché io ho visto colleghi che nell'arco di un weekend sono diventati degli esperti sulle conferenze su Zoom e su Teams, hanno saputo creare nuovi format, penso al salotto giuridico, i social sono diventati effettivamente un aspetto vitale di questa associazione, la newsletter ci ha tenuto ancora più uniti durante questi mesi, è diventato un elemento di informazione interna ma anche verso l'esterno e questo si riflette sul fatto che i soci sono cresciuti, sono cresciuti i coordinamenti regionali, sono cresciute le commissioni di lavoro, non solo quelle strettamente legate agli aspetti professionali, però ci sono commissioni che si occupano come sport femminile o sulla disabilità, che ci ricordano che come operatori, come appassionati di sport, dobbiamo affrontare tematiche a 360 gradi. Infine, questo era poi l'anno zero anche del nuovo consiglio direttivo, anche grazie a loro e a tutti i membri che adesso vado a presentare, abbiamo fatto un grande lavoro, anche grazie ad Antonella e a Raffaella Santorza che hanno collaborato con noi in questi mesi. Allora, rispetto a quella che era l'ordine, chiederei a Francesco di presentare subito la relazione al bilancio in modo che possiamo votarla. Per votarla utilizzerei questa tecnica, nel senso che darei una sorta di silenzio assenso sulla votazione, salvo che qualcuno abbia un'opposizione, può accendere la telecamera, il microfono ed eventualmente esprimere il proprio dissenso. Ok, grazie Francesco Procevi. Ciao, bentrovati a tutti, è un piacere incontrarvi qua. Sarebbe stato bello ovviamente vederci di persona a Roma o da qualche altra parte in Italia, questo non è ancora consentito ma presto lo faremo. Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti i miei colleghi del direttivo per il lavoro svolto in questo anno zero, come diceva prima il collega. Ringrazio anche particolarmente la nostra Raffaella e la nostra Antonella che ci danno un supporto concreto per quanto riguarda l'attività di gestione anche del bilancio, per la raccolta anche delle quote associative. Io non mi dilungo troppo anche perché già da diversi giorni trovate sia sul nostro sito che tramite newsletter il rendiconto dell'anno 2019 e del bilancio dell'associazione con il rendiconto e la relazione che ho predisposto insieme al nostro commercialista di fiducia. Quello che posso dire è che quest'anno il nostro conto si è chiuso con un avanzo di gestione, per fortuna, e come sempre le nostre entrate principali sono quelle delle quote associative, l'unica nostra ponte di sostentamento. E per questo è che mi invito sempre nelle vostre possibilità a cercare di rispettare i pagamenti anche per far sì che i nostri coordinamenti possano trarne beneficio. Infatti, come ben ricordate, ogni coordinamento riceve dal nazionale un contributo di 300 euro annui. Ora, per quanto riguarda il 2020, lo affronteremo l'anno prossimo, quest'anno non ci sono state spese anche perché i nostri eventi si sono tutti svolti tramite Zoom. Però, per quanto riguarda il 2019, abbiamo avuto diverse spese. Infatti, trovate tutto il rendiconto delle spese che ammontano a 28.836 euro contro i 28.921 euro di entrate che sono appunto le quote associative. Per quanto riguarda le spese sostenute dall'associazione, volevo solo ricordare appunto i compensi di lavoro occasionale per la gestione della segreteria, i costi di contabilità e presentazione di dichiarazioni fiscali, le rimborse spese per eventi spese per viaggi e trasferte, i servizi bancari, le imposte di bollo di conto corrente, appunto i 300 euro che dicevo che viene riconosciuto a ogni coordinamento. E se ci sono delle domande particolari, me le potete indicare. Io comunque rimango sempre a vostra disposizione anche durante il corso dell'anno per ogni questione o chiarimento che vi viene in mente in merito al nostro bilancio. E se non ci sono altre domande, io penso che potremo già provvedere all'approvazione. Ecco. Allora, apriamo questa forma, capisco comprendo un po' anomala di votazione, però diciamo che se qualcuno ha delle obiezioni o come diceva Francesco delle domande, può accendere la telecamera e il microfono e porle, altrimenti diamo per approvato la relazione di bilancio e procediamo con i lavori. La votazione è aperta. Direi che, mettiamo il canonico qualche secondo, ma insomma direi che la relazione possiamo considerarla approvata, quindi anche il bilancio, e possiamo procedere con i lavori. Prego, salvo. Scusami Alessandro, io ribadirei a tutti i soci che sul sito dell'associazione ci sono tutti i conti, tutti i lanci, tutti i riepiloghi, dalla data di grezzo dell'associazione fino ad oggi. In qualsiasi momento ogni socio può accedere a tutte le informazioni e chiedere anche come opere. Giustamente, come diceva Francesco, abbiamo un tesoriere che è pronto a rispondere a eventuali domande. Ora, stravolgere un attimo l'ordine degli interventi, perché vedo che Priscilla è già collegata. Allora, se Gianmaria me lo consente, darei la parola a lei, se vuole dire qualche parola in relazione all'attività del Consiglio Direttivo, e poi fare parlare Gianmaria. Sì, grazie Alessandro. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io volevo, scusatemi ma in primis, ringraziare tutti i colleghi del Consiglio Direttivo. Onestamente quest'anno è stato un po' un banco di prova perché ci sono stati degli inserimenti nuovi che, vi dico la sincera verità, sono stati a dir poco preziosi, hanno portato nuova linfa ed entusiasmo all'associazione. Penso che, nonostante un anno davvero difficile per tutti, credo che anche voi ve ne siete resi conto. Insomma, alla fine considerate che in quest'anno, anche se la situazione è quella che è, non ci siamo comunque potuti riunire quindi di persona. abbiamo fatto davvero tantissime riunioni, chiaramente webinar, riunioni del Consiglio Direttivo e soprattutto tutti quanti i soci si sono dati da fare per organizzare i nostri canonici convegni annuali. Considerate che quest'anno tramite webinar sono stati fatti una trentina circa di eventi da tutti i coordinamenti regionali, quindi penso che quest'AES, nonostante il periodo di difficoltà, stia andando avanti, diciamo, alla grande, chiaramente con la speranza di poterci vedere di persona il prima possibile, però devo dire che sono contenta ed entusiasta, in realtà, di questo nuovo Consiglio Direttivo che sta veramente dando il meglio di sé, a mio avviso. Quindi, ecco, permettetemi, insomma, di ringraziare tutti quanti e non dimentico, ovviamente, sia Antonella che Raffaella che anche loro sono state molto preziose in quest'anno difficile e ci hanno, da dietro le quinte, aiutato tantissimo. Continuiamo così, ecco, questo è, diciamo, l'augurio per il proseguo e per il futuro sperando di vederci il prima possibile. Grazie, Alessandro. Perfetto, grazie. Allora, passerei a Daniele, se ha qualche parola, insomma, in relazione all'attività del Consiglio Direttivo, e poi a Roberto, così almeno siamo un po' più fluidi. Non c'era Gian Maria? Gian Maria la facciamo per ultimo. Ok, perfetto. No, io veramente, veramente molto, molto veloce, intanto ringrazio Riccilla, non so se riferimento a Gian Maria, ma grazie, grazie, grazie mille. No, allora, io come sapete sono un socio della prima ora, perché quando l'associazione è stata fondata ero uno degli studenti del master di Michele, quindi ho fatto la tessera subito, e sono sempre, penso, partecipato abbastanza attivamente alla vita sociale dell'associazione e da ormai una decina di mesi faccio parte con grande onore del Consiglio Direttivo, che, devo essere onesto, non credevo da fuori lavorasse in questa maniera, nel senso che c'è un lavoro enorme che forse da fuori non si riesce a percepire, e quindi congratulazioni a tutti i membri del Consiglio Direttivo per il lavoro fatto negli anni passati e quello che ho fatto quest'anno dove ho potuto assistere direttamente. Ma grazie soprattutto a tutti i soci, perché solo da dentro ci si rende conto del lavoro enorme e della passione che c'è da parte di tutti i soci, soprattutto dei coordinamenti regionali e delle commissioni di lavoro, che veramente in quest'anno complicato hanno ancora di più apportato grande professionalità, grande sostanza, diciamo, alla vita associativa. E ci tengo anche a sottolineare il lavoro bellissimo che secondo me è stato fatto a fine febbraio, inizio marzo del 2020, da parte dell'associazione, quindi con il supporto e l'aiuto di gran parte dei soci su dei pareri, delle osservazioni che sono state mandate al Ministero dello Sport su appunto i decreti attuativi di cui abbiamo parlato anche oggi, che secondo me è stato un lavoro molto molto importante, molto molto bello e come diceva qualcuno stamattina, non mi ricordo esattamente chi, ci piace pensare che è stato analizzato e visto dagli organi competenti anche nella definizione del testo appunto che è stato approvato preventivamente dal Consiglio dei Ministri un paio di settimane fa. Quindi grazie a tutti e passo a lavorare al prossimo. Vai Roberto. Sì, buon pomeriggio a tutti, io solo per ringraziarvi. Grazie per essere qui presenti, anche se telematicamente. Grazie per quello che avete fatto, che fate, che farete per l'associazione. Grazie ai coordinatori e ai coordinatori regionali, ai coordinatori delle commissioni lavoro che stanno sempre aumentando, fortunatamente. Grazie ai colleghi del Consiglio Direttivo, con i quali ormai si è instaurato un rapporto non solo di colleganza ma di vera e propria amicizia e con i quali abbiamo cercato, soprattutto in questo periodo di pandemia, di tenerci e tenervi uniti per il bene dell'associazione. Io non posso che essere contento per quello che è stato fatto finora. e vedere oggi uno dei massimi rappresentanti della FIFA essere presente a un nostro evento e inserire il logo della nostra associazione a quello della FIFA, beh, è un motivo di orgoglio e anche di soddisfazione per quello che è stato fatto. Oltre ai consiglieri, ovviamente, ringrazio Antonella e Raffaella per quello che fanno, per l'associazione. Noi rimaniamo, ovviamente, sempre a vostra disposizione e l'auspicio è che sia stata la prima e ultima assemblea in forma telematica. Un abbraccio a tutti. Grazie. Allora, io adesso, prima di passare la parola a Gian Maria, ricorderei che Gian Maria è stato anche responsabile della commissione ad hoc che abbiamo creato sul tema degli agenti sportivi, quindi gli chiederei di dirci due parole sull'attività del Consiglio Direttivo, ma soprattutto poi di illustrarci quella che è stata la sua esperienza in una, insomma, di quelle commissioni ad hoc a cui mi riferivo quando dicevo che abbiamo dimostrato di saper fare squadra in un momento quando siamo chiamati, diciamo, a confrontarci su certe tematiche. Grazie. Eccoci qua. Allora, io ringrazio tutti i soci, ringrazio tutti i coordinatori, ringrazio il Consiglio Direttivo. Non sono parole di circostanza, ma in un anno che in qualche modo ha distanziato le persone, credo che noi abbiamo avuto comunque la forza di rimanere uniti perché il lavoro continuo che abbiamo fatto come Consiglio Direttivo, il lavoro continuo che hanno fatto i coordinatori, i social ci hanno aiutato. È chiaro che diventa difficile pensare all'associazionismo in un momento di questo tipo. È sempre molto difficile, è sempre molto complicato perché ovviamente in una fase di difficoltà vedersi, ragionare, guardarsi negli occhi è un elemento che aiuta. Quindi io sinceramente all'inizio, quando eravamo partiti con entusiasmo, poi ci siamo trovati bloccati, mi ero spaventato. Nel senso che ho pensato che sarà difficile riuscire a fare un lavoro che in qualche modo tenga unita l'associazione e i soci. Invece devo dire che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo sempre e comunque organizzato eventi importanti nei vari coordinamenti regionali. Come Consiglio Direttivo abbiamo sfornato tantissime newsletter e abbiamo creato un sottogruppo, questo è un po' qualcosa dietro le quinte, che abbiamo definito Task Force con i colleghi del Consiglio Direttivo, dove abbiamo sempre veicolato delle news che andavamo a pubblicare nei momenti più bui del famoso lockdown. Ecco, queste piccole cose danno il peso e il senso del rapporto che c'è tra di noi, della passione che ci mettiamo, perché credo che anche in quel momento, in quel periodo, aprire le pagine social dell'associazione e vedere che c'erano sempre delle fresche novità, per il socio potrà essere qualcosa di utile, di interessato. E quindi credo che anche da questo punto di vista tutto il Consiglio Direttivo sia stato sempre presente, sempre attivo e quindi siamo stati bravi. Questo lo voglio riconoscere e credo che ci debba essere riconosciuto, perché siamo sempre stati sul pezzo. Ecco, questo è il ragionamento. Poi, se voglio e se posso, passerei alla questione della commissione agenti. Come avete visto, sia l'intervento di James, poi l'intervento di Vittorio e anche l'intervento di Mauro hanno evidenziato come il tema agenti sia un tema estremamente complicato, estremamente dibattuto e che merita tutta l'attenzione di Aias. E Aias, infatti, ha istituito una commissione che era partita, tra virgolette, a fare i spenti solo per finalizzare un lavoro che potesse essere consegnato al Ministro. Perché, come vi ricorderete, dopo il febbraio del 2020, in cui c'eravamo ripromessi dopo esserci visti per l'ultima volta a Roma, di dare un contributo, ecco, in quel momento nasce l'idea di istituirla, istituire una commissione che magari in quella fase non aveva una prospettiva lunghissima. In realtà ci siamo resi conto, e questo è merito di chi ha fatto parte di questa commissione. I nomi sono tanti, e quindi io devo ringraziare Andrea Bozza, devo ringraziare Vittorio Rigo, Lucia Bianco, tantissimi, insomma, sarebbe ingiusto poi evidenziare alcuni e non altri. Tutti quelli che hanno fatto parte di questa commissione si sono interessati sempre in maniera costante. adesso abbiamo una sfida perché questo nuovo regolamento che è uscito la settimana scorsa ci imporrà, e noi lo faremo già la prossima settimana, di confrontarci su questo nuovo regolamento. E questo lo dico come obiettivo, visto che c'è stato questo approfondimento di Vittorio e di Mauro. La scorsa settimana Lucia Bianco aveva fatto un interessantissimo webinar sul tema. adesso è uscito il regolamento, quindi per quel che riguarda la nostra commissione, oltre a guardare quello che è stato fatto, quello che andremo a fare è proprio questo, cioè organizzeremo un approfondimento su questo nuovo regolamento FIGC, perché abbiamo tutti voglia di apprendere, tutti voglia di approfondire, tutti voglia di approfondarci. Quindi grazie a tutti i membri della commissione, grazie a tutti quelli che hanno dato una mano ad IAS. Perfetto, grazie. Allora, nell'ordine adesso avrei dovuto parlare, Marco Lai purtroppo si è dovuto allontanare per un previsto impegno di lavoro, quindi si scusa ma non potrà adesso intervenire, e quindi possiamo procedere con le commissioni di lavoro. chiederei come prima commissione di intervenire al Prof Colucci, che è il promotore, diciamo, è stato una delle anime della commissione di diritto europeo e sport, se ci vuole dare un piccolo feedback di quella che è l'attività e quello che è il progetto della commissione. Grazie Michele. Grazie. 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 Michele, sei in mute. Eccoci qua, scusami. Allora, in realtà parlo a nome della collega Inara Paschi, che è la coordinatrice della commissione sport e Unione Europea. che sta qui con me a Bruxelles, e si scusa con tutti quanti voi, ma per impegni istituzionali non può essere presente. Lo dico sempre e di solito ai giovani colleghi, ricordatevi questo, che tutte le strade portano a Roma, ma prima passano per Bruxelles. Una mezza provocazione. e stanno proprio nel settore dello sport, a Bruxelles e anche a Lussemburgo, e ci sono dei casi molto importanti pendenti davanti alla Corte di Giustizia, soprattutto quello che riguarda la natura, la natura delle federazioni sportive, per un caso proprio che riguarda la FIDC, che stiamo seguendo da vicino. Invitiamo tutti i soci che hanno intenzione di interessarsi delle problematiche europee sotto diversi punti di vista, con riferimento alle organizzazioni FIFA, UEFA e altre, a contattarci. Grazie mille. Perfetto, grazie. La seconda commissione di lavoro in lista è quella sul diritto internazionale sport. Quindi chiederei a Ida Linda se vuole accendere la cam e il microfono e relazionarci su quella che è stata la splendida attività finora della sua commissione. Ciao. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, assolutamente. Perfetto, ci vediamo anche. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Un saluto a quelli che si sono appena collegati e a quelli che erano già collegati. Non rubo troppo tempo, so che stiamo andando velocissimi, quindi cerco di essere il più rapida possibile. Innanzitutto non sono neanche le mie parole di circostanza, ma voglio assolutamente ringraziare Michele per la sua attività straordinaria, perché si è fatto promotore della commissione diritto dell'Unione Europea, ma anche di questa commissione che è il diritto internazionale sport e nasce proprio dall'esigenza di avere un punto di vista e una portata internazionale. ringraziare quindi Michele, Salvatore, tutto il consiglio direttivo per la straordinaria attività che ha svolto in quest'anno così complicato. Lo dico con la massima sincerità, lo sanno i diversi membri, lo sanno anche le persone che lavorano in e per Aias, Antonella, Raffaella, che hanno fatto un lavoro straordinario. La commissione diritto internazionale sport è nata quest'anno, quindi è una delle ultime commissioni nate ed è nata proprio dall'esigenza di trattare diverse tematiche a livello internazionale, tutte le tematiche di cui ci occupiamo noi come avvocati sportivi. Ha una straordinaria sede che è una sede molto prestigiosa che molti di voi già conoscono è per il Master che ha patrocinato la stessa Aias, la stessa commissione e per le poche riunioni che fisicamente siamo riusciti a fare. Diciamo che le attività che sono state svolte compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo sono state, io ritengo, straordinarie proprio per la situazione in cui ci troviamo adesso. Quindi sia dal punto di vista delle attività che dal punto di vista dei membri che ringrazio, non faccio nomi perché so già che li dimenticherei, ne dimenticherei moltissimi, considerato che sono numerosissimi e ci tengo a sottolineare, a ringraziare i sostenitori esterni. Nel senso che, come diceva Michele, anche colleghi non italiani ma sostenitori di Aias sono iscritti ad Aias o comunque esternamente la sostengono a diverso titolo. Altri professionisti, magari non avvocati o sportivi, come nel caso della Commissione diritto internazionali del sport, sportivi di calibro internazionale che pur non essendo avvocati e neanche diciamo tecnici del settore ci consentono di avere un contributo essenziale sia per il prestigio della loro della loro persona, della loro carriera che per la quella pluralità di punti di vista che è imprescindibile di cui si parlava, parlava anche poco fa Vittorio Rigo soprattutto nel nostro settore. Abbiamo accennato al Master allora tra le varie attività che purtroppo fisicamente non abbiamo potuto riproporre ma riproporremo abbiamo proprio il Master internazionale in diritto management dello sport che mi onoro di coordinare e che vede tra i suoi insegnanti personaggi del calibro del professore Colucci ma anche personaggi che nel panorama internazionale conoscete tutti sono stati coinvolti. Brevemente faccio una carrellata su tutte le attività perché sono numerosissime parto dalle attività proprio prossime il Sicily Football Lawyer Cup che si è svolto nel 2019 e che si risvolgerà nel 2021 e vedrà coinvolti almeno 500 avvocati da tutto il mondo i Low Games che però comprenderanno non soltanto il calcio ma anche basket, corsa, nuoto tennis, fadele beach soccer beach volley football e golf che prevede la partecipazione di oltre mille avvocati da tutto il mondo il simposio internazionale sullo sport che vede coinvolte a livello internazionale tutte le federazioni le diverse discipline i diversi settori quindi sia la parte legal quindi quella proprio relativa agli avvocati che la parte commerciale e quella dirigenziale compresi anche i giornalisti cerco di essere il più veloce possibile sparatemi se è il caso a proposito di attività sul web che è stata imprescindibile abbiamo proseguito con i nostri webinar di diritto sportivo con le nostre conversazioni da casa che hanno avuto tanto di quel successo che sono state anche riproposte in tv nella newsletter sono state anche condivise e tra le tematiche affrontate io ne approfitto ancora una volta per ringraziare i membri maschili e soprattutto quelli femminili della mia commissione perché tra i vari temi trattati ho fatto una breve carrellata sulle attività ma per quanto riguarda i contributi in termini di articoli di saggi di condivisione di news eccetera mi anticipo che alcuni di questi contributi mi è stato chiesto di riproporli in testate giornalistiche con il permesso dell'autrice o dell'autore appunto a sua firma sono state appunto concesse abbiamo parlato moltissimo di dilettantismo e calcio femminile nel diciamo nel percorso verso il professionismo abbiamo avuto modo insieme alla nostra presidente FIGC della divisione calcio femminile Ludovica Mantovani la senatrice Sbrollini in tema di pari opportunità di discuterne abbiamo avuto modo di discutere della figura dell'atleta dilettante amateur in sede di webinar con l'Ibede che è l'istituto brasilero del verito deportivo con Leonardo Andreotti con Alade ieri è intervenuto Emilio Garcia Silvero della FIFA noi come commissione diritto internazionale sport io ho avuto l'onore di partecipare per parlare di sport professionale e amateur in Italia poi lo sport abbiamo avuto modo anche di confrontarci con il presidente federale Gabriele Gravina un allenatore di fama internazionale di calibro internazionale come Fabio Cannavaro nel webinar lo sport oggi dall'emergenza alla ripartenza altri temi trattati fondamentali la RUL 40 per i prossimi giochi olimpici l'ambush marketing e il tema legato al doping i whereabouts e l'integrity in generale ricordiamo ci tengo a ricordare che proprio in sede di conversazioni da casa una delle prime conversazioni fu proprio con l'allenatore della nazionale canadese di pallannuoto Xavier Jacobelli in tema di olimpiadi perché ricordiamo che il Canada fu il primo paese a boicottare anzi il Canada in tema di pallannuoto a boicottare le olimpiadi qualora non si fossero svolte oltre il 2020 e quindi da lì diciamo dalla pratica è nata anche questa condivisione con la commissione stessa per cercare di risolvere la questione pratica e poi condividere in maniera più ampia per non dedicarci solo al calcio dicevo abbiamo progetti straordinari relativi al mondo del dilettantismo ma a breve anche grazie al sostegno e all'aiuto del consiglio direttivo vi informeremo anche su quelli abbiamo parlato delle nuove regole della FINA e dei nuovi delle nuove prospettive scenari in tema di pallannuoto che è sempre un tema purtroppo legato al dilettantismo molto problematico niente brevemente per concludere devo dire che da questa pandemia da questa crisi una commissione un'associazione come Aias e le varie commissioni ripetelo commissione diritto internazionale sport prescinde sia dai coordinamenti regionali sia dalle diciamo dalle dinamiche nazionali perché non potrebbe agire diversamente soprattutto sui temi di cui noi ci occupiamo io ritengo che alla luce di quanto accaduto con questa pandemia Ida perdonaci Ida perdonaci eccoci dobbiamo velocizzare esatto allora niente fatemi fare soltanto ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato e contribuito in maniera determinante alla crescita di questa commissione alla sua attività buon lavoro grazie beh l'avevamo detto che erano tante attività quelle della commissione allora adesso passerei alla commissione e-sports con Domenico Filosa eccolo buonasera a tutti allora lascio a te il floor perché so che sei un caster assolutamente professionista grazie allora intanto di nuovo buonasera a tutti mi fa molto piacere essere qui anche se appunto purtroppo è solamente solamente tramite zoom però vedere che ci sono tanti amici e tante persone che hanno la mia stessa passione per me è sempre veramente molto importante per rendermi conto insomma che quello che stiamo facendo insieme lo stiamo facendo veramente bene è bello anche ascoltare le relazioni soprattutto delle altre commissioni e degli altri coordinamenti quanto alla mia commissione sarò veramente molto breve sappiamo tutti che il 2020 è stato un anno molto importante e ci stiamo rendendo conto tutti che di e-sports si parla ormai dappertutto si parla veramente sulle televisioni sui giornali c'è una copertura veramente importante di questa materia e in decisa controtendenza diciamo rispetto a tante altre cose che sono purtroppo state fermate per via della pandemia per via delle misure di restrizioni insomma quanto all'attività della nostra commissione abbiamo intanto ringrazio tutti i membri perché veramente siamo riusciti a fare dei lavori di squadra ed è veramente molto difficile lavorare in queste condizioni quindi utilizzando gli strumenti web essendo a distanza in tante città diverse se non persi vedere abbiamo realizzato un report che è stato veramente importante per me e per noi perché è veramente un fiore all'occhiello anche se un lavoro chiaramente che non ha ancora pretese di esotività è il primo dei nostri lavori abbiamo già parlato tutti insieme e crediamo che sia molto importante monitorare e continuare a monitorare questa materia soprattutto in questo momento nella quale ci aspettano mesi molto importanti con dei cambiamenti molto importanti e quindi anche solo ieri sera banalmente ci siamo incontrati tutti dopo chiaramente su Zoom dopo il nostro lavoro e abbiamo già definito il programma del 2021 quindi questo a testimonianza del fatto che io sono molto contento di questo le persone che collaborano in questa commissione lo fanno perché sono contenti di farlo cioè è una passione comune e anche se comunque in un certo senso è anche un lavoro ma è soprattutto una passione quindi questo per me diciamo e benzina il report è stato chiaramente edito da SLPC che ha creduto subito a questo lavoro abbiamo trattato le principali criticità degli sport elettronici in ambito italiano quindi passando dal doping alle problematiche del gambling del match fixing a tutte le problematiche legate alla realizzazione di tornei alle sponsorizzazioni che chiaramente possono essere di tantissimi tipi alle problematiche chiaramente di copyright che sono fondamentali nel momento in cui si parla di sport elettronici oltre al report che comunque è ancora disponibile ed è stato anche inviato da alcune delle federazioni quindi anche per sensibilizzare quello che è l'atteggiamento delle federazioni tradizionali verso questo nuovo vecchio fenomeno diciamo così abbiamo attivato anche una collaborazione con l'osservatorio italiano e-sports e quindi questo ci ha permesso di anche lì svolgere un'attività di proceditismo sensibilizzazione nei confronti dei principali great stakeholders del mondo sportivo cioè dei principali soggetti interessati delle squadre dei content creator questa materia qua è veramente molto interessante perché quando si parla di e-sports in realtà si parla anche di tantissime altre problematiche legali e quindi ci permette di parlare con squadre di parlare con ragazzi e abbiamo ascoltato anche delle storie di alcuni ragazzi che sono entrati in questo mondo poi ne sono usciti alcuni hanno avuto dei problemi legati al doping è veramente una cosa devo dire che questo lavoro è anche formativo dal punto di vista umano e quindi concludendo ringrazio ancora una volta a tutti i membri della commissione che sono assolutamente proattivi che sono assolutamente entusiasti di questo lavoro e quanto lo sono io e grazie e lascio la parola alle altre commissioni grazie Domenico allora adesso è il turno di Marco e della commissione fiscalità e sport eccolo ciao Marco ciao a tutti sarò sintetico visto che siamo andati oltre i tempi ringrazio ovviamente tutti compreso che conosco da una vita Salvatore e tutto il consiglio direttivo che fa un egregio lavoro anche la commissione fiscalità dello sport è all'anno zero nasce quest'anno e abbiamo insomma fatto molte diciamo scambi di mail più che altro e pubblicazioni tramite le newsletter e rds abbiamo dal punto di vista degli eventi formativi con la legge 86 2019 a febbraio dello scorso anno nella settima assemblea dell'Aias illustrato le problematiche fiscali della della legge e poi partecipato con gli altri gruppi di lavoro è già stato detto prima sui decreti attuativi della legge stessa per quel lavoro per il ministero dello sport il punto di forza di questa commissione è che è l'eterogeneità abbiamo competenze diverse abbiamo avvocati eh avvocati cassazionisti tributaristi ovviamente eh commercialisti e non solo e questa eterogeneità aiuta molto ad affrontare i diversi problemi e anche una certa esperienza sul diritto comunitario il diritto internazionale il focus vi dico subito che vogliamo realizzare è il massimario c'è una raccolta ragionata di sentenze di merito quindi delle commissioni tributarie provinciali e regionali che ad oggi manca sul panorama nazionale è stato realizzato con il sole 24 ore dal sottoscritto per quanto riguarda la giurisprudenza tributaria di merito ma sullo sport e sulla fiscalità dello sport manca ancora questo e la presenza sul territorio di più professionisti aiuta molto nei contatti con le segreterie e con gli uffici del massimario a raccogliere la giurisprudenza quindi questo è uno degli obiettivi che cerchiamo di realizzare così come la collaborazione con altre commissioni con particolare con Ilaria qui la commissione di diritto e sport con l'attenzione sulla giurisprudenza comunitaria ricordo da ultimo le conclusioni dell'avvocato generale dello Stato dell'ottobre 2020 sulla natura delle federazioni sportive che ha un grosso impatto anche sulla fiscalità e su questo ritorneremo poi con un evento che stiamo per organizzare e con una pubblicazione appena uscirà a breve la sentenza della Corte di Giustizia ringrazio tutti e lascio la parola agli altri colleghi grazie a te Marco adesso è il turno di Armando non lo vedo ancora connesso per la commissione eccolo per un attimo è stato la commissione e un po' i progetti della commissione grazie Ale buon pomeriggio a tutti tutti i soci ai colleghi della commissione mi associo innanzitutto a tutti i complimenti già fatti ai ringraziamenti e sarò brevissimo anche perché la mia commissione è working in process praticamente capisco che la materia è un po' particolare io sono un avvocato che tratta immigrazione e cittadinanza e diciamo l'obiettivo di questa commissione è appunto regarla allo sport e l'importanza che può avere la cittadinanza sportiva il mio oggi è più che altro un invito anche soprattutto a questa platea che ci sta seguendo quest'oggi a partecipare a questa mia commissione con idee e iniziative anche semplici quesiti che possono essere posti in merito a questo tipo di materia diciamo che l'Italia è un po' ferma al 2015 su un progetto di legge della cittadinanza sportiva just soli e diciamo che è stato un po' parcheggiato lì alla Camera questo progetto l'obiettivo è appunto quello di dare la possibilità agli sportivi in particolare minori stranieri di acquisire la cittadinanza italiana attraverso lo sport e quindi anche per mettere alle società sportive italiane di poterli testarli come comunità io in particolare tratto riconoscimenti diure sanguinis quindi diciamo parlo di persone con origini italiane quindi atleti con origini italiane i quali insomma hanno la possibilità tramite la documentazione che attesta la loro discendenza di essere riconosciuti cittadini italiani dalla nascita quindi essere a tutti gli effetti cittadini europei italiani con diritti e doveri e ovviamente questo comporta per loro anche delle agevolazioni da un punto di vista elaborativo e logistico insomma cosa ben diversa dall'essere extracomunitario quindi rinnovo ecco il mio invito più che altro ai soci che ci stanno ascoltando ai colleghi che qualora volessero ecco fa parte di questa di questa commissione collaborare con il sottoscritto metto a completa disposizione e ovviamente capisco che è un anno è stato un anno particolare e ognuno insomma si è concentrato tanto sulle sulle proprie attività però ecco io sono a completa disposizione e spero in futuro di poter dare delle iniziative sicuramente più interessanti rispetto a quelle di me va bene? grazie Armando e adesso la parola a Priscilla che ci presenta la commissione sport al femminile grazie Alessandro allora di nuovo buonasera a tutti e anche la nostra commissione è ovviamente una commissione giovane siamo un gruppo a mio avviso decisamente compatto e entusiasta e ci stiamo mettendo tantissima passione ci siamo riunite già molte volte ci confrontiamo su delle tematiche che ad oggi onestamente non sono così semplici perché come vedete lo sport al femminile oggi comunque è sempre abbastanza di nicchia nel senso che se ne parla poco e viene pubblicizzato poco quindi per certi versi non è semplice diciamo la tematica che viene analizzata dalla nostra commissione ma per altri è assolutamente stimolante proprio per questo motivo perché comunque ci troviamo a parlare di argomentazioni che magari molto spesso non sono state non sono state approfondite o quantomeno non per quanto meritino di essere approfondite abbiamo iniziato l'anno con la presentazione della commissione nel salotto giuridico è stata una diciamo un modo per farci per farci conoscere a tutti quanti nei confronti di tutti quanti i soci e successivamente siamo state coinvolte come commissione nella nelle due giornate che sono state organizzate dai colleghi Gian Faltoni e Rossetti per quanto riguarda la violenza sulle donne quindi la nostra commissione aveva una rappresentanza abbastanza importante in quelle due giornate oggi abbiamo un testo unico sullo sport che porta modifiche nell'ambito dello sport femminile che per quanto ovviamente è di nostra competenza è fondamentale perché si parla di passaggio al professionismo e quindi abbiamo in programma un corso ovviamente nei primi mesi del 2021 dovrebbe iniziare e questo corso è stato ideato in maniera abbastanza come dire pratica nel senso che sarà un un corso indirizzato ad aiutare tutti quelli che sono gli addetti ai lavori ai lavori nel passaggio dal dal dilettantismo al professionismo e in questo corso ovviamente noi è vero che stiamo parlando sempre molto spesso di calcio femminile perché ovviamente il calcio femminile lo sappiamo tutti insomma che importanza ha e soprattutto che visibilità però non ci dobbiamo dimenticare che il il professionismo che si andrà speriamo il prima possibile a realizzare è comunque indirizzato a tutti gli sport quindi il nostro corso sarà indirizzato in questo senso quindi a tutte le federazioni a tutti gli sport e avrà tutta una serie di tematiche pratiche per il passaggio quindi per agevolare questo passaggio dal dal dilettantismo al professionismo e sono a dire la verità sono molto contenta di farne di far parte di questa squadra perché è una squadra al di là del fatto che magari possa figurare io a parlare ma di fatto l'organizzazione la cooperazione all'interno del nostro gruppo è davvero da squadra e quindi spero che possiamo continuare con la passione che ci abbiamo messo fino ad oggi perché siamo destinati a una strada lunga e secondo me con grandi soddisfazioni ecco grazie grazie Priscilla adesso andare subito da Jerry che ci presenta invece quello che è stata l'attività della neonata commissione sport and business buonasera a tutti grazie Ale hai detto bene neonata perché è nata veramente dopo questa commissione sport and business e mi faceva piacere enunciare semplicemente le persone che ne fanno parte oltre al sottoscritto l'avvocato Priscilla Valombi Alessandro Coni Beniele Muscarat Domenico Filosa Carla Bono Carlo Faugiana Stella Riberti Federica Ongaro Stefano Pellacani e Stavio Sicilia naturalmente gli argomenti trattati dalla nostra commissione sono a parte che un team dalle grandi potenzialità che mi auguro possa crescere come team e trattiamo principalmente delle contratti di sponsorizzazione a 360 gradi dei marchi sportivi dell'anglish marketing di tutto ciò che inerisce i diritti di immagine e i diritti audiovisivi con orientamento e un occhio anche all'aspetto digitale dello sport anche al digitale ecco a tal riguardo tutti quei tutti coloro che ritenessero di poter apportare di implementare e migliorare questa tecnologia di commissione sono sempre benvenuti perché la commissione sport and business così come le altre include le persone quindi è fondamentale anche questo aspetto abbiamo già nonostante sia una neonata commissione abbiamo già effettuato un incontro di presentazione che ha avuto luogo su facebook in diretta sulla pagina ufficiale dell'associazione di arena poca dello sport dove abbiamo presentato uno per uno le tematiche che trattiamo e nonostante ciò abbiamo degli obiettivi molto molto lungimiranti perché partendo dal presupposto che abbiamo un team dalle grandi potenzialità ci siamo posti degli obiettivi molto molto lungimiranti innanzitutto la voglia è quella di redigere un testo che possa rappresentare un must per tutti gli esperti del settore nonché per tutti i players nell'ambito del diritto sportivo che vogliono approfondirsi approcciare a queste tipologie del momento stiamo cercando di sviluppare e a organizzare un evento molto importante all'interno della nostra commissione anche in partnership con le altre commissioni di lavoro perché ritengo sempre che con il team si fa la differenza quindi in partnership con altre commissioni di lavoro che approderà su LinkedIn e non su Facebook quindi stiamo cercando proprio di creare e di affacciarci a tutti i players e tutto ciò tutti quelli che riguardano l'aspetto professionale quindi la piattaforma e naturalmente tutto ciò che riguarda le varie testi e approfondimenti giudici vi ringrazio non tolgo altro tempo perché ci sono anche gli altri coordinatori grazie mille Ale grazie a tutti grazie a te e adesso passiamo invece alla commissione sport e disabiliti chiederei a Emanuele Di Marino di eccolo eccomi allora a te la parola grazie mille buon pomeriggio a tutti intanto ci tengo a ringraziare tantissimo il consiglio direttivo Salvatore il prof Colucci per l'istituzione di questa commissione anche a nome degli altri membri per me personalmente è davvero importante anche perché è una esperienza comunque che è di una tematica che vivo ovviamente sia nella vita di tutti i giorni che nella mia carriera sportiva oltre che professionale e giuridica ovviamente è una commissione che è nata da pochissimo credo che sia l'ultima quindi è ancora un cantiere aperto abbiamo però insieme agli altri soci che sono dei grandissimi esperti oltre che appassionati anche della della tematica che è una tematica ovviamente molto particolare ma anche interessante da approfondire abbiamo stilato tre principali step su cui focalizzarci il primo è quello di fare una campagna di sensibilizzazione riguardo all'articolo 38 della nostra costituzione perché purtroppo in questo articolo le persone con disabilità vengono ancora definite inabili e minorati ovviamente nel 2020 non è accettabile che ci siano determinati aggettivi all'interno di una costituzione soprattutto perché per quanto non sia di fondamentale importanza sicuramente per una persona come diciamo noi ci approcciamo ad essa è però importante avere gli stessi diritti e quindi creare un vero e proprio processo di sensibilizzazione verso il legislatore per far sì che questo possa essere diciamo modificato il secondo step riguarda un report della situazione diciamo paralimpica italiana con una particolare con un particolare focus all'edilizia sportiva ci ho fatto in sinergia magari con i CIP regionali quindi con i comitati paralimpici regionali proprio perché loro sicuramente possono essere un bacino di esperienza e anche di spunti sulle varie problematiche che le persone con disabilità e gli atleti con disabilità possono avere sicuramente quella più importante sarà relativa all'accessibilità che purtroppo è una cosa che è un grande problema che non si riscontra solo nello sport ma nella vita di tutti i giorni ma sicuramente le opportunità per le persone di praticare per le persone con disabilità di praticare sport sono sicuramente possibili da implementare un piccolo cenno riguardo anche alla riforma dello sport che è stata trattata prima è importante che in questa riforma per la prima volta sia stato concesso agli atleti paralimpici di essere arruolati e quindi di entrare nei corpi sportivi e militari dello Stato questo davvero è un cambio una rivoluzione scusate una rivoluzione culturale che non può prescindere poi anche da una riforma di quell'articolo 38 della Costituzione che ho parlato prima in ultimo per cercare di non dilungarmi troppo perché comunque è una commissione che mi appassiona particolarmente ci vorremmo soffermare insieme agli altri membri che ne fanno parte sull'attività paralimpica internazionale nella mia carriera sportiva ho avuto diciamo la sfortuna ma anche la fortuna insieme a alcuni membri dell'associazione di approfondire in modo anche molto mirato i vari regolamenti handbook dell'IPC che è l'International Paralimpic Committee che poi governa tutte le altre international federations e ci siamo resi conto che ci sono tantissime lacune e tantissime parti che dovrebbero essere migliorate per cui sarebbe interessante fare un lavoro magari anche in sinergia con le stesse federazioni internazionali o anche l'International Paralimpic Committee con vari contatti che si possono instaurare per cercare di colmare queste lacune una di queste per esempio è la mancanza di una clausola arbitrale purtroppo all'interno dei regolamenti dell'International Paralimpic Committee che non permette in nessun caso né in competition né out of competition ad un atleta di poter radire il TAS per magari un ricorso avverso una norma di un regolamento anche avverso le classificazioni degli atleti con i quali vengono ovviamente classificati in base alle disabilità quindi questo è un tema molto molto importante che credo bisognerebbe approfondire anche per cercare di dare una certa imparzialità speriamo con tutti i membri che ne fanno parte che sono Stefano Gianfaldoni Massimo Rolla Maria Luisa Garatti e fino a poco tempo fa anche Simona Placiduccio che anche tutti sempre più diciamo esperti e appassionati si possano appassionare a loro volta della nostra commissione e darci una mano grazie a tutti e buon lavoro grazie a te Manuel grazie soprattutto per gli spunti e per il lavoro che state facendo io adesso vedo Francesco Banchelli a cui darei un attimo la parola per un saluto visto che prima l'abbiamo dovuto saltare per velocizzare i lavori del consiglio direttivo a te Francesco grazie grazie della parola però sarò velocissimo soltanto per fare un saluto e un ringraziamento un saluto a tutti i nostri colleghi che oggi si sono collegati si parla di oltre 3.000 contatti sul profilo Facebook da ultime informazioni che ci sta dando Francesco Reondini e quindi è un ottimo risultato un ringraziamento che è doveroso veramente a tutti i membri del consiglio perché vi assicuro che il lavoro che fanno quotidianamente è straordinario abbiamo una chat che è costantemente riempita da messaggi da call da chiamate alle armi da parte del prof e del prezzo a cui rispondiamo sempre in maniera puntuale mi dispiace un po' che quest'anno è stata un'annata un pochino particolare quindi non ci siamo mai potuti vedere in presenza dopo a seguito delle elezioni che ci furono a Roma a fine febbraio e questo è un rammarico però speriamo che la situazione piano in piano possa tornare alla normalità perché comunque gli incontri fatti in presenza sono sicuramente migliori e sono sicuramente da preferire l'altro ringraziamento lo faccio a tutti i coordinatori regionali che poi mi seguiranno nell'intervento perché devo dire che il loro compito è fondamentale perché a livello nazionale sì ci diamo tanto da fare però poi sono i coordinamenti regionali che tengono attivi e stimolano poi quotidianamente nelle attività di tutti i giorni i nostri associati per cui per loro va un applauso veramente grandissimo a partire da Stefano Gianfaldoni a tutti il resto dei coordinatori e anche in un momento come questo che non ci possiamo incontrare a maggior ragione il loro lavoro è importante grazie veramente a tutti e sono felicissimo di far parte di questo grande gruppo di professionisti e di amici perfetto grazie Francesco io adesso è il momento dei coordinamenti regionali quindi chiederei a tutti i coordinatori di accendere la cam perfetto allora non vedo la Flavia quindi passiamo all'ordine che vi chiamo io se non è un problema volevo iniziare con Angela Angela Busacca ok posso allora ok dunque coordinamento Calabria dopo un anno che è stato difficile come per tutti un ringraziamento doveroso all'opera del direttivo e delle altre commissioni e i colleghi che sono intervenuti anche in occasione delle nostre organizzazioni il coordinamento Calabria ha diciamo un po' declinato la dimensione telematica con l'organizzazione di alcuni incontri Alessandro posso 30 secondi condividere un attimo lo schermo? della padrona allora se mi perdonate escusate un momento solo è in condivisione in questo momento forse no ancora un attimo solo condividiamo ok eccolo qua questo è stato se si vede adesso spero di sì questo è stato AIA Scalabria in una slide spero che si veda il mio pc sta decidendo in questo momento di dare qualche problema ma non sforo i tre minuti che mi sono posta comunque abbiamo realizzato in tutto otto incontri con la modalità digitale tre i propositi per il 2021 questi propositi penso che si vada tre i propositi per il 2021 allora il primo aprire ancora di più alla componente giovane under 35 abbiamo un buon numero di ragazzi praticanti avvocati non laureati che stanno aderendo c'è un problema di connessione allora torniamo da Angela appena la connessione si è ripresa allora io recupererei Flavia perché la vedo adesso ciao allora mentre Angela poi riusciamo a ricordare ti chiederai di presentare tu la il coordinamento va bene ciao a tutti sì in verità non è proprio una presentazione perché in questo è stato un anno come immagino per tutti molto difficile vedo tutto nero mi sentite mi vedete sì sì ti vediamo ora mi ritaccio però così facciamo finire Angela facciamo finire Angela no no tranquilla tranquilla no no non sentivo più nulla neanche io è andata via la connessione mi dispiace Angela ah ecco no qui c'è un po' un tempaccio quindi vi chiedo scusa temo anche lo screen sharing che non funziona molto bene quindi ti potrei sì assolutamente eccolo qua no dicevo allora solamente le tre diciamo le tre proposte per il 2021 come dicevo implementare la presenza dei giovani aprire anche alle altre province questa è una cosa appunto più calabrese io credo che noi dovremmo valutare quando anche stermineremo la necessità la possibilità di mantenere io interrotto la condivisione comunque quindi non so per quale motivo continui ad esserci il problema mantenere la modalità telematica per tutte le nostre attività perché in in questo momento ci permette di avere anche una possibilità di condivisione anche per i costenamenti come noi che sono un po' più lontani grazie ho terminato grazie beh io ho il piacere di presentare nuovamente Flavia Tortorella e chiedere a lei di prendere la parola scusate clicco allora ci sono mi sentite mi vedete sì allora ciao a tutti innanzitutto mi fa molto piacere rivedervi anche se questa nuova modalità telematica diciamo diciamo vabbè avevo detto insomma questo è stato un anno particolarmente difficile immagino un po' per tutti in particolar modo anche per me ma credo per tutte le donne impegnate non solo a livello professionale ma anche familiare quindi diciamo che la gestione di tutte le cose non è stata semplice questo però diciamo che non ci ha vedo e faccio un plauso a tutti gli altri e soprattutto alle commissioni che ho visto che hanno lavorato tantissimo io sono nella commissione calcio femminile devo fare un mea culpa perché immagino che alcune di loro neanche sappiano come sia fatta non avendo mai partecipato ad una riunione quindi il mio primo obiettivo per questo nuovo anno duemilaventuno che si affaccia è quello di partecipare maggiormente in prima persona alla commissione femminile perché ci tengo in particolar modo per quanto riguarda il comitato regionale anche abbiamo individuato una serie di lavori che probabilmente spero possano essere sono slittati perché noi avevamo individuato un bellissimo evento da fare proprio qui a Pescara in estate però insomma non ci è sembrato il caso di concretizzarlo con tutte le difficoltà che ci sono state per cui diciamo che lo abbiamo rimandato al prossimo anno guardando soprattutto alla riforma dello sport per cui immagino che uno dei primi eventi su cui si concentrerà il comitato regionale Abruzzo è questo quello della riforma sullo sport sicuramente io invece faccio un invito come coordinatrice regionale Abruzzo che è quello di creare dei cartelli perché naturalmente io non so quanti di voi però devo dire per quanto riguarda il mio coordinamento diciamo che i colleghi che ne fanno parte non mi hanno dimostrato molto entusiasmo nel portare avanti una serie di progetti piuttosto che proprio insomma farsi parti diligenti quindi io credo che se magari c'è qualche comitato ad esempio quello dove sta Stefano Gianfaldoni che fa delle cose stupende ho visto che ha fatto delle convenzioni delle cose incredibili che magari è più attivo e ha come dire alle spalle un comitato che cammina magari creare qualche cartello tra comitati e darsi una mano nel creare degli eventi che possano poi naturalmente interessare due territori diversi per il resto vi saluto tutti e vi ringrazio perché comunque vedo che insomma andate avanti nonostante magari la defezione di qualcuno di molti e quindi questo questo vi fa onore e fa onore il direttivo che insomma dimostra ancora una volta di funzionare alla grande grazie Flavia io lascio la parola adesso a Gerry eccolo scusa eccoci eccoci mi fa piacere a risalve come si vuol dire a me fa piacere che hai già menzionato prima un evento qualcosa che abbiamo creato all'inizio della pandemia in marzo noi c'eravamo post degli obiettivi quando alla scorsa assemblee a Milano nella stragrande maggioranza li abbiamo mantenuti per altri per cause di forza maggiore non abbiamo potuto mantenere e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti perché ho sempre pensato che un ben fatto è sempre molto meglio di un ben detto il fiore all'occhiere del 2020 del coordinamento campania sicuramente è stato il salotto giuridico digitale idea che come vissi una volta mi è venuta correndo la mattina alle 6 e condivisa poi con il coordinamento toscana cose di cartelli così come il concetto di cartello lo utilizzerò più spesso come diceva la mia collega è stato un evento molto molto importante che ha visto la partecipazione sia dei componenti del coordinamento campania che dei componenti del coordinamento toscano abbiamo avuto una copertura di più di 11.000 persone su facebook a cui è seguito proprio dei webinar da marzo fino a fine luglio dove abbiamo intervistato tutti i relatori dobbiamo approfondire tantissime tematiche relative al diritto sportivo nonché abbiamo intervistato e presentato tutte le commissioni di lavoro così come faceva presente anche l'avvocato Palotti detto ciò ci siamo posti degli obiettivi perché se non si ragiona per obiettivi se non abbiamo obiettivi lungimiranti non possiamo neanche creare un team valido per raggiungerli con il coordinamento campania innanzitutto ci eravamo posti nel 2020 di creare dei protocolli di intesa con le federazioni eravamo addirittura d'arrivo con una federazione poi causa di forza maggiore per tutto quello che è successo ci siamo dovuti fermare ed è un obiettivo che sicuramente provvederemo a raggiungere nel 2020 già con una federazione poi naturalmente stiamo realizzando vogliamo realizzare qualcosa di molto molto importante che è un report un report che coinvolgerà perché mi piace sempre il concetto così come ho spiegato per la commissione sport and business io adoro il concetto di coinvolgere di includere tutti i membri sia del coordinamento che della commissione quindi creeremo un report generale su tutti gli aspetti dello sport in campagna e su tutte le sue criticità dall'impiantistica alle ASD fino a passare al calcio femminile o ai professionisti che vedrà tutti i membri del coordinamento campani che si occuperanno di un aspetto specifico di quel report dopodiché poi provvederemo a ripresentarlo e infine stiamo organizzando insieme alla sezione così a proposito di cartello noi abbiamo anche le sezioni abbiamo le varie sezioni provinciali insieme alla sezione Salerno faremo da qui a febbraio un evento in concomitanza con l'ordine degli avvocati di Salerno quindi penso che ci siano tantissime cose da fare e quindi bocca al lupo a noi e a tutti grazie grazie Jerry allora consentirei un attimo di recuperare anche il coordinamento Basilicata adesso vedo Luca che è connesso e lascerei la parola grazie buon pomeriggio a tutti per chi non mi conosce chiaramente siccome sostituisco il presidente Luis Vizzino io sono Luca Sassone faccio parte del coordinamento Basilicata quindi per me è un onore un piacere far parte di questo di questo gruppo di lavoro di oggi come sapete anche voi il coordinamento AES Basilicata è nato abbastanza di recente perché informalmente lo abbiamo costituito nel 2018 però poi ufficialmente è nato il 7 giugno del 2019 con il primo convegno che abbiamo organizzato per quanto riguarda la figura dell'avvocato nello sport l'obiettivo chiaramente dell'AES Basilicata con cui l'obiettivo con cui siamo nati con il quale vogliamo comunque continuare ad implementare il nostro operato è quello di costituire un punto di riferimento soprattutto per le associazioni direttantistiche che in Basilicata sono praticamente potrei dire la totalità ma sono fatta per pochissima realtà sono tutte associazioni direttantistiche quindi il nostro obiettivo è questo durante questo 2020 che come per tutti è stato particolarissimo a causa della pandemia abbiamo comunque cercato di coinvolgere i nostri associati attraverso una serie di iniziative sulla nostra pagina Facebook abbiamo realizzato una serie di interviste a vari professionisti del settore tra i quali abbiamo avuto anche il prof Colucci per esempio tanto per citarne uno dopodiché da ultimo settimana scorsa il 4 dicembre abbiamo organizzato un webinar riguardante soprattutto il calcio lucano giovanile direttantistico con un taglio molto pratico all'aspetto sanitario attraverso alcune figure che ci hanno spiegato come avvengono gli allenamenti nelle scuole calcio e quali sono i protocolli sanitari da adottare per essere completamente in regola con le nuove norme detto questo speriamo di poter chiaramente riprendere l'attività in presenza brevissimo vi porto ancora i saluti del presidente Luis Vizzino di tutto il coordinamento AIR-Basificata vi ringrazio per tutto il lavoro svolto grazie mille Luca grazie anche a Luis per il lavoro che fa io adesso passerei a Mattia Mattia Cornazzani lascio a te la parola grazie mille buon pomeriggio a tutti vi porto in tanti saluti del coordinamento Emilia Romagna che con questo mese di dicembre vede compiersi il primo anno di di attività abbiamo esordito lo scorso dicembre con un convegno sul lavoro sportivo con il professor Zoli e il professor Martinelli che ci hanno aiutato a inquadrare la materia con autorevolezza e competenza anticipando un po' anche i temi che poi oggi sono di grande attualità all'esito dei decreti attuativi e delle novità che la materia sportiva oggi ha portato sulle nostre scrivanie a gennaio in collaborazione con il CEN di Parma è stato organizzato un evento sulla legge delega il 26 del 2019 a maggio abbiamo organizzato il nostro primo evento online mettendo a confronto avvocati e intermediari sportivi per cercare di fare un quadro su quello che in quel momento appariva un mercato sicuramente strano e atipico rispetto ai classici calciomercati che ci avrebbero atteso per tutta l'estate a luglio un altro evento in collaborazione con Aiga di Parma che ha visto la partecipazione della collega Tortolerla e della collega Agostinis ai quali va un grande ringraziamento il titolo era lo sport tra emergenza e riforma a settembre in collaborazione con l'AIMANC che è l'associazione italiana avvocati magistrati notai ciclisti abbiamo tentato un'incursione nel mondiale di ciclismo che si è disputato a Imola quindi in regione purtroppo all'ultimo abbiamo dovuto rinunciare all'opportunità perché le restrizioni avevano reso oggettivamente insostenibile poter organizzare una partecipazione ad un evento che poi non ha avuto un'affluenza di pubblico ordinaria e quindi abbiamo dovuto a male in cuore abbandonare l'iniziativa è già in cantiere qualcosa per gennaio l'obiettivo sarebbe quello di organizzare tutti gli anni a gennaio un evento di confronto condivisione e commento della giurisprudenza sportiva dell'anno precedente quindi sicuramente questo anno è stato un anno che da un punto di vista giurisprudenziale ha visto molto sotto pressione gli organi di giustizia a qualsiasi livello e sarebbe bello cercare di fare una summa nel primo mese dell'anno nuovo io vado verso la chiusura con alcuni ringraziamenti che vanno ovviamente ai vice coordinatori Enrico e Filippo in particolare però vorrei ringraziare il collega Michele Margini perché è stata una parte molto attiva di questo coordinamento organizzando proprio collaborando molto e organizzando anche da solo alcuni alcuni eventi per cui a Michele Daniela Maglio Tommaso Giovanni e Andrea vanno i ringraziamenti più sentiti per aver effettivamente aiutato il coordinamento a creare delle occasioni concrete soprattutto in un anno così particolare e difficile per creare qualcosa grazie a tutti buon weekend e buon proseguimento per i lavori grazie Mattia e adesso è il turno di Serena che vedo già pronta quindi lascio subito la parola era prontissima eccola purtroppo non si sente Serena credo che siamo agli auricolari procediamo con Alberto intanto ah ok no aspetta scusa Serena ci sei? purtroppo non si sente vabbè ti recuperiamo fra qualche minuto intanto do la parola ad Alberto e al coordinamento Lazio e poi adesso vediamo di risolvere il problema ok sì grazie 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 Alessandro mi sentite tutto bene io innanzitutto vabbè porto i saluti a tutti voi del direttivo al presidente innanzitutto e congratulandomi insomma per sempre queste iniziative importanti anche diciamo in occasione dell'assemblea e naturalmente ho anche molto ascoltato con attenzione il lavoro svolto dalle commissioni nonostante le difficoltà operative venendo all'attività del nostro coordinamento e ovviamente abbiamo chiuso il 2019 e aperto il 2020 con il coinvolgimento da parte di componenti del comitato o comunque del comitato con il consiglio dell'ordine di Roma rispetto diciamo a tutta una serie di temi molto importanti relative diciamo al mondo o all'evoluzione sia della normativa nel settore sportivo sia poi anche per quanto riguarda il discorso legato alle sponsorizzazioni e ai diritti audiovisivi e sportivi naturalmente durante poi il lockdown nonostante le difficoltà siamo riusciti ad organizzare e su questo devo fare veramente ringraziamento al vice coordinatore al parone a tutti gli altri amici a francesco casarola muraioli rombolà non voglio dimenticare nessuno a marcucci insomma a tutto il diciamo i componenti del coordinamento perché quando appunto si parlava si discuteva della riapertura dei circoli sportivi dei centri sportivi in una fase molto delicata con nuove responsabilità nuove misure di sicurezza mi sembra insomma che l'evento che sia stato organizzato da parte nostra abbia riscosto un grande successo questo accadeva nei mesi di maggio dopo di che ci sono state ulteriori riunioni incontri a giugno poi un attimino ci siamo fermati anche perché poi io anche a livello personale e familiare sono stato preso da tutta una serie di problemi che naturalmente tutti belli risolti per cui vorremmo diciamo in modo anche un po' rincalluzzito ripartire per una nuova stagione i punti fondamentali vado a concludere sono innanzitutto una riorganizzazione all'interno del nostro coordinamento visto che poi lo statuto ci consente di affidare degli incarichi anche al nostro interno secondo me ci sono due tre aree dove magari è giusto che altri membri del coordinamento si assumano delle responsabilità dirette per esempio nei rapporti con le commissioni nazionali perché mi sembra che le commissioni stiano facendo un ottimo lavoro però secondo me è ingiustificato diciamo dare la responsabilità al covid se poi non c'è una sinergia anche con i coordinamenti regionali cioè le commissioni non devono essere autoreferenziali e quindi secondo me è giusto che magari noi come coordinamento individuiamo una persona che mantenga diciamo dei contatti diretti con le commissioni con il loro operato da una parte per cercare di recepire quello che loro stanno facendo e dall'altra parte per dare un contributo dopodiché come diceva come diceva anche Colucci il mondo dello sport passa per Bruxelles non si ferma solo lì e quindi è giusto anche individuare un responsabile che faccia un po' da osservatorio su quelle che sono i cambiamenti sia a livello normativo sia a livello giurisprudenziale e dopodiché dobbiamo seguire con grande attenzione l'attuazione della tele perché abbiamo fatto un ottimo lavoro diciamo inviando un documento sulle varie tematiche della delega però secondo me poi non dobbiamo perderla di vista su tutti gli altri temi dopodiché bisogna essere molto più presenti anche sul territorio magari cercare di allacciare i rapporti con i consigli dell'ordine che sono fuori Roma mentre registro registriamo positivamente e di questo sono testimoni anche i responsabili nazionali il fatto che ci siano sempre delle nuove iscrizioni e nuove adesioni all'associazione e quindi naturalmente anche qui al coordinamento regionale Lazio molti iscritti nel Lazio dopodiché abbiamo anche così a livello interno sostituito il vice diciamo coordinatore con l'amica la carissima amica Morandini e quindi diciamo anche da questo punto di vista si è ricomposta la compaggine del coordinamento ovviamente anche se non ci sono iniziative corali del coordinamento regionale come è noto i vari componenti del coordinamento sono molto attivi e molto presenti e quindi in qualche modo diffondendo sempre diciamo l'attività indirettamente e ricollegandosi anche all'associazione per questo anche di ringrazio e grazie a tutti voi e buon proseguimento grazie Alberto se Stella me lo consenti io proverei a recuperare Serena adesso mi sentite vero? assolutamente sì a te la parola mi sono sentita come inciampare davanti al traguardo ero prontissima allora intanto mi fa piacere vedervi tutti perché è vero non ci vediamo di persona però vedervi in questo schermo con tutte le vostre facce mi dà un senso di famiglia perché comunque noi voi lo sapete ci sentiamo quasi tutti i giorni un messaggio l'altro questa situazione di pandemia ci ha anche portato un po' ad avvicinarci confrontarci sulle nuove normative oppure sulle esperienze dei nostri singoli coordinamenti o anche sullo sport sulla pratica dello sport vero Gerardo Stella vorrei anche io partecipare alle lezioni di spinning con voi ebbene dunque quindi questa va bene abbiamo parlato tutti situazioni di pandemia per quanto riguarda il nostro coordinamento ci ha portati a sviluppare a consolidare quello che è stato il nostro rapporto con le realtà locali quindi sia con le associazioni locali di cui alcuni membri del nostro coordinamento fanno parte a varie titolo che con le istituzioni dunque già dall'anno scorso noi facciamo parte della commissione di formazione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Udine la maggior parte dei soci del nostro coordinamento sono di Udine abbiamo soltanto qualcuno che viene da Trieste e da Pordenone quindi questo vuol dire che tutti gli eventi che vengono organizzati dal consiglio dell'ordine comunque sono anche programmati e decisi da noi e noi siamo felici di rappresentare IAS nazionale in questo e a prescindere dagli eventi di carattere sportivo quello che ci ha reso particolarmente orgogliosi quest'anno è stata la possibilità di partecipare a un incontro che non aveva a che fare con lo sport però ci ha permesso di unirci alle altre associazioni della città sempre col consiglio dell'ordine che è stata appunto quella manifestazione organizzata davanti al tribunale di Udine in occasione della collega turca che è morta in difesa dei diritti del giusto processo che non vengono applicati appunto nel suo paese di origine a parte questo che ci ha visto molto coinvolti noi abbiamo parlato di lavoro sportivo ed è stato l'ultimo evento alla fine del 2019 nel marzo quindi eravamo già in periodo di lockdown abbiamo fatto un ciclo di incontri con un'associazione che si occupa di formazione un'associazione privata che per la formazione dei dirigenti nelle piccole associazioni sportive delle località montane della nostra regione che molto spesso fanno anche difficoltà a raggiungere diciamo la parte più bassa e quindi a partecipare agli eventi informativi che venivano organizzati appunto in presenza un evento sempre organizzato dal consiglio dell'ordine degli avvocati è stato avuto luogo il 28 luglio ed era all'interno del ciclo degli eventi sul covid e sull'impatto sulla professione riguardava la tutela dei dati personali la protezione dei dati personali e tutti gli adempimenti che con i nuovi protocolli e le nuove normative che sono state attuate all'interno delle società sportive per la realizzazione delle attività hanno appunto avuto impatto sulla normativa riguardante la privacy e poi sì c'erano ovviamente molti progetti che sono hanno sono dovuti non dico interrompere ma abbiamo dovuto sospenderli ci hanno chiesto di ricontinuare questo ciclo della della formazione riguardante il covid e lo sport e lo proseguiremo anche nel 2021 e volevo fare riferimento a quello che ha detto Flavia prima che in realtà si verifica anche all'interno del nostro coordinamento e mi piacerà una collaborazione tra i vari coordinamenti anche per l'organizzazione degli eventi perché vista la situazione visto gli impegni di tutti non tutti sono attivi come non tutti hanno anche forse la stessa passione la stessa volontà e siccome ovviamente lo facciamo per passione lo facciamo per volontariato non possiamo obbligare tutti a essere attivi come noi stessi e quindi auspico che possiamo organizzare a questo punto io lancio l'invito a Flavia e mi piacerebbe tantissimo ne abbiamo parlato tempo fa mi piacerebbe realizzare un evento con il suo coordinamento poi comunicazione in servizio l'ho trovato qua sono arrivati adesso due giorni fa da noi nuovi annuari che devo ancora distribuire agli altri soci e sono molto molto belli e ringrazio anche chi si occupa di questa attività perché perché serve serve a noi e serve anche a chi è interessato ad attingere a questo mondo grazie ancora un saluto a tutti grazie a te allora è avvolta dalla luce caldissima le passo subito la parola Stella Frasca ciao ciao intanto volevo salutarvi abbracciarvi telematicamente e spero di poterlo fare fisicamente il prima possibile perché onestamente io di webinar inizio ad averne un po' le scatole piene perché mi manca proprio il contatto fisico e credo che sia anche un po' il modo di pensare della mia regione e del mio coordinamento perché purtroppo anche noi a causa del covid abbiamo organizzato insieme alla commissione di diritto sportivo dell'ordine degli avvocati di Genova un evento il 7 febbraio in occasione della giornata contro il bullismo che è avvenuto benissimo è stato molto seguito e tra l'altro c'erano proprio i responsabili delle scuole calcio delle società professionistiche Liguri quindi un evento estremamente partecipato e avevamo in programma di organizzare degli eventi su tutto il territorio cioè su tutta la Liguria perché noi come coordinamento stiamo crescendo a livello di numeri e siamo molto dislocati sulla nostra regione per cui abbiamo iniziato un percorso per organizzare eventi proprio da Imperia a Spezia in presenza e purtroppo abbiamo dovuto rinviare per ovvie ragioni sperando il prossimo anno di riuscire a recuperare un po' tutto il nostro programma per quanto riguarda il discorso invece volevo fare un piccolo inciso Sere oltre a allenamenti anche qualche aperitivo online ce lo siamo fatto però durante Sfondi è una porta aperta in Friuli non devi chiedere poi ci allacciamo al Veneto anche che non credo siano da meno ci difendiamo bene ci difendiamo bene sì perché quello che io cerco di trasmettere anche ai colleghi del coordinamento della Liguria è proprio la bellezza del rapporto che si è creato nel corso di questi anni con tutti voi e quindi cerco di spronarli anche a partecipare alle commissioni piuttosto che insomma a qualsiasi iniziativa perché secondo me è da un lato assolutamente costruttivo perché avere comunque un confronto continuo sulla normativa che mai quanto adesso è in continuo di venire è importante però è importante anche a livello di rapporti umani è una cosa che io in IAS ho avuto il privilegio di trovare molto più che in altre situazioni per cui da parte mia ci sarà sempre una sponsorizzazione massima della nostra associazione perché sono molto fiera di farne parte e sono molto fiera del rapporto di amicizia che è nato praticamente con ciascuno di voi e che dire collaboriamo come vi dicevo con l'ordine degli avvocati di Genova abbiamo la speranza di ripartire con degli eventi appunto su tutto il territorio per coinvolgere anche un po' il mondo ligure che è effettivamente un mondo chiuso e e niente spero di spero di vedervi presto e spero che anche i nostri soci della Liguria possano partecipare attivamente e di presenza ai nostri eventi una cosa a gennaio noi andiamo per il rinnovo delle cariche io spero di riuscire a organizzare una giornata in presenza perché vorrei che fosse anche l'occasione per distribuire degli annuari che sono arrivati quindi insomma colgo l'occasione perché so che ci sono alcuni soci della Liguria presenti per chiedere proprio un aiuto dopo la metà di gennaio perché purtroppo prima c'è qualche problema elettorale dei comitati regionali della Lega Nazionale di Lettanti però dopo la metà di gennaio insomma stiamo cercando di organizzare una data e speriamo di riuscire a vederci personalmente vi abbraccio tutti e a presto spero grazie grazie mille allora chi ha seguito i lavori precedentemente l'ha visto molto attivo nella chat e lascio la parola a Pier Antonio Rossetti e al coordinamento Lombardia ciao Pier ciao ciao a tutti mi sono sfogato un po' nella chat perché secondo me la riforma dello sport fin quando lo Stato non si mette in testa di metterci qualche aiuto sostanzioso secondo me non parte detto questo anch'io sono contento di trovarvi chiaro non possiamo farlo diversamente e mi è piaciuta l'idea anche se non la definizione di cartello perché mi evoca altri pensieri non del tutto legali insomma però comunque è un termine italiano che può essere utilizzato l'idea di parlerei qui di un'idea di collaborazione di partnership che è quello che noi abbiamo sempre cercato cercato di fare sin dall'inizio e devo dire che effettivamente porta i suoi frutti anche ai nuovi costituiti coordinamenti più giovani suggerisco questo sì va bene la collaborazione interna il nostro rafforzamento tra vari comitati regionali e coordinamento ma soprattutto dobbiamo uscire dobbiamo tessere rapporti con le istituzioni gli stakeholder del territorio dello sport noi abbiamo consolidato il nostro rapporto con Adise con il CONI Lombardia con il CORECOM anche con Regione Lombardia poi avevamo ConfCommercio e poi io e la collega Stella Riberti siamo nella commissione di diritto sportivo del Consiglio dell'Ordine insomma perché è sempre un'occasione di confronto con varie realtà del nostro territorio e con questi enti cosa abbiamo fatto e che cosa faremo prima scorrendo un po' gli eventi che abbiamo fatto un po' con nostalgia penso al 31 gennaio quando abbiamo fatto il nostro solito evento all'interno del calcio mercato l'hotel Sheraton in cui ci ha onorato della presenza Giuseppe Marotta presidente di Adise ed eravamo lì presenti ci siamo confrontati perché non immaginavamo il 31 gennaio quello che poi sarebbe successo da lì abbiamo cominciato ovviamente a fare altri incontri in webinar come tutti e ci siamo occupati dei trasferimenti internazionali dei calciatori organizzati con il professor Colucci con Salvatore Civale con Mario Tenore che è stato molto attivo con l'organizzazione di questo evento e anche di un evento che ha considerato l'impatto del covid a livello nazionale e internazionale è stato veramente molto bello perché abbiamo coinvolto colleghi che lavorano in Sud America nel nel campionato in Inghilterra e anche in Cina stesso Salvatore Civale da ultimo devo dire che come conferma della bontà delle collaborazioni tra coordinamenti regionali e anche coordinamenti a tema abbiamo organizzato questa due giorni sul donne e sport sulla violenza sulla giornata contro la violenza delle donne con il coordinamento Toscana coordinamento Piemonte e la commissione pari opportunità con Priscilla che è intervenuta poco fa e devo dire che questa è una di quelle collaborazioni naturalmente tra coordinamenti e comitati che porta i suoi frutti che cosa faremo? avremmo già dovuto partire quest'anno abbiamo fatto solo uno abbiamo uno spazio su Rai 3 in cui ci vengono dati 4-5 minuti in cui possiamo di volta in volta utilizzare individuare un tema e fare degli interventi a favore dell'associazionismo nel territorio lombardo anche da un punto di vista sociale il nostro motivo il nostro scopo di uscire da anche questo per essere utili anche da un punto di vista sociale in quanto l'anno scorso l'abbiamo fatto quest'anno ovviamente non siamo riusciti a farlo a coltivare anche un progetto di alternanza scuola lavoro in cui abbiamo messo a disposizione alcuni avvocati del nostro del nostro coordinamento per fare una sorta di stage di una settimana di ragazzi del liceo sportivo e infine da ultimo vista la collaborazione stretta che abbiamo con Regione Lombardia e con Core con Lombardia al Comitato regionale per le comunicazioni abbiamo interito a un osservatorio proprio sulla comunicazione sport e minori con questo andremo nelle varie associazioni sportive del territorio e anche nelle scuole a parlare di temi importanti di sport e giovani quale può essere il bullismo e altri temi importanti in cui ci facciamo promotori quindi un'attività diciamo a 360 gradi ma soprattutto basata su un confronto con associazioni con altre diciamo istituzioni e altre associazioni che comunque è sempre costruttivo ci consente di vedere la nostra attività quotidiana sotto diversi punti di vista per migliorare tutti congiuntamente grazie a tutti e anche se è un po' presto come si dice a Milano se non ci vediamo più buon Natale visto che non avremo occasioni di confronti ulteriori soprattutto in presenza grazie grazie allora io salterei al Piemonte a Domenico Filosa darei la parola sempre con preghiera di essere brevi negli interventi sarò brevissimo anche perché appunto il 2020 è stato un anno di transizione per tutti quanti in particolare per la mia regione per il Piemonte anche perché ci stiamo preparando a quello che sarà poi l'anno 2021 sappiamo tutti che Torino sarà la capitale mondiale del sarà la capitale internazionale del tennis con l'evento il grandissimo evento delle ATP Finals fino al 2025 quindi stiamo diciamo abbiamo utilizzato tutte le energie soprattutto nella seconda metà dell'anno per iniziare già a stabilire e a realizzare degli eventi che andranno diciamo ad affiancarsi poi a quelle che saranno quelli di Torino anche perché appunto AIAS dovrà essere presente e soprattutto in quanto diciamo città Torino dal respiro internazionale sportivo quindi città che ha ospitato già le Olimpiadi nel 2006 e quindi faremo anche delle cose relative alle tematiche internazionali di diritto di diritto sportivo legate alle Olimpiadi chiaramente la nostra attività di quest'anno soprattutto nella prima parte è stata legata alla realizzazione di eventi abbiamo realizzato degli eventi in particolare sulle tematiche del GDPR e dello sport perché sostanzialmente le SD ce l'hanno chiesto quindi per fortuna abbiamo creato un diciamo siamo riusciti a ribaltare un po' quello che si fa di solito quindi non siamo noi a pensare a degli argomenti ma abbiamo sentito anche tramite il CONI quello che potrebbe essere più interessante per le SD e per le società inizialmente abbiamo fatto quindi questi due eventi sul GDPR e dello sport che si sono tenuti in un hotel molto molto importante per lo sport per lo sport che montese perché è il luogo dove si è sempre tenuto diciamo si sono tenuti gli incontri di tra virgolette calcio mercato per quanto riguarda il direttantismo e quindi è un luogo simbolico e abbiamo avuto una risposta abbastanza buona devo dire questi eventi sono stati realizzati in collaborazione con l'Accademia del Calcio che è un SD che si occupa di formazione sul territorio piemontese con la quale abbiamo realizzato una convenzione l'anno scorso di cui appunto ho già parlato nella relazione passata cos'altro dire niente alcuni eventi sono stati chiaramente cancellati quindi non non mi dilungo non ne parlo però abbiamo iniziato una collaborazione anche con AIGA con AIGA territoriale per cui l'anno prossimo si verranno recuperati soprattutto su tematiche di doping e tematiche correlate quindi grazie a tutti e buona 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 prosecuzione grazie a te io passerei al coordinamento Guglia e a Lucia le do subito la parola buon poveriggio a tutti intanto ben trovati io mi associo subito agli abbracci di Stella ai saluti a tutti i colleghi che mi hanno preceduto e a quelli che mi succederanno volevo intanto rivolgere i miei complimenti per l'ottima organizzazione della giornata di oggi sempre densa di ottimi e autorevoli contributi grazie a tutto il direttivo e all'infaticabile presidente io devo dire sono molto felice di condividere con voi questa mia prima relazione in qualità di coordinatore questa è la prima assemblea a cui partecipa il coordinamento Puglia che vede peraltro un numero piuttosto importante di partecipanti credo che siamo sulla trentina la delibera di approvazione della costituzione del coordinamento infatti risale al 21 febbraio quando appena qualche giorno prima in pratica che tutto si cristallizzasse nonostante questo nonostante la pandemia noi non abbiamo esitato a portare avanti il programma che ci eravamo prefissati non senza un'indubbia iniziale difficoltà quella che abbiamo affrontato tutti noi cioè convertire la modalità e far sì che questa poi diventasse una consuetudine e anzi devo dire il lato positivo di tutto questo è che consente la partecipazione dei relatori che con modalità offline in realtà sarebbe stato decisamente più difficile avere quindi in data 24 aprile noi abbiamo organizzato un convegno dal titolo lo sport tra i decreti attuativi della legge dellega 86-19 e la pandemia da covid-19 criticità proposte e soluzioni presenti il presidente della lega pro Francesco Girelli la senatrice Daniela Sbrollini il presidente dell'associazione direttori sportivi e segrete e colleguatorie della gestione sportiva dottor Alfonso Morrone e il professor Guido Martinelli che hanno devo dire impreziosito tantissimo l'evento agli inizi di ottobre abbiamo dato vita alla sezione sport della Camera Civile Salentina e insieme ad essa abbiamo organizzato in data il 16 di ottobre un tema della stabilità dei contratti del calciatore professionista inquadramento giuridico e prassi alla presenza devo dire con orgoglio del dottor Morongaro della FIFA dei colleghi Ettore Mazzilli e Andrea Bozza e organizzato quindi appunto con la Camera Civile e consentendo così una disamina sotto un duplice profilo sia sportivo che civile devo dire eventi veramente apprezzatissimi e seguitissimi infine la scorsa settimana si è tenuto l'evento che è stato citato anche prima dal collega Adaminato dal titolo la professione dell'agente svolta dall'avvocato dell'agente sportivo svolta dall'avvocato è stato accreditato presso l'ordine degli avvocati di Bari come ha detto appunto Gian Maria è stato seguito e ha dato diversi spunti di valutazione e di disamina ha visto quindi la partecipazione della mia fantastica vice coordinatrice che saluto con un abbraccio virtuale Emanuele Magistro di due componenti del consiglio dell'ordine di Bari del vice presidente dell'associazione italiana dell'agente sportivi e società di calcio del calciatore di società di calcio l'avvocato Raffaele Rigitano e l'avvocato Oberto Petricca e anche il presidente della IAFA il dottor Cristian Bosco anche questo ha suscitato notevole interesse e ha dato diversi spunti di riflessione come dicevo prima io devo dire sono molto contenta di essere riuscita a coinvolgere oltre come avete sentito la FIFA la Lega Pro e tanti altri rappresentanti del mondo dello sport e del calcio in particolare e il nostro sforzo devo dire è quello sempre di coinvolgere diverse professionalità un po' come stava dicendo prima il collega per Rossetti per un costruttivo confronto e una disamina delle varie tematiche sotto diverse angolazioni e devo dire che sono molto orgogliosa anche di avere come coordinatore una squadra l'ho trovato e poi si sono uniti via via una serie di professionisti e di colleghi che lavora insieme a me con una unità di intenti mossa da valori e principi comuni e ringrazio tutti i componenti nessuno escluso perché tutti nel loro piccolo oppure tanto si sono prodigati e impegnati in quest'anno devo dire anche per noi particolarissimo e poi diciamo siamo neocostituiti quindi lo sforzo è stato ulteriormente gravoso gravoso anche interessante però perché non ci conoscevamo e piano piano abbiamo cominciato a fare squadra l'obiettivo per il prossimo anno è quello sicuramente di implementare ed accrescere la partecipazione di tutti i componenti e invito tutti l'ho già fatto con una newsletter nella comunicazione dell'assemblea ad avanzare proposte ed iniziative che verranno assolutamente prese in esame il prossimo anno sarà altrettanto sfidante e le amiche Flavia Dottorelle Serena Embriani e l'amico Pierrossetti mi hanno in realtà preceduto perché uno dei punti della prossima programmazione è proprio quello della cooperazione con gli altri coordinamenti e sono assolutamente d'accordo che ciò porterà anche delle novità nell'attività dell'AIS in generale peraltro come abbiamo potuto sentire dagli interventi di oggi ci sono tantissime importanti novità legislative e regolamentari che necessiteranno senso a dubbio dell'impegno e della dedizione da parte di tutti noi io spero di vedervi presto come si suol dire in presenza se così non sarà ci rivediamo su queste modalità un abbraccio coloroso veramente a tutti di cuore grazie Lucia io adesso passerei la parola a Filippo Pirisi al coordinamento Sardegna ciao a tutti ehm sì vi mando anch'io un abbraccio anche se insomma per ancora un po' con questa modalità qui eh la situazione del coordinamento Sardegna in questo momento è in divenire nel senso che probabilmente ci sarà anche un cambiamento a livello di direttivo eh sono contento perché nonostante questo 2020 che già abbiamo abbondantemente descritto ehm ci sono comunque stati anche recentemente dei nuovi associati eh il coordinamento ha lavorato con tutti i problemi che conosciamo quindi in modalità ovviamente da remoto diciamo così eh abbiamo fatto un primo webinar in cui hanno partecipato anche Stella e Biscilla e eh ce ne sarà un altro eh per venerdì prossimo in cui proprio abbiamo fatto una scelta anzi ho fatto una scelta di valorizzazione delle professionalità sarde e quindi parteciperanno tre giovani colleghi che si stanno approcciando a questa materia eh dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni condivido perfettamente quanto dicevano Pier e gli altri eh è un qualcosa su cui si dovrebbe si dovrebbe lavorare noi avevamo in cantiere il protocollo di intesa col con i Sardegna ma come ricorderete qualche mese fa è venuto a mancare il presidente e quindi il tutto necessariamente è stato in qualche maniera posticipato eh per quanto riguarda eh le ulteriori collaborazioni insomma io non posso che condividere quello che è stato detto prima di me ma devo dirvi anche che eh in parte secondo me già avviene eh io perlomeno quando mi confronto con eh con voi con altri altri colleghi dell'associazione veramente mi sento a casa e quindi lo scambio è oltre che scientifico ma davvero eh su registri di comunicativi che eh mi permettono di avere un approccio certamente più più sereno più eh di condivisione ma davvero su tutti su tutti gli aspetti è un po' ripeto richiamo quello che diceva anche Stella prima cioè ci si sente ci si sente davvero a casa condividendo soddisfazioni professionali ma anche perché non ho timori o dubbi eh di ogni tipo quindi credo che nella mia poca esperienza ormai il mio coordinamento voi lo sapete è giovane eh ma la strada il solco che si sta tracciando sia sia quello giusto e quindi insomma in bocca al lupo a noi per quello per quello che verrà quindi per il resto non rubo altro tempo a chi a chi seguirà perfetto grazie mille passerei subito la parola a Claudio Claudio parla greco il coordinatore sì saluto io tutti i colleghi alcuni dei quali peraltro ci conosciamo soltanto tramite questa chat che è un'esplosione di messaggi la chat di coordinatori e che un po' ha surrogato in questo periodo più che in altri questa assenza della presenza eh e del contatto diciamo fisico anche espressivo che solo la presenza sa dare il coordinamento Sicilia intanto le novità strutturali si è abbiamo deciso di strutturarci sotto forma di collegialità un po' allargata quindi con la nomina di delegati quindi vengo incontro a uno dei colleghi coordinatori che ne aveva già parlato attraverso la nomina del delegato per la comunicazione il delegato per i rapporti con gli enti locali oltre abbiamo registrato una modifica anche della struttura del coordinamento in senso proprio quindi con la nomina di un nuovo coordinatore l'avvocato Aurelio Maiorana che si è aggiunto all'avvocato Sciortino dicevamo i delegati i nuovi delegati dei cui porto i saluti sono l'avvocato Massimo Rizzo per gli enti locali e l'avvocato Fabrizio Carbone per la comunicazione l'auspicio è di creare sempre una maggiore concertazione proprio per superare quella sorta di pigrizia che si nota normalmente e non solo nell'attività associativa di Aias Sicilia ma la riscontro anche in altre associazioni a tema diverso e cercare appunto di coinvolgere sempre più persone cercare di convogliare le spinte in avanti individuali attraverso una struttura un po' più complessa ma certamente più utile per il servizio che facciamo i soci territoriali dal punto di vista degli eventi siamo riusciti durante il primo lockdown a riproporre un evento abbastanza complesso il laboratorio di ditto calcistico che è alla seconda edizione insieme all'Università di Messina grazie all'aiuto del professore Francesco Rende che mi stavo scordando il nostro delegato per la formazione e che è titolare dell'insegnamento di diritto sportivo appunto all'Università di Messina e che ci coadiu appunto per la parte dottrinaria è un laboratorio che si è articolato in quattro sezioni dedicato ai professionisti con tutte le novità sull'agente sportivo al calciomercato e alle prime implicazioni dei DPCM da Covid-19 sull'attività sportiva che in quel momento erano ancora in nuce la successiva attività purtroppo è stata inevitabilmente minata dalla situazione emergenziale abbiamo potuto organizzare un altro evento recentemente con l'Aiga di Palermo e approfitto anche qui per estendere questa necessità che molti di noi stiamo manifestando di avviare delle collaborazioni con l'associazionismo con gli enti locali proprio per allargare quella che è invece un'attività ancora troppo ristretta almeno in Sicilia all'ambito soci e università altri eventi l'ultimo la partecipazione o comunque il patrocinio nell'ambito della giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità ovviamente per le normali implicazioni che abbiamo noi relativamente al diritto allo sport e questa iniziativa che abbiamo portato avanti abbiamo programmato e siamo riusciti a realizzare grazie all'attività appunto del nostro delegato alla comunicazione con una serie di webinar con cadenza settimanale attraverso un format appunto di un programma realizzato in collaborazione con una web radio USLO web radio che ci consente praticamente di affrontare settimanalmente tutte le novità man mano che vengono coniate tutte le novità normative e giurisprudenziali non mi dilungo oltre vi ringrazio e vi abbraccio virtualmente a tutti anche io sperando che di poter fare un aperitivo con Stella e tutti gli altri prossimamente grazie grazie mille abbiamo sentito citare più volte addirittura qualcuno l'ha definito stupendo lascio la parola a Stefano Gianfaldonia per presentarci l'attività del coordinamento toscano evidentemente era qualcuno mio al di là di tutto io intanto grazie Alessandro per la parola io sono sempre emozionato quando si creano queste occasioni perché sono sempre momenti di arricchimento lo dico anche in questa modalità online che francamente non è che sia che sia il massimo accolgo senza altro le sollecitazioni di Flavia sulla creazione del cartello che spero che sia ovviamente qualcosa di lecito piuttosto che altro senza altro il dialogo è aperto il dialogo è costante penso che sia un po' una costante alla fine Aias l'associazione avvocato dello sport è un grande contenitore che raccoglie tantissime professionalità per me è un onore semplicemente sedermi ascoltarvi così come ho ascoltato gli interventi di altissimo profilo di rilevanza internazionale che poco fa o comunque sia qualche ora fa abbiamo ascoltato tra l'altro è anche interessante come prospettiva la mia perché arrivando come Toscana in coda tutti voi sentire quelle che sono le vostre attività e quelle che sono i propositi diventa anche un parametro in qualche modo di spunto perché non si può altro che imparare dagli altri e credo che possa essere in qualche modo riconducibile comunque il dialogo costante che c'è fra regioni e comunque all'interno del contesto del contenitore IAS dal punto di vista delle iniziative del 2020 noi abbiamo ci siamo buttati su due segmenti principali uno era chiaramente quello di un modello organizzativo e l'altro di un evento diciamo di organizzazione di eventi in senso stretto dal punto di vista organizzativo ci siamo concentrati sulla struttura quindi insieme in collaborazione con i colleghi l'avvocato con il vice coordinatore vicario l'avvocato Maurizio Folli con l'altro vice coordinatore Federico Bottazzoli in qualche modo abbiamo inteso gettare delle basi ancora più importanti infatti il coordinamento toscano è il primo che è stato costituito probabilmente un pochino più avanti ma solo temporalmente rispetto agli altri e in qualche modo ci troviamo un po' a brancolare a volte nel buio esplorando magari dal punto di vista organizzativo alcune criticità e una delle prime risposte è stata quella del comitato consultivo che è una delle facoltà o una delle possibilità di cui ci possiamo valere in base al nostro statuto è stato costituito è stato istituito presso il nostro coordinamento anche perché abbiamo delle personalità di primo livello abbiamo a livello quantomeno di cariche federali abbiamo un vice presidente federale di una delle federazioni principali abbiamo diversi presidenti di comitati regionali che fanno parte sono colleghi che fanno parte del nostro coordinamento abbiamo delegati quindi sicuramente è un'opportunità consultarsi è un'opportunità in qualche modo confrontarsi per cercare poi in qualche modo sia di indirizzare nella giusta maniera ma a volte anche di eseguire e completare nel miglior modo possibile quelle che sono un po' le istanze che arrivano dai soci che a volte si riuniscono in queste riunioni che non sono assemblee regionali sono riunioni di coordinamento e devono in qualche modo servire a dare la possibilità a tutti di dire la propria e dare il proprio contributo nel corso del 2020 anche tramite questo strumento se ne sono ottenute idee tantissime forse anche più del previsto ma sono state utili anche proprio per una questione di partecipazione di adesione di vita associativa in senso stretto per quanto riguarda le relazioni il secondo aspetto sono state le relazioni istituzionali relazioni istituzionali con gli enti locali su base regionale su base locale con le istituzioni sportive siamo ripartiti a quel protocollo CONI con il comitato regionale del CONI che è stato stipulato due o tre anni fa e da lì abbiamo provinciato abbiamo cominciato a declinarlo con le singole federazioni sportive nazionali a cascata il primo protocollo che è stato sottoscritto è stato firmato con la federazione pugilistica italiana con il comitato regionale grazie al lavoro importantissimo di Massimiliano Baldesi del collega Massimiliano Baldesi e poi successivamente il protocollo di intesa con il comitato regionale della FIGC e l'ND grazie al lavoro del collega e socio Jacopo Piccioli quindi diciamo che questo percorso e ce ne sono altri che sono sulla pista di lancio sulla rampa di lancio sono in cantiere e l'idea in qualche modo è proprio di sfruttare questi protocolli i protocolli di intesa per poi radicarsi sempre di più sul territorio per quanto riguarda le iniziative in senso stretto la più grande una delle più grandi soddisfazioni è stata quella di organizzare per la prima volta in Toscana ma un evento è stato assolutamente inedito grazie al lavoro incessante dell'avvocato Gio Di Guetta e dell'avvocato Edoardo Tognoni che in qualche modo abbiamo creato un team specializzato l'evento diritti sugli sci è stato un evento sono stati tre giorni che hanno permesso di facilitare le relazioni con Aiga a Toscana abbiamo portato 40 colleghi abbiamo rilargito anche 10 crediti in un momento formativo assolutamente divertente ci sono stati momenti conviviali momenti informativi specialistici sul tema degli sci che poi paradossalmente sono risultati molto utili anche nell'ottica di quella relazione che abbiamo fatto per il ministero oltre alla vetone c'è stato sport caffè anche in questo caso è stata data la possibilità a tutti i soci di poter dare un piccolo contributo piccole pillole di approfondimento settimanale caricate sul profilo facebook del coordinamento dove ciascun socio poteva dare in qualche modo un piccolo proprio contributo piccolo semplicemente per la limitazione temporale salotto giuridico genitale già detto tutto il collega russo straordinario progetto risultato straordinario aveva ragione il collega l'amico e poi arriviamo a donne sport l'ultimo evento che è stato in qualche modo compulsato grande successo grazie anche agli interventi di grandissimi atleti come Giusefa Idem e come Ariola De Dai grande iniziativa da parte della commissione sport femminile e soprattutto grazie anche alla collaborazione con un altro coordinamento grazie a Pier Antonio e a quello che ha fatto anche sopportandomi oltre a questo e chiudo la collaborazione con l'Università di Firenze anche quest'anno si è rinnovata per il quarto anno terzo anno di fila la collaborazione con l'Università di Firenze e anche quest'anno siamo arrivati a coinvolgere quasi 30 soci dell'associazione nel panel dei relatori l'idea è di consolidare di riuscire sempre più avere un taglio pratico grazie al nostro contributo grazie al contributo dei soci che verranno coinvolti e credo che questo sia un percorso assolutamente importante dico che per il 2021 il nostro ruolo è un ruolo come avvocati quindi tutto sociale un ruolo che dovrà sempre più ulteriormente consolidarsi in questo senso è un momento di grande crisi di contrazione finanziaria e non solo e quindi credo che sicuramente si debba guadagnare uno spazio più importante soprattutto il momento di riforma dello sport riforma epocale dello sport come quella che si preannuncia per il 2021 nella quale probabilmente abbiamo un punto di vista privilegiato e che dobbiamo far valere e che dobbiamo difendere a tutti i costi prego grazie Stefano io passerei adesso al coordinamento Umbria do la parola a Massimo Rolla grazie Alessandro certo parlare dopo Stefano è tanta roba perché ovviamente il coordinamento Toscana è quello in assoluto che ha il merito o il demerito di aver fatto costituire il coordinamento Umbria ricordiamocelo perché è lui che comunque ha iniziato il progetto e ci siamo incontrati in tantissime cose tutti quanti assieme prima di tutto volevo ringraziare ovviamente il presidente Salvatore e Michele e tutto il consiglio direttivo per quanto riguarda noi siamo anche noi neopostituiti perché anche noi ci siamo costituiti come coordinamento Umbria come ben ricorderete il 20 di febbraio di quest'anno però piano 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 comunque abbiamo fatto le nostre piccole cose i nostri piccoli passi e ci siamo strutturati anche noi abbiamo lavorato comunque su tre obiettivi fondamentali il primo era quello ovviamente di fare soci perché per quanto riguarda l'Umbria era diciamo è la prima volta per quanto riguarda un coordinamento di un'associazione italiana potente dello sport e ci siamo riusciti perché bene o male nel nostro piccolo comunque abbiamo portato dentro la nostra associazione la nostra associazione di tutti quanti ben dieci colleghi tra noi e piano piano insomma siamo riusciti a organizzare quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo previsti e prefissi all'inizio dell'anno e il secondo appunto è stato il rapporto con gli enti il rapporto con gli enti che ci ha portato a collaborare con il CONI regionale con la Lega Nazionale Direttante a livello regionale anche a livello nazionale e per quanto riguarda anche la collaborazione questa fondamentale grazie ai miei due vice coordinatori siamo veramente un grande team da questo punto di vista siamo 10 ciocci ma collaboriamo tutti quanti a stretto contatto e grazie a loro comunque siamo riusciti a istruvolare una collaborazione con l'Università di Perugia in principal modo il Dipartimento di Giurisprudenza che ci ha portato appunto il terzo step alla creazione purtroppo di questi webinar nel senso che noi ci eravamo prefissati di fare degli eventi in live dal vivo come tutti quanti per ciò dei convegni però questa nuova modalità comunque ci ha permesso di organizzare i webinar il primo è stato a giugno abbiamo organizzato un evento sulla sostenibilità del calcio in Italia e avevamo appunto tra gli ospiti il dottor Chirelli il presidente della Lega Nazionale dei Direttanti c'era l'allora vice presidente Umberto Calcagno il collega ora presidente dell'associazione italiana calciatori c'era anche Stella che è intervenuta a quell'evento e poi via via abbiamo fatto come anche Alessandro ricorderà perché c'eravate tu Domenico Patrizia Francesca il convegno sugli sports e abbiamo organizzato appunto questa grazie a Francesco che ha proprio voluto questa organizzazione Francesco Cerotto l'organizzazione sugli sports e abbiamo avuto un grande successo un grande feedback da questo punto di vista poi anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di collaborare anche diciamo così tra le virgolette un po' piano piano e sotto banco con quelli che sono i vari coordinamenti prima Claudio Parra Greco parlava dell'organizzazione anche con Aiga Palermo io ho dei contatti con Aiga perché sono anche il segretario della fondazione Aiga Tommaso Cucciarelli e mi avevano chiesto appunto di intervenire in questo webinar e abbiamo appunto organizzato anche con Claudio questo webinar per quanto riguarda il DPCR e il DPCM e gli sport di contatto e grazie anche ad Angela che la giornata particolare Angela Busacca della giornata internazionale di persone con disabilità a cui ovviamente io tengo particolarmente ha coinvolto me e Stefano in un webinar per quanto riguarda quella che è l'attività parolimpica e perciò gli Special Olympics in generale quali sono stati il diciamo il 2020 gli obiettivi noi li abbiamo centrati in pieno cioè quello che volevamo era proprio quello di far partire l'associazione e cercare di farci conoscere non solo dal punto di vista regionale ma anche insomma con voi associazione stessa e perciò dal punto di vista nazionale a proposito del 2021 noi già ce lo abbiamo e lo abbiamo già in cantiere e cioè grazie alla collaborazione che abbiamo instaurato con l'Università di Perugia partirà nel 2021 un corso di specializzazione in diritto comunicazione e mangiamento dello sport e che vedrà tra gli altri anche partner molto importanti come ad esempio la Lega Nazionale dei Dilettanti il CONI ma anche la Barcolana anche ad esempio il Chelsea la squadra di calcio inglese vedrà ovviamente l'Università di Perugia e vedrà anche una squadra di pallavolo di Serie A che è la Sierra Volley Perugia insomma abbiamo tante collaborazioni che abbiamo portato avanti e questo ci permetterà appunto di partire anche con questo scorso di specializzazione e poi più avanti vedremo anche di sviluppare quelle che comunque sono anche altre idee che stiamo portando avanti come coordinamento grazie e spero di essere stato nei tempi assolutamente grazie Massimo quale migliore conclusione diamo la parola a Patrizia Diacci al coordinamento veneto grazie Alessandro questo secondo anno di Aias Veneto il coordinamento infatti si è costituito lo scorso 2019 è un anno che però via noti motivi non ha permesso di realizzare quanto si aveva in programma soprattutto nelle modalità che si desideravano difficoltà che sono già state ampiamente evidenziate anche dai colleghi ci siamo riuniti purtroppo in videoconferenza nel mese di marzo nel pieno della pandemia e in tale occasione abbiamo concordato di attendere l'evolversi della situazione prima di organizzare convegno eventi con diverse modalità ce ne sono stati moltissimi noi abbiamo atteso un attimo nella speranza di fatto di poterli realizzare in un secondo momento di persona questo Sveneto ritiene importante valorizzare nell'organizzazione dei propri eventi e anche la sede la scelta della sede è qualcosa alla quale abbiamo dato sempre particolare attenzione per la realizzazione ottimale dell'evento la giusta sede unita ovviamente al tema scelta dei contenuti e dei relatori ha un impatto a nostro viso notevole sull'evento nel suo compresso e prova ne sono stati gli eventi dello scorso anno uno organizzato presso la Ghirada città dello sport alle porte di Treviso l'evento inaugurale a IAS Veneto dove la Ghirada è proprio lo spazio dedicato nella nostra zona interamente allo sport e ad eventi dedicati alla promozione della pratica sportiva nella nostra zona ed uno invece presso la Lega Nazionale di Lettanti Comitato Regionale Veneto in provincia di Venezia ci dispiaceva particolarmente rinunciare a questo aspetto abbiamo perciò nella prima anno congelato un po' il progetto eventi fino a un nuovo incontro ma molti di noi comunque noi componenti del coordinamento Veneto sono stati comunque coinvolti come relatori in diversi eventi strutturati da altre organizzazioni altri coordinamenti dei colleghi IAS che ringrazio moltissimo e spesso anche patrocinati eventi patrocinati da IAS stesso dando ovviamente il proprio contributo con riferimento ad aspetti giuridici legati al settore sportivo alcuni di noi poi sempre in questa prima parte hanno lavorato lo stanno ancora facendo in diverse commissioni di lavoro IAS commissione agenti ne abbiamo parlato oggi moltissimo commissione e-sports ognuno ovviamente nel suo ramo di competenza e di interesse per approfondire nello studio le problematiche per sviluppare nuovi progetti settoriali in un modo il nostro aiuto qualche stimolo al legislatore evidenziando poi le difficoltà pratiche del settore specifico è certamente una tragedia mondiale ma credo di poter affermare che nel nostro settore è anche un momento di grande stimolo di grande opportunità per approfondire diverse problematiche e quindi nella prima parte dell'anno abbiamo maggiormente lavorato in questo senso congelando un po' i progetti e eventi riuniti poi successivamente nella seconda parte dell'anno sempre purtroppo in videoconferenza e preso atto di portarsi poi della situazione di emergenza abbiamo pensato a qualcosa di alternativo agli eventi online è nata così l'idea mi avviso molto bella di realizzare un nuovo e diverso progetto 2020 che contiamo di terminare con qualche ritardo qualche mese di ritardo entro il mese di gennaio e grazie alla disponibilità di alcuni di noi della commissione che ringrazio davvero pubblicamente dei contributi snelli ma di fatto sostanziosi nei contenuti che fotografano alcuni dei problemi giuridici che questa emergenza covid ha sollevato nel settore sportivo concentrandoci in via principale ma poi anche in altro ma in via principale sugli aspetti contratualistici sul coordinamento tra la normativa nazionale emergenziale e statuizioni federali e sull'applicazione pratica dei protocolli adottati dalle singole federazioni il tutto stiamo cercando in differenti discipline sportive ne abbiamo ovviamente scelto alcune in base al settore di competenza che ciascuno di noi ha avuto modo di approfondire nella pratica con casi sia a livello nazionale che internazionale sarà un unico report ma con singoli contributi potiamo di terminarlo a breve speriamo entro la fine di gennaio e dunque colgo davvero l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che poi ovviamente saranno menzionati nel report con cui insieme stiamo realizzando questo bellissimo lavoro per il 2020 dobbiamo certamente lavorare insieme con i componenti del coordinamento sulla struttura e un po' sull'organizzazione interna del coordinamento che è un coordinamento che comunque è nato dicevo prima da poco l'anno scorso speriamo poi di poter realizzare i convegni che erano in programma quest'anno le idee ci sono moltissime ci sono moltissimi argomenti su cui poterci confrontare sono sempre di più dicevo prima questa pandemia ha creato l'opportunità di riflessioni opportunità veramente senza precedenti dunque speriamo presto di realizzare alcuni eventi in programma nelle opportune sedi e augurandoci anche di poter approfittare che il nostro territorio offre sia dal punto di vista degli eventi che il Veneto ospiterà nei prossimi anni faccio riferimento ad esempio ai campionati mondiali di sci alpino 2021 in programma in programma Numento a Cortina le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 che anche poi cercare di approfittare appunto delle significative sedi esistenti nella nostra zona mi concludo mi auguro davvero che la situazione migliori più presto in primis per la salute credo di tutti noi per ritrovare il sorriso e poi per poterci incontrare nuovamente tutti di persona ed assistere ad eventi che come quello organizzato da IASOGI ai quali faccio davvero tanti complimenti rappresentano sempre una grande opportunità di crescita per tutti sia dal punto di vista professionale ma anche personale soprattutto ovviamente se svolti in presenza ringrazio ringrazio i componenti del coordinamento AIAS Veneto a tutti i colleghi che lavorano con e per l'associazione e lascio a voi la parola speriamo di vederci bene grazie mille allora siamo arrivati alla fine dei lavori io però prima di chiudere chiederei eccolo a Salvatore una piccola chiosa finale un saluto grazie mille Alessandro e grazie per aver condotto abilmente questa lunga fase di webinar assemblea la partecipazione dei vari coordinatori è stata una lunga giornata abbiamo iniziato alle 11 e mezza sono quasi le 18 però credo che sia stato molto interessante e ringrazio davvero di cuore tutti i partecipanti a casa a breve tutti i coordinatori regionali riceveranno il nostro annuario un po' di copia del nostro annuario da distribuire ai soci avrei voluto inviare a tutti voi il panettone una bottiglia di prosecco però accontentatevi dell'annuario che potrebbe essere regalo per i nostri soci per queste imminenti festività tra l'altro lancio pure un appuntamento abbiamo questa piattaforma per rafforzare un po' un momento di socialità visto che pare che il 24 il 25 il 26 si è bloccati in casa anche se poi forse si consentirà leggevo ieri un spostamento da un comune all'altro quanto meno dai comuni limitropi potremmo organizzare una una mezz'oretta su zoom per scambiarci gli auguri in presenza quanto meno telematica magari potremmo individuare una data sicuramente proveremo ad organizzare un altro webinar entro le prime due settimane di gennaio per fare un po' un punto di associazione sui ulteriori sviluppi dei temi che abbiamo trattato anche oggi oppure affrontare un altro tema ora rifletteremo all'interno del consiglio direttivo il segretario generale sorride perché sa che la scadenza di questo appuntamento per il 10 gennaio c'è perché abbiamo sottoscritto un abbonamento zoom che è valido un mese per consentire un'ampia partecipazione dei soci e quindi sicuramente entro la scadenza sfrutteremo l'occasione e faremo un altro evento io vi saluto calorosamente e ancora una volta rinnovo la mia disponibilità nei confronti di tutti voi che è quella del consiglio direttivo un saluto particolare a Pier Rossetti che con quel babbo Natale che sbuga lì dal luogo è sempre avanti io devo dire che ho copiato una sua diciamo predisposizione della della sala in occasione di un evento posizionando il roll up Aias alle mie spalle e lui oggi ci ha sorpreso di nuovo con un segno distintivo natalizio che sicuramente ci ha un buon auguro per le mie estime complimenti a tutti e siete tutti bellissimi ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti